Grazie. 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 Due parole di apertura. Sarò breve perché appunto la giornata è un programma molto fitto. Due, tre punti essenziali. Il primo è dirvi che siamo veramente felicissimi di avervi qui, in questa occasione che forse è unica nel suo genere, nella storia della scuola per traduttori e interpreti. Abbiamo voluto incentrare questa giornata sui nostri laureati e laureate e creare un'occasione per trovarsi o ritrovarsi tra diverse generazioni di studenti, di docenti. Penso che sarà veramente una giornata intensa di scambio, di contatti. Il secondo punto è quello dei ringraziamenti. Voglio iniziare da qui, anche se di solito è una cosa che si fa alla fine, ma preferisco dare il rilievo alle persone che ci hanno aiutato ad organizzare questa giornata, partendo proprio dall'Ateneo, dal magnifico rettore che ci ha messo a disposizione questa, che è l'aula magna più importante, più rappresentativa dell'Ateneo. Ringrazio la fondazione Kathleen Forman-Casali per averci cofinanziato. Ringrazio la nostra segretaria amministrativa Gaia Tomassini, senza il cui aiuto nulla di questo sarebbe stato possibile. Nicola Valdevit, che è sempre una sicurezza sul piano informatico. La dottoressa Francesca Cogli, che ci ha aiutato a creare il sito dedicato alla giornata. La signora Giuric-Picca, che ha curato la comunicazione sui social. E poi, naturalmente, tanti altri uffici, l'ufficio prenotazione Aule, lo staff del centenario della comunicazione. Grazie a tutti, grazie a Simonetta Pasqualis, che adesso non vedo, per aver seguito con la solita competenza tutta una serie di pratiche burocratiche, complesse, ma ahimè necessarie. Un grande grazie agli studenti e alle studentesse volontari, da qualche parte mi pare di aver letto più o meno volontari, però ci stanno dando una grande mano, quindi un grazie sincero. E ancora grazie ai relatori, che hanno accettato l'invito, ricavando del tempo in un periodo come questa metà di dicembre, che è tipicamente già molto denso di impegni. E grazie ancora ai colleghi e alle colleghe del gruppo, del comitato organizzatore, per tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme. Adesso vorrei dare la parola per un saluto a quella che è senza dubbio la decana dell'Aula, la professoressa Lidia Meach, che molti di voi hanno avuto come docente. Lidia Meach, posso dirlo? Ha segnato l'inizio della storia, della Slimit. Lidia, avevamo anche... Sono molto emozionata e anche lusingata di questo onore, giustificato dalla mia veneranda età, che fa sì che credo di essere uno dei pochi sopravvissuti, ancora in piedi, in condizioni vagamente di ragionare, che ha visto e partecipato alla nascita di questa scuola. Io avevo finito il liceo e non sapevo bene cosa avrei fatto da grande. Avevo veletta artistica, avevo fatto dei corsi di disegno e di pittura a Milano, e poi, tornando a Trieste, leggo sul piccolo, un giorno, l'annuncio della fondazione di questa scuola, su iniziativa del professor Pierpaolo Luzzatto-Feghiz, che era stato a Ginevra, aveva visto, parlato con Jean Herbert, che era professore alla Scuola d'Interprete di Ginevra, e aveva avuto appunto questa idea di istituire anche a Trieste una scuola d'interprete. Era sotto la Facoltà di Economia e Commercio, di cui il professore era preside. E allora mi sono detta che vada a migliorare il mio francese, che possedevo abbastanza bene, e mi sono iscritta. Quindi dalla prima ora, le prime iscrizioni. Gli studenti erano di varie età, perché avevano raccolto praticamente tutti quelli che avevano conoscenze linguistiche a quell'epoca, quindi eravamo di tutta l'età. Dovete pensare che a quell'epoca a Trieste c'era ancora il governo militare alleato, quindi c'erano parecchi ex funzionari o ancora impiegati degli inglesi e americani che parlavano bene l'inglese, quindi la sezione inglese era molto ben frequentata. Le lingue erano francese, inglese e tedesco. E abbiamo cominciato. Si facevano le lezioni qui, in questa sede, e gli esami si facevano in aula veneziana, quindi era tutto abbastanza solenne. Ebbene, vi dirò che mi sono stata travolta dalla novità di questi insegnamenti. Mi si è aperto un mondo davanti, perché era tutto diverso dalle cose di scuola. Si approfondiva la lingua, ma lo spirito della lingua, poi facevamo naturalmente anche tecnica di interpretazione che ci veniva propinata da illustri interpreti professionisti di fama internazionale tipo Jean Herbert, Gérard Hilg, Silvia Closs e tanti altri che venivano e tenevano dei seminari. E questa era la nostra maturazione tecnica del mestiere. E per tutto il resto delle lingue c'erano professori. Professori molto noti a Trieste, potrei citarne, ma insomma, non voglio citare perché ho paura di dimenticarne qualcuno, però abbiamo avuto degli insegnanti fantastici. Dovete pensare che a quell'epoca insegnava qui all'università, ancora, Stanislao Joyce, il fratello di James Joyce. Questo tanto per dirvi che livello c'era di conoscenza delle lingue e di interesse soprattutto delle lingue. Bene, sono passati i soliti tre anni e abbiamo fatto questo esame finale preseduto sempre dal professor Jean Herbert e io ho fatto parte del primo nucleo di diplomatica uscito da questa scuola. Dopodiché ho cominciato a lavorare in giro per l'Italia, quindi ho fatto la mia strada come tutti i miei colleghi e quando sono tornata a Trieste dopo un'esperienza di sette, otto anni a Bari presso la facoltà di agronomia di quella città dove si facevano dei corsi internazionali di agronomia. Era una zona di riforme, quindi era molto interessante quell'epoca. Poi sono tornata a Trieste e per interesse del professor Consoli che insegnava francese qui in questa scuola mi è stato proposto di insegnare interpretazione. Ero felice perché tutta la mia esperienza volevo riversarla ai miei studenti, quindi sono stata anche stavolta la prima interprete professionista con un ruolo fisso a questa università. Subito dopo sono subentrate Laura Gran, Giuliana Lipitzer e tutti gli altri piano piano. Ecco, sono passati gli anni e poi sapete i cambiamenti che ci sono stati, la scuola di lingue moderne è diventata facoltà, abbiamo vissuto anni molto difficili con direttori trionvoiati, ma questo li trovate ben illustrati nei disegni di un anonimo che figuravano regolarmente nella bacheca della facoltà. Finiti quegli anni, insomma, la scuola è stata trasformata in vera e propria facoltà e i docenti hanno dovuto regolarizzare le loro posizioni e abbiamo dovuto affrontare dei concorsi, non alla leggera, devo dire, concorsi a Roma, con commissioni in due o tre lingue e quindi con una certa apprezzione, soprattutto che non eravamo proprio dei studentelli giovani. Ecco, dopodiché, superato anche questo, sono diventata professore associato con tutti i doveri e gli oneri e i vantaggi di questa posizione. E ho insegnato, prima a tempo limitato, poi a tempo pieno, in questa università. Nel 2000, credo, sono andata in pensione, felicemente. e quello che voglio dire è che questi insegnamenti che ci sono stati dati dai grandi interpreti non sono stati soltanto nozioni tecniche o proprio ferri del mestiere, ma ci hanno insegnato l'etica professionale, ci hanno insegnato come bisogna affrontare le lingue, come bisogna conoscere lo spirito di ogni lingua straniera e degli stranieri in generale e usare nella nostra professione, nel nostro, diciamo, lavoro, non solo conoscenza, ma anche intuizione, intelligenza, ovviamente, e anche un pizzico di fantasia, certe volte, in modo da non lasciarsi prendere dal panico, cosa che succede, tutti gli interpreti sanno bene che si passano dei momenti abbastanza duri, certe volte. Bisogna anche lì imparare a venirne fuori dignitosamente. Questi insegnamenti ci sono rimasti, credo, dentro per la vita, per la nostra vita e credo che costituiscano una specie di marchio di fabbrica per gli allievi di questa scuola. E il legame che rimane tra di noi, il legame che io ho conservato per questa scuola, per i miei colleghi, le mie colleghe, gli ex studenti, credo che sia una cosa che rimane anche tra tutti quelli che l'hanno frequentata. E io spero che i nuovi allievi più giovani forse meno romantici dei ricordi che possono avere io sentano e conservino questo spirito di amicizia fra loro, di solidarietà perché la vita la vita ci disperde però avere queste basi è molto bello vi assicuro e aiuta molto. Tra i nostri lievi tanti hanno avuto carriere formidabili, sono diventati personaggi importanti, siamo tutti molto fieri di questo e quando dicono ho frequentato la scuola di Trieste siamo molto contenti io vi auguro di riuscire sempre legati sia alla scuola sia ai colleghi e sia a questa città che ne ha vissute tante e che stenta sempre a venirne fuori ma insomma con l'aiuto della gioventù sana brava intelligente riuscirà sempre grazie 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 ancora Lidia di cuore chiamo qui collega Giuseppe Palumbo ad aprire la prima sessione buongiorno benvenuti a tutti ben ritrovati alcuni di voi io non li conosco piacere di conoscervi io sono una persona che hanno organizzato questo evento devo assolutamente ringraziare una persona che non è stata nominata prima da Marella Katia Peruzzo che faceva parte a tutti gli effetti del comitato organizzatore di questa iniziativa e che va assolutamente citata per tutte le cose che non sono andate che non andranno io sono il responsabile liberamente la responsabilità di tutti gli errori di tutto quello che non funziona in questa iniziativa vorrei dire due parole sulla mia esperienza triestina e mi fa piacere che la professoressa me abbia citato la parola legame perché noterete in quel poco che ho da dire che si tratta di una parola chiave prima di farlo due annotazioni di carattere organizzativo la prima è che riguarda il fatto che tutti avete ricevuto una cartellina all'interno di quelle che in italiano moderno chiamiamo shopper arancioni e in questa cartellina tra le altre cose c'è una locandina con il programma della giornata e con brevi cenni storici brevissimi cenni storici con alcune date salienti che riguardano il percorso di 70 anni della scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori che oggi si chiama in realtà sezione di studi di lingue moderne per interpreti e traduttori e fa parte del dipartimento di scienze giuridiche del linguaggio dell'interpretazione della traduzione dentro questa cartellina oltre alla locandina c'è una riproduzione che abbiamo fatto fare per l'occasione della sede di via Filzi in copie numerate che nessuno ancora ha mai visto e che voi ricevete per la prima volta abbiamo creato per l'occasione questa riproduzione della sede di via Filzi per chi fosse ancora più nostalgico nella locandina di cui parlavamo prima c'è anche una foto della sede di via Dalviano che molti di voi conosceranno a me sono care entrambe perché io ho studiato in via Dalviano e mi sono soltanto laureato nella sede di via Filzi appena inaugurata un'altra cosa che tenevo a dirvi è che questa giornata rientra nell'ambito di celebrazioni del centenario dell'Ateneo c'è un sito dedicato ai cent'anni dell'Ateneo di Trieste una pagina di questo sito raccoglie fotografie e brevi profili biografici di alcuni protagonisti dei cent'anni di Ateneo e in questa pagina ci sono persone che conosciamo e che ahimè non sono più con noi ad esempio Carmen Montero ricordata qui faccio scorrere velocemente queste sono figure che hanno caratterizzato la storia dell'intero Ateneo ci soffermiamo su quelle a noi più vicine Raimard Klein c'è anche il professor Luzzatto Fechitz di cui si è parlato e che è stato un po' l'origine di tutto l'iniziatore di tutto ancora c'è Maria Cristina Palazzi e c'è Francesco Straniero Sergio ecco ci tenevo a farvi sapere che queste persone sono adeguatamente commemorate nell'ambito del sito del centenario di Ateneo ecco adesso ho finito con queste informazioni di carattere più logistico organizzativo anche se l'ultima non lo era l'idea adesso è di dirvi due parole sulla mia esperienza lasciare poi la parola ai successivi relatori io di solito quando vado al convegno eccetera non mi preparo mai un testo scritto oggi sono di un nervoso tale che l'ho fatto scusatemi allora mi sembra sempre che il linguaggio venga usato in modo approssimativo casuale sbadato e ne provo un fastidio intollerabile queste non sono parole mie sono parole di Italo Calvino che ho letto di recente e che mi hanno ricordato però quando e perché ho deciso di dedicarmi alla traduzione è successo quando da studente di scuola superiore mi sono accorto che mi infastidivano le traduzioni approssimative quelle delle versioni di latino per capirci le traduzioni approssimative fatte male e che volevo provare a capire perché fossero fatte male e come le si poteva migliorare Calvino proseguiva non si creda che a questa mia reazione di fastidio corrisponda a una intolleranza per il prossimo il fastidio maggiore lo provo sentendo parlare me stesso ecco ancora oggi io mi sento a disagio se non riesco a tradurre qualcosa come credo debba essere fatto non ci dormo io la notte e se non riesco a spiegare a qualcuno i nostri studenti come e perché una cosa si può o si deve tradurre o esprimere in un certo modo anziché un altro io oggi faccio poco il traduttore presumo di insegnare la traduzione spero di farlo minimamente bene però mi chiedo sempre cosa significa insegnare e studiare la traduzione e più in generale cosa significa insegnare e studiare la comunicazione interlinguistica nelle sue varie forme io sono sempre molto ambizioso e ho manie di grandezza si può trovare un'idea o una prospettiva che abbracci la gamma estesissima di situazioni e di fattori che rientrano nelle operazioni di trasferimento linguistico quando ero più giovane anagraficamente e accademicamente mi era venuto il ghiribizzo di provare a fare una classificazione di tutti i fattori che intervengono ispirandola guidandola condizionandola nella pratica del tradurre in altre parole sognavo di tracciare una mappa di tutti gli aspetti che vincolano e ispirano e guidano l'attività dei traduttori aspetti che proprio nel momento in cui pongono un vincolo disegnano tuttavia anche uno spazio di libertà per il traduttore chiunque si occupi di creatività sa che in realtà la creatività ha dei vincoli e che siamo creativi nell'ambito di vincoli questo vale molto secondo me anche per la traduzione quest'idea mi sono accorto richiama un altro tentativo di rispondere alla domanda cosa studiamo quando studiamo il tradurre oppure cosa insegniamo quando insegniamo a tradurre è un'idea proposta da uno studioso il cui nome a molti di voi professionisti praticoni forse dirà poco e che però è un punto di riferimento in quelli che poi sono diventati i translation studies sempre in italiano moderno sto parlando di Andrew Chesterman questo è il nome dello studioso il quale ha secondo me convincentemente fatto osservare che chiunque studi la traduzione in realtà sta osservando o analizzando un qualche tipo di legame o di rapporto il rapporto tra due lingue questo è il legame più ovvio al quale che osserviamo analizziamo ma anche il rapporto tra chi traduce e chi legge tra chi traduce e gli scopi per cui lo fa tra chi traduce e le tecnologie e i mezzi che utilizza e così via l'oggetto dello studio sta sempre lì in mezzo è un legame è un rapporto e noi quello andiamo ad analizzare e proviamo a insegnare scusate la nota emozionale io tutte queste cose le ho prese dai libri ma non ne avrei tratto i frutti che ne ho tratto se non fosse stato per un gruppo di persone che me le ha insegnate molte delle quali sono in quest'aula quelle persone hanno agito per me da vincoli iniziali mi scuso che non le cito tutte mi riferisco a persone come Chris Taylor John Dodds Clyde Snelling Marcello Marinucci Franco Crevatin Mark Brady Katie Snell Gerald Moore David Catan Gerald Parks Federica Scarpa Lorenza Rega Jane Kellett Marella Magris e tante altre che non ho citato se io so fare minimamente quello che so fare lo devo davvero tutti loro e sono sicuro che molte delle persone presenti in sala oggi potrebbero dire lo stesso di questo stesso gruppo di persone e di tante altre che non ho citato come diceva Lidia Meach frequentare la scuola interpreti ci ha segnato ha creato un legame che diventa indelebile oggi siamo qui per celebrare il lunghissimo percorso della SSLMIT da un lato ricordando chi ci ha lavorato come docente ma anche dall'altro lato ascoltando chi ci ha studiato per farci raccontare che benefici ha tratto dal percorso formativo e anche per farci suggerire come questo percorso può deve essere aggiornato e migliorato va da sé che se dobbiamo condensare in una giornata pur lunga un percorso di 70 anni finiremo per dimenticare nomi e storie che alcuni di noi hanno particolarmente a cuore da questo punto di vista spero che possiamo considerare la giornata di oggi non come il culmine delle celebrazioni ma come il loro avvio di queste celebrazioni e ora do la parola a un'altra persona alla quale personalmente e professionalmente devo tantissimo non l'ho citata nell'elenco di nomi fatti prima ma in quell'elenco she features prominently Maria Teresa Musacchio grazie buongiorno a tutti e ben arrivati io ringrazio Giuseppe per questa introduzione e voglio riprendere un po' quello che lui diceva a proposito del debito che noi tanti di noi hanno sicuramente contratto con quelli che sono stati maestri e per noi anche in tanti casi colleghi in questo in questo anno però oggi è veramente una festa dei laureati della scuola interpreti più che di chi diciamo lavora o ha lavorato nella scuola interpreti quindi io vorrei un po' soffermarmi un attimo su questa su chi sono queste queste persone perché sicuramente abbiamo ricevuto credo tutti dalla scuola ma anche i laureati hanno poi dato alla scuola e in questo in questo contesto io mi sono mi sono chiesta cos'è questa unicità della scuola che fa sì che questi laureati nel mondo nel mondo del lavoro perseguono delle carriere che sono le carriere per le quali sono preparati da questo da questa scuola quindi l'interpretazione la traduzione ma a volte facciano anche altre carriere altrettanto brillanti altrettanto di successo come si come si ama come si ama dire dire oggi e quindi veramente mi è venuto a pensare che la scuola è stata negli anni un laboratorio unico un'esperienza unica nell'insegnamento e nell'apprendimento delle lingue se pensiamo che è iniziata in un periodo in cui nelle lingue si usciva da questo da una concezione dell'insegnamento come metodo di grammatica e traduzione e dove la traduzione aveva un un ruolo diciamo molto più ristretto e di cui parlava anche Giuseppe un attimo fa rispetto a quello che è poi nella realtà nella 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 professione e di che cosa fanno poi questi laureati ci parlerà molto meglio di me e con dati alla mano David Catan tra tra un po' e quindi la mia risposta sulla questione di perché poi in fondo la scuola prepari anche per in un certo senso per tante per tante carriere diverse è una risposta da è una risposta da allieva e non una risposta da e non una risposta da da studioso ma credo che al di là di queste diverse esperienze di apprendimento delle lingue e in questo delle relative culture dell'interpretazione e della traduzione in questi corsi che si chiamerebbero in inglese vocational per i quali io non ho una versione italiana e che sono quindi dei corsi che preparano a una determinata professione esattamente come per esempio l'ingegneria e permettetemi di dire con uguale complessità perché corsi come l'ingegneria vengono tradizionalmente considerati difficili ma la difficoltà la complessità è di vari corsi sicuramente nel percorso di interpretazione e traduzione ed è proprio questo credo che il affrontare il dover affrontare la complessità e quindi essere in qualche modo allenati anche ad essere ad essere flessibili sia un elemento un elemento importante di questa di questa formazione e che riuscire a gestire questa complessità che è tipica delle società moderne ma che è inevitabile in chiunque in chiunque lavori nelle professioni nelle professioni delle lingue e nelle sue e nelle varie forme cercare di catturare questa complessità significa che forse al di là di tutte quelle che sono le competenze professionali c'è in fondo la la ricerca di un di trovare un un metodo a prescindere da quello che da quello che si fa e che questo questo metodo poi possa essere declinato in tante forme diverse in tanti in tante attività lavorative e non e non della della vita e a questo mi riallaccio anche a quello che diceva la professoressa Lidia Meack citando un anonimo che ci intratterrà oggi pomeriggio il primo giorno di il primo giorno di scuola interpreti c'era questo studente che era più vicino sicuramente più vicino di me alla laurea che ero alla matricola e mi disse come un po' di come un pizzico di pazzia ce la si può fare e credo che questa sia sicuramente anche un elemento che che ci accomuna che ci accomuna tutti e adesso vi vorrei introdurre brevemente David Catan che insomma per noi è di è di casa ha insegnato per vent'anni alla scuola Trieste per poi diventare professore ordinario presso l'università del Salento e si interessa principalmente di interculturalità heritage tourism e transcreation e lo status del traduttore di cui ci parlerà a breve tra le sue pubblicazioni figurano per la casa editrice Routledge il famoso volume Translating Culture che oggi è la sua terza edizione e capitoli delle enciclopedie Translation Translation and Conflict Translation and Globalization ha pubblicato anche contributi nell'enciclopedia Applied Linguistics per Wiley Blackwell e ha contribuito ai due volumi di Handbook of Translation Studies di Benjamins cura la rivista Cultus the Journal for Intercultural Mediation and Communication e da visiting researcher presso l'Università of South Africa e lascio la parola a David Mamma mia stranissimo stare qui davanti a voi questa mattina mi sento very nervous very nervous l'ultima volta che ero qui I've been told I must speak in English qui comincerò a parlare in inglese se c'è un problema ci sono tanti interpreti fra poco se non c'è Jane Kellett qui davanti che sicuramente per un modest fee condurrà l'interpretazione consecutive consecutive benissimo detto questo volevo io volevo parlare del passato e Giuseppe mi ha detto no parliamo noi bene del passato ma vedendo i slide di questa mattina sentendo Lydia questa mattina mi è venuta da piangere veramente bellissimo vedervi qua vedere anche Francesco e Cristina persone che non sono più con noi wow è un momento veramente bellissimo poi 15 minuti fa chiedo un addetto l'ufficio qui quelli qui che sanno tutto e chiedo ma il bagno dove si trova e lei mi guarda e dice prima di darmi l'informazione che a me serviva ma lei mi ha fatto il dettato nel 1993 il dettato dell'esame di ammissione qui tutti in qualche modo siamo imparizzati so thinking about the future probably not my I feel a little fish out of water but Giuseppe asked me to talk about the future so I'm not going to talk about the future I'm going to ask GTP our artificial intelligence friend come ci ha un little passato and I asked GTP dear free instant and rather good chat GTP could you please translate article 37 University of Trieste l'Istituto di lingua moderna and chat GTP is very good it's better than Google translate it's better than Deep L this is the reply certainly the translation of article 37 of the University of Trieste statute 1954 is as follows the institute of modern languages aims to prepare students for the secure and full knowledge of modern languages and may establish special courses for the training of translators and interpreters and correspondents see capisce it's clear it's good enough so the question is the future and courses for translators for interpreters and correspondents um correspondenti clear as a bell and that of course is the problem with chat GTP and with all artificial intelligence so all is not lost better future courses our good friend 3CPO is fluent in over 6 million forms of communication so this is the future or not so for 70 years we have increased education in translation training and my very good friend colleague Federica Scarpa who secondo me dovrebbe essere qui a parlare talks in her excellent book research and professional practice in specialized translation anno 2020 about the problem status so here we are we love translation we love interpreting but for 70 years we have had a problem of image we have had a problem of status but we continue can we continue that's the question I will look at so the problem of voluntary servitude of being at the end of a chain is a problem is one of the problems it's two of the problems so fairly low status of the translator this is something I was looking at so I did two surveys and as Giuseppe said maybe some of you replied to one of the surveys a thousand people replied a good number and those who replied were serious in terms of this works you can see equal source see okay so basically most of those who replied had training in translation and interpreting a number in languages few in arts but mainly in translation interpreting so mainly serious translators serious interpreters and also mainly freelance and also mainly very happy and enjoyed the profession but the status MA translation graduate five years experience in business and medicine it takes a lot of hard work study linguistic competence and experience to work as a translator unfortunately the profession does not get the recognition it deserves and does not get the social status so what is the status the perception of the status high managerial middle technical low secretarial translator and interpreter here is the beginning of a divide yes the interpreters good status happy interpreters translators high not many middling many low also very many not a great perception and if you think about the public perception and ask google images google images show me the interpreter there's the interpreter google images show me the translator exactly so how do we test in reality status diobes as they say in friulano money is a quick and dirty way of testing status how much money I earn more money I earn more status less money less status so I asked in the survey how much money do you earn an impossible question it's difficult if you're freelance to know how much it's also difficult to know how much in comparison with others across countries is impossible but I asked the question do you earn or would you earn if translation or interpretation was your full time job would you earn two to five times the national average would you earn up to twice would you earn the average would you earn below average would you earn base level shelf filler in standard or cohen or places like that hairdresser hairdresser probably are paid quite well actually but to get an idea a perception what type of earning do you think you would get very surprising first of all 30% no answer I prefer not to answer the question 30% 81 comments half the comments I don't know difficult to judge it depends I can't give you the answer how much I earn then of the other comments most this is too depressing I don't want to know I just know I would earn really more in another job and I could but I'd never change my life for another one because I love literature and my freedom and Chris Durban who is a name I will show later well known has written much on the profession of translation from the market point of view talks about this nobility and purity in our refusal to talk money and accept our lot with dignity and I'm reminded of a colleague who is sitting in close to the front row many years ago sitting in Via Filzi and she went for a job interview I think it was London for a professorship and she came back and I said so how much did they offer how much are you going to earn and she said ma io sono una signora non parliamo di queste cose interesting and you get these points and we actually get back to the hairdresser if you're freelance professional you always face the problem of feeling inconvenient for asking the amount of money that is reasonable for your job it seems too much but then if you remind them about the prices of a hairdresser the hairdresser important that you made more efforts studied harder and longer than the people in the beauty profession well it's embarrassing talking about pay but hiding in plain sight the fact that very few earn pochissimo base level 4% rather less than the national average only 5% a little less maybe 10% the majority earn a lot more average 28% but most of them are earning up to twice and even two to five times good money it's a good profession it's well paid and so you have this disconnect so what I thought maybe I should look at those who do earn a lot of money what do they say what do they do what makes them different this translator plus many of you are here today I'm sure and you know what you do and they are the people here who have this feeling of yes translation is a high status and I am part of that high status so if you look at the comments again you find I used to work more hours but I increased my rates and I cut back my hours recently it was the best thing I ever did I prefer to work smarter not harder and I'm sure many people are here today are going yes if that's not the case have a look at what people who do work smarter what do they do and I so I looked for these people looking for the translator plus and it was 2021 the issue came out I interviewed three of these people had articles from another four or five of people who felt they were high status they were doing very well first of all increasing your capital there can be symbolic capital visibility making a reputation you become a co-author how do you do that you build a brand you write books you have interviews you write blog pages you are visible socially not visible in the text but you're visible to other people you go out clearly you need cultural capital so the school integrity teaches you you learn your languages the mastery of the craft you need that you may have accreditation but then there's personal knowledge outside translation which is very important then there is social networking relationships being with other people then and this is the important the traits and your personality and the emotional intelligence so I want to focus on that which I think is important for training for the future so for the symbolic here we have Rose Newell prolific blog writer and translator has as you can see at least two different blog pages I'm Rose Newell aka at Rose wrote this I'm a copywriter translator geek freethinker instagru guru slayer what is do we have an interpreter into English no welcome to my blog for freelance translators enjoy what I noticed is many of these translators plus are very generous with their time to tell others how to do and for the journal they were willing to be interviewed took time to write articles generous with their time David Gemalaiti I interviewed him here he is giving his time translating for Europe conference 2019 keynote speaker high status translator here we have the most well known and this is Neil Innes who back in 1996 talked about the poverty cult and this poverty cult of the translator is a meme that is still with us and he is still writing talking giving conferences about this here we have Chris Durban the book the prosperous translator a different look at translators a different feel of the profession then on to the social capital the social relationships and networks and this is very important very important the idea of engagers and being members of TI groups translations and interpreting groups here the general idea translators are lonely and work hard interpreters work are always varied obviously interpreters must meet people translators can sit in a back office and never meet anybody it's often a very low paid lonely unappreciated job but what joy when the translation comes out right we're not meeting people we're not out there so to get out there may become a member of an institution for translating and interpreting networking the networking groups the networking the Italian association of translators and interpreters each country has its national each region has its regional apart from the global interestingly what happened was that if those who said they were members of a group look at them they earn more money there is something in the act of being out there and working with cooperating with discussing with being part of a bigger group is one that empowers and gives better status and better pay then I asked a series of questions for the work you actually do actually in realta how important is it to prioritise tasks work under pressure handle multiple projects operate self general problems in the work and then work well in a team you can imagine that translators working well in a team is not very important and in fact teamwork requirement as you can see is very very limited but those who work in a team so I think I've skipped a slide ok I've skipped it those who work in a team as you can see work and get better paid there is more kudos more status and more money working not lonely not on your own but working in a team and more translators clearly are working more in a team anyway but the more this is part of the daily work is part of the way that the status also increases but even more interesting for the work you actually do does it also involve discussing with the client audience and needs writing presenting modifying options for clients brainstorming ideas with others in the process hardly ever the pure translator thank you this is the translation I hand the translation back you don't like the translation hand it back no discussion no options no brainstorming I take the translation I do it so the pure translation translate I call them pure pure translators hardly ever the translators plus usually always and the difference in pay is amazing so here have the translators pure rather less a little less the national average the translators plus two to five times the national average and up to twice the national average the difference is lampante and in the translation profession we accept we know and we love the fact that okay trans creators do it this is Claudia Benetello she's in the same journal article she wrote again generous with her time again a translator plus she was responsible for the Ryanair she says I adapted the scripts I provided multiple options in Italian okay trans creators they do that okay we don't commercial translators do it though Patrick Williamson he's also in the same journal what does he say well text producers in finance in English are encouraged to produce a pyramid writing style so it's a style of writing in English and this is what we want in English he then goes on to say the translator adds value where the author the original the Italian the French author has not respected such a style so what do I do I rearrange I combine in parallel with the text producer discussing brainstorming and source text revisers by suggesting ways to rework the structure so the text is coherent and the reader can clearly follow the argument here's an example this is the original translated thank you chat GTP very nice what does he do this is the new version we don't need to read it we can see it has been rearranged it has been recombined FIT how is it Nати not very happy the norms are thou shalt not alter modify change the content the style unless you really have to you don't have to make these changes the translators plus make that extra step that extra mile for communication and horror 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 court interpreters make changes we are now part of a legal department and we know that the law is the law is the law and the text is the text is the text but here we have a case this is Anthony Pym who showed me this and showed it only two days ago so I stole the point and it's excellent for us it is illegal what I'm going to show you in many countries probably illegal here but so the judge asks the interpreter ask him if he agrees with what has been stated and accepts the charges made by the prosecutor the interpreter speaks to the defendant so you accept the charges and the defendant to say I robbed the wallet or robato yeah well they have to free me yeah well you know free me yeah yeah so talking to the interpreter I've said I've robbed the wallet the judge they have to free me and this is the defendant talking to the interpreter the judge is there the lawyers are there there is a conversation going on here then the interpreter turns around and said si a capito e a ceta not acceptable interpreting I suspect but effective useful the judge was happy the lawyers were happy the defendant was very happy it was a strange case of an asylum who wanted to go home and would be sent back home and it's what he wanted so we do it or the effective communicators do it but it's illegal probably in Estonia certainly to translate this way but it's effective so towards the plus and this is a comment from one of the translators just like in every other profession translators and interpreters need to be able to step out of their comfort zone take that extra step make that extra move do more than just translate to maximise earnings and life quality bottom line says Chris Durban to build a sound lucrative freelance practice you should be actively seeking risk and therein lies the rub this is the problem taking risks we don't like taking risks we are conservative as translators we like the text and we like to make another text as close as possible sorry to the original text the text is sacred otherwise we are fish without water we are lost we must create no text it's a problem and this is the problem for many not all translation students graduates working the text I cannot change I cannot be creative the norms say I shouldn't be creative and I can't be so human capital is important personality attributes or traits assertiveness proactivity emotional strengths because taking a risk is risky it's not easy to move out but to move out we need to think about our fundamental beliefs and values what is our role what is our mission as translators and this is an essential and problematic point the belief about role and mission is crucial this work I've done this translation this piece of interpreting that I've done is it a good translation or is it an effective communication if it is a good translation error free chat GTP will be the future if it is an effective communication we have a great future and I think in that point I will finish because the rest is a bit too technical and we don't need to say anything more than happy birthday and communicators by excellence we have here and I'm sure most of you are risk takers and it's been quite an experience talking to you thank you grazie grazie a David Catan non è stata una cattiva idea invitarti penso spero che il pubblico condivida questa opinione io adesso vorrei non perdere troppo tempo passare alla sessione successiva magari nel cambio noi molto ritualmente io e Teresa siamo rimasti seduti lì avevamo preparato i cavalieri tutto forse lo facciamo adesso dai è più giusto che sia così abbiamo tempo forse per un paio di commenti osservazioni domande dal pubblico dai ce le possiamo credo tranquillamente concedere abbiamo un microfono che dovrebbe poter girare per la sala consensiamoci un paio di commenti e di osservazioni da parte del pubblico anche se volete domande a chi a chi ha parlato e poi passiamo alla sessione successiva prevista dal programma maria vittoria la mia è una curiosità bellissimi gli interventi commoventi piacerebbe sapere quanti sono gli interpreti e quanti sono i traduttori in sala se avete calcolato dopo questa ultima bellissima relazione noi non lo sappiamo lo possiamo fare per alzata di mano se volete alzino la mano tutti gli interpreti alzino la mano chi come me le persone che come me si considerano solo traduttori per esempio me incluso ok e alzi la mano chi lavora abitualmente in entrambi i ruoli o non vuole fare distinzioni ok 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 grazie per il suggerimento ok abbiamo avuto l'impatto visivo ci ha aiutato ancora osservazioni o commenti buongiorno vorrei un chiarimento in due interventi avete parlato di chat GPT invece dei traduttori automatici dicendo anche che chat GPT per la traduzione automatica è migliore ad esempio di di pello google traduttore siccome come traduttore parlando con colleghi spesso usiamo sistemi di traduzione automatica mi chiedevo come mai appunto parlare io chat GPT non l'ho mai visto come mai invece parliate così tanto di chat GPT come aiuto alla traduzione in ambito automatico grazie per dire la verità non è che abbiamo parlato di chat GPT come un aiuto ho parlato ho pensato di cominciare con questo semplicemente perché c'è ed è la prima volta che usavo io per la traduzione automatica ma avevo chiesto ai miei studenti un paio di settimane fa di fare questo di usare Google DeepL e chat GPT e alla fine chat GPT era leggermente meglio Google era tremendo la traduzione era complimenti lei ha scelto il Blackpool Shoes Google Translate ha fatto compliments she chose Blackpool Shoes invece sia DeepL che DeepL e chat GPT ha capito benissimo che era formale lei e ha fatto congratulations you quello che era interessante è che chat GPT proprio mi ha risposto dicendo certainly comunque non c'è differenza fra DeepL e chat GPT for the moment forse ne parleranno con più competenza nel pomeriggio si affronterà questo tema direi che GPT fa il passo in più di consentire anche un adeguamento un maggior audience design del testo rispetto alla traduzione automatica tradizionale nel pomeriggio affronteremo sicuramente questo momento nella tavola rotonda che modererò io verrà sicuramente fuori questa questione non voglio rubare spazio a nessuno altra domanda sì salve allora la presentazione è stata davvero interessante giustamente facevo la distinzione good communication and effective communication il problema o la realtà è che nell'industria della traduzione molte volte ecco dove conta molto di Bell c'ha GBT quello che conta e quello che viene cercato soprattutto dal cliente is the good communication and not the effective communication ecco soltanto questo beh sì una risposta breve ha esattamente la propria ragione il mercato come sappiamo bene è un po ignorant nel senso che ignora le realtà però dobbiamo anche citare c'è un good enough basta così per il mercato e dobbiamo capire e penso che sappiamo benissimo che ci sono vari strati di translation e che è una molla importantissimo il lavoro è già automatic ed è già di una qualità non eccettabile per noi ma va bene così dobbiamo eccettare così the premium market sa già benissimo che non va bene così e serve un altro tipo di traduzione il mio non soltanto augurio ma sentimento verso il futuro sentore verso il futuro che questo mercato migliora aumenta e non soltanto il premium market cioè quello delle banche delle finanze del marketing della pubblicità che capisce benissimo cosa vuol dire la mo giusto secondo me sta aumentando io lavoro molto nel turismo che anche loro vogliono a costo zero una traduzione fatta sappiamo benissimo quante malfatte sono le traduzioni per le chiese eccetera comincia a essere io vedo già il mercato che risponde però risponde se c'è resilienza dall'altra parte e se l'assertiveness dall'altra parte che il traduttore stesso è in grado di spiegare perché e adesso comincio a fare i blowgroups in classe con studenti che devono mostrare senza perdere l'emozione la pazienza il perché ci sono vantaggi per il mercato avere un prezzo maggiore per un effective communication però se non facciamo noi nessun altro lo fa qui possiamo lavorare noi a essere più assertive nel mondo non è detto che cambiamo il mondo però nel nostro piccolo passi avanti stanno già facendo e noi possiamo prendere tesore di questi passi grazie grazie allora io in occasione del genere sono sempre ossessionato dai tempi e non voglio rubare spazio a chi verrà dopo di noi quindi invito questa volta facciamo le cose per bene a prendere posto la cattedra stanno Sindri Riccardi e Paola Gentile e invitata Maria Chiara Russo lascerò poi Sindri posso lasciare a te in questo caso fai onore di casa ok sì grazie scusami se pensavo no perché pensavamo che fosse una pausa non posso far altro ho capito dove vogliamo qua 70 anni è questa ok devo scaricarlo veramente scusa questo non c'entra niente che vuoi fare devo mettere questo qua sul su ok se lascia facendo ok ok arrivo ok va bene la metto un po' qui in qua puoi pure lasciare tanto dopo guardate via ok questo qua sì ok grazie lascio lascio a te fare io non mi ricordo dai 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 sono là va bene bene che bello vedere tutte queste persone ne ho già incontrate diverse quando siamo quando aspettavamo l'inizio però vederle adesso così questa questa sala così piena è bellissimo veramente io veramente ringrazio che abbiamo pensato in questa maniera di fare di fare questi festeggiamenti rivolti appunto a chi questa scuola, questa facoltà, questo dipartimento lo ha frequentato e quindi lo ha proprio vissuto e si vede si vede quindi l'attaccamento con cui siete venuti qui si vede appunto nei visi, negli incontri, nelle cose che vi siete scambiati adesso abbiamo la sezione che riguarda l'interpretazione la prima a parlare sarà la professoressa Maria Chiara Russo che è docente e professore ordinario a Forlì quindi l'Università di Bologna, però è stata prima anche docente a Trieste e quindi il legame sicuramente è sempre rimasto molto forte e siamo stati felici che avesse accettato di venire appunto in questa in questa occasione perché come è stato detto il momento proprio non è proprio dei più facili per trovare il tempo per trovare così lo spazio per per venire Maria Chiara Russo si è occupata dal punto di vista scientifico e accademico di tantissime cose tutte le varie forme di interpretazione da quelle più tradizionali diciamo dal punto di vista linguistico con i corpora ha veramente fatto tantissime cose per quanto riguarda gli studi di interpretazione e quindi diciamo la sua esperienza effettivamente secondo me è come pochi ha avuto anche molte esperienze all'estero con progetti esteri insomma veramente non si finirebbe di parlare delle cose che ha fatto ha pubblicato naturalmente tantissimo sia libri che volumi che collettanei che monografie insomma veramente chi più ne ha più ne metta quindi sono molto lieta che oggi ci parlerà di come è cambiata la didattica quando abbiamo pensato a questo incontro si voleva dare così uno sguardo su come si è evoluta la didattica dell'interpretazione su come si è evoluta un po' la professione diciamo da quando appunto più o meno nei 70 anni forse un pochino meno ma insomma comunque il periodo sarebbe quello e poi avremo invece ancora un intervento che riguarderà lo stato dell'arte attualmente con un sondaggio che è stato fatto dalla collega Paola Gentile che è andata a vedere un po' quelle che sono le impressioni per questo tipo di studi perché appunto l'idea era anche capire se studiare interpretazione, se studiare traduzione va bene in che misura va bene, dove porta forse porta anche a un cambio di direzione a un certo punto quindi non traduttore, non interprete ma qualcosa diciamo che sicuramente avrà a che fare con uno e con l'altro o forse anche no quindi erano così delle curiosità che avevamo e una parte di queste curiosità possono essere possono trovare una risposta sicuramente nel sondaggio che Paola ha fatto quindi avremo il primo intervento da parte di Maria Chiara Russo sulla didattica e poi gli altri due che vi ho detto l'emozione è infinita quindi abbiate un po' di pazienza adesso mi ricompongo grazie dell'invito la Cindy così molto ha voluto ricordare che ho vissuto a lungo quindi vivendo a lungo si scrive, si pensa, si riflette quindi tutto ciò che insomma in questi anni ecco vero? si aspetta intanto lo apro ok grazie si sente meglio? mi devo un po' distanziare vero? puoi sentire meglio? ecco dicevo che insomma questi anni dalla mia formazione quindi mi sono formata negli anni 80 e poi ho cominciato a insegnare nel 93 quindi ho 30 anni di lavoro sulle spalle come didatta e quindi mi è interessato vedere cosa io ho percepito quindi diciamo questa è una carrellata non della formazione come dire sensolato, prescrittivo come deve essere ma come io ho visto i cambiamenti come sono avvenuti come quello che io ho percepito come hanno anche influenzato la mia didattica e quello che è stato anche l'impatto sugli studenti quindi innanzitutto anzi ringrazio tutti voi dell'invito di questa giornata di averci richiamato tutti insieme qui perché di trovare tutti amici e colleghi questo legame che effettivamente ci tiene molto uniti e quindi è veramente un'emozione meravigliosa allora quindi interpreters born or made quindi sono nati gli interpreti o sono formati questo è un dibattito io mi sono occupata tanto anche di attitudini all'interpretazione questo è un dibattito che c'è da tempo evidentemente l'essere qui vuol dire che un interprete si fa anche perché la formazione è proprio questa anche lo sfondo non è casuale perché io credo che la didattica è veramente l'equilibrio delle forze in campo nel senso che ci sono proprio tanti elementi che devono essere presi in considerazione devono essere interiorizzati trasmessi quindi c'è veramente una configurazione molto ampia di quelle che sono appunto le forze in campo di cosa cercherò di parlare in questo tempo che mi è stato dato la formazione prima prima in senso lato l'interpretazione poi diventa una disciplina universitaria quindi questo cosa ha comportato cosa ha voluto dire introduzione di nuovi focus formativi in risposta al mercato professionale la svolta digitale quindi tutto questo che ha comportato e naturalmente anche un piccolo bilancio provvisorio di quello che secondo insomma quello che io posso percepire e poi aperto al dibattito naturalmente perché io qui ho tanti colleghi che hanno anche oltre ad essere interpreti e professionisti hanno anche tanta esperienza professionale come didatti quindi come docenti per cui io veramente sono molto contenta se si può aprire anche un breve dibattito un breve confronto bene questa era la formazione prima come vedete le cassette i libri che erano proprio dei mattoni che si portavano dietro quindi veramente era proprio il passato cercavano anche i bobinoni vi ricordate quando eravamo in laboratorio che se fai a pranzo mangio cassette cioè proprio questo era tanta tanta tutto questo il nostro armamentario però ci sono dei tratti persistenti della didattica allora in primo luogo nel prima ci sono docenti interpreti professionisti questo direi che è un elemento caratterizzante del passato e anche del presente questo vuol dire moltissimo come ha detto Lidia che ci ha tanto commosso proprio lei effettivamente avere a che fare con professionisti che non ti trasmettono niente di astratto ma proprio un modello professionale il polso del mercato quello che il mercato chiede la qualità le tematiche cioè fondamentale questo rapporto con il mercato per insegnare è fondamentale non solo perché ti dà degli stimoli per capire cosa va sistematizzato per poi trasmettere quindi da questo punto di vista è indispensabile la professione ma proprio anche proprio per il contatto che questo richiede mi è piaciuto di Giuseppe Palumbo quando si è chiesto cosa studiamo noi nella traduzione noi studiamo un rapporto una relazione io credo che questo sia veramente il fuoco di tutto il fuoco sia appunto della traduzione scritta ma anche dell'orale cioè la relazione è proprio quello che sta alla base del nostro lavoro credo la relazione umana ma anche la relazione appunto fra lingue e culture quindi avere dei professionisti che incarnano proprio quando si fa di embodied quindi incarnata uno che lo realizza ogni giorno lavorandoci è chiaro che è la persona migliore per trasmetterlo cos'altro è rimasto le esercitazioni preliminari per lo sviluppo di abilità cognitive quindi la embodied quindi non è che parti e fai ma devi dare anche una preparazione quindi imparare a parlare e ascoltare insieme attivazione delle conoscenze pertinenti si traduce quello che si conosce cioè si riconosce ciò che si conosce quindi naturalmente quello che tu conosci ti aiuta a disambiguare il messaggio a comprenderlo quindi questo assolutamente è rimasto la riformulazione quindi la capacità di esprimersi in più modi possibili quindi anche questo il nostro strumento è la parola quindi se non ci vengono le parole è pazzesco questo senz'altro è rimasto e l'affinamento della sensibilità e la competenza linguistica verso la lingua straniera cioè penso che noi tutti questo che ci siamo formati sappiamo cosa vuol dire ragionare sulle lingue sui registri e anche la lingua madre naturalmente e poi tanta pratica questo è sempre naturalmente tanta pratica è quello che c'era e c'è comunque ancora oggi divento la disciplina universitaria quindi questo vuol dire che passa da una formazione professionalizzante a una formazione dove invece c'è un contenuto diciamo un apparato che non è teorico in senso astratto ma è proprio darti quegli strumenti per capire da una parte cosa succede cosa avviene cosa c'è all'interno di questo processo perché tanta pratica no? perché è necessario appunto applicarsi no? così regolarmente allora appunto vengono introdotti dei corsi come teoria e prassi dell'interpretazione quindi la consapevolezza del processo vuol dire anche capire che ci sono anche delle modificazioni a livello cerebrale ci sono appunto delle nuove delle riorganizzazioni funzionali del cervello che ti consentono di sviluppare degli automatismi che a loro volta ti agevolano il compito no? quindi questa è una cosa che magari così uno lo sa per una curiosità ma io vedo sugli studenti questo li fa molto capire perché devono farlo perché devono essere sistematici perché devono e questo credo che di anche un senso più gratificante della propria applicazione no? perché sai che questo porta ad una reale come dire a una reale predisposizione a far sempre meglio questo compito questo esercizio di passare da una lingua all'altra ricerca per ambiti e impatto sulla performance e quindi naturalmente adesso magari prima diciamo si passava da un argomento all'altro oggi direi che invece è molto più consapevole quello che è ogni ambito dell'interpretazione e quello che questo comporta quindi che tipo di linguaggio la linguazione quindi non so che sia che tu interpreti per i media che tu interpreti per il socio sanitario che tu interpreti a distanza che tu interpreti a telefono ecco video che non è la stessa cosa cioè se tu ti sei formato come interprete in presenza poi devi fare la telefonica non è esattamente la stessa cosa cioè ci sono una sensibilità alla gestione dei turni sono delle cose che devi imparare che riguardano quel particolare ambito questo direi la ricerca sulla performance anche io credo che questa sia una cosa piuttosto nuova cioè di questi questa nuova diciamo impatto diciamo di queste nuove maggiore sensibilità e approfondimento proprio dell'impatto pragmatico dell'uso della lingua sono degli studi molto belli per esempio della Bergseldison che ha potuto dimostrare come l'uso delle forme di cortesia hanno un impatto durante un interrogatorio sulla visione che ha la giuria del test pensate cioè sono cose che oppure non so altri aspetti dell'interazione cioè noi invece si dice vabbè interpretazioni conferenze sono monologhi no all'interno del monologo ci sono degli elementi proprio pragmatici di richiamo di no dell'attenzione appellativi insomma questo sono cose o l'interprete stesso che ha una agentività c'è l'Ebro Diriker che vede come effettivamente l'interprete che esce dal suo ruolo si dice no effettivamente esce dal footing quindi dal suo ruolo dal suo piano comunicativo ed esce lei con la sua no aggiungendo modificando proiettando la personalità dell'oratore a seconda delle parole che gli mette in bocca cioè abbiamo un ruolo molto molto importante proprio nel uso della lingua e questa consapevolezza secondo me è una cosa nuova che bisogna che è bene che i nostri studenti abbiano e facendogli vedere le ricerche che ci sono dove si dimostra effettivamente questo e poi naturalmente la familiarizzazione con la pratica professionale perché naturalmente si invitano colleghi gli interpreti stessi sono professionisti quindi anche questa è una cosa che nella parte della prassi dell'interpretazione questo naturalmente avviene ma io mi soffermo per quanto riguarda l'impatto della ricerca su solo alcuni punti naturalmente qui finalmente nasce anche una didattica per copie di lingue cioè benissimo certo la diverbalizzazione il messaggio per carità però ci sono dei vincoli strutturali delle lingue in contatto che fanno sì che la strategia cambia ci sono le interferenze tra lingue neolatine da evitare ci sono le ristrutturazioni della sintassi perché sono lingue di famiglie molto lontane e allora ricordiamo naturalmente Francesco che naturalmente per tutti noi quindi cosa vuol dire russi italiano oppure Salvador Pippa che forse alcuni di voi ricorderete che anche lui purtroppo è mancato che si è occupato del portoghese italiano io mi sono occupata dello spagnolo italiano tedesco sindi tedesco italiano cioè questa concezione anche che l'interpretazione anche degli aspetti proprio strutturali non solamente semantici che condizionano la qualità poi è una cosa che la ricerca ci ha portato e poi credo che ci sia un maggior focus sulla qualità quindi ci sono anche dei modelli per favorire la valutazione e l'autovalutazione della performance quindi anche questo cioè la qualità in strato noi diciamo sempre la interpretazione ideale l'interpretazione ideale però ci sono delle condizioni che lo rendono possibile cioè uno che interpreta per il gran premio di MotoGP il gran premio della Formula 1 dove Francesco si è occupato tantissimo cioè lì parlano a una velocità pazzesca un accento pazzesco e quindi insomma lì l'interpretazione è possibile non l'interpretazione ideale quindi anche questo è naturalmente qualcosa che gli studenti devono essere consapevoli insomma e anche avere degli strumenti per valutarsi non anche delle scale di valutazione che vengono trasmesse perché un conto magari è una impressione olistica mi è piaciuto o non mi è piaciuto ma che cosa c'è un livello lessicale un livello di presentazione un livello di contenuto quindi insomma oppure non so quello che per esempio la Calina secondo me ha fatto se magari appunto qualcuno forse non la conosce ma invito proprio a riprendere i suoi modelli per cui ci sono delle condizioni precedenti al lavoro non so chi ha dato la documentazione l'equipe stessa come organizzata cioè alcuni elementi che precedono l'evento e quindi lo condizionano sono degli elementi che sono contingenti all'evento per cui non so il fatto che tu possa vedere l'oratore il fatto che ti fanno lavorare più ore e anche quello condiziona la qualità ci sono delle condizioni all'interno del processo quindi non so per esempio l'oratore parla velocemente ha un accento poco comprensibile o tu hai delle conoscenze non sufficienti quindi condizionato da questo oppure anche il post dopo il processo cioè ti sei riguardato no? tutto il tuo glossario aggiornato perché spesso certi termini li cogli solo perché gli addetti ai lavori lo usano quindi questa riascoltarsi ci si è registrati una prestazione e tutto ciò contribuisce a dare una prestazione di qualità ecco sono tutte cose che magari agli studenti insomma vanno fatte veramente anche molto comprendere ah poi dicevo l'attenzione al contesto comunicativo no? effettivamente abbiamo citato il media piuttosto che il sanitario cioè chiaramente va molto anche questo analizzato perché ci sono anche delle aspettative legate a certe situazioni comunicative le aspettative ci aiutano ad anticipare a comprendere no? e a poter quindi meglio interpretare trovo che un altro elemento che ha dato insomma anche questo differenza insomma questo cambiamento sia il fatto anche di fare dei tirocini no? in alcune università è proprio fa parte del piano di studi per altre invece magari sono esperienze più diciamo più collaterali ma anche quello è fondamentale cioè per proprio per fargli capire proprio quando si parla si passa dalla artificiosità della classe alla realtà del lavoro no? e allora quello con il tirocino lo capiscono benissimo insomma è una cosa che è veramente un catalizzatore di tutte le cose che magari si dice in classe secondo me questo è importante e anche introduzione di pratiche per l'autoapprendimento cioè anche dargli degli strumenti sono anche delle piattaforme che si stanno sviluppando proprio per avere da tempo anche la black box dell'Anaisa Sandrellis insomma di in qualche modo aiutarli anche poi a potersi poter formarsi anche da soli cioè ad addestrarsi da soli per meglio dire un altro elemento di novità è un'attenzione maggiore al benessere è la capacità comunicativa di studenti e studentesse questo vuol dire naturalmente occuparsi delle abilità di parlare in pubblico di curare la voce in un certo modo di imparare a proiettarla in un certo modo anche l'igiene proprio degli organi di fonazione la gestione dello stress anche questa è una cosa che naturalmente vanno aiutati in qualche modo dati degli strumenti il mindfulness adesso anche per esempio Monterey a California hanno proprio dei corsi di mindfulness da tantissimo tempo in altri luoghi noi ci stiamo facendo una tesi su questo per vedere che effetto ha e allora anche questi sono tutti elementi che di cura e attenzione al benessere degli studenti che questo direi che è un elemento abbastanza nuovo poi nuovi focus dicevamo quindi ormai anche nei nostri corsi di formazione c'è anche l'elemento della formazione dialogica non c'è più solo il modello della conferenza ma anche la dialogica anche qui la dialogica è declinata nei vari contesti quindi sociosanitario legale umanitaria l'interpretazione a distanza avevamo detto video breccia quindi per esempio anche ormai ci sono delle interpretazioni magari attraverso il tablet oppure con vere e proprie piattaforme o la telefonica anche queste sono cose che cominciamo a insegnarli perché tanto sul mercato le trovano quindi è bene che apprendano prendono un po' di confidenza o anche la simultanea col testo che anche questa è una cosa che viene fatta sempre di più la svolta digitale allora quindi già da tempo insomma le prime le prime applicazioni delle tecnologie della comunicazione sono state applicate nell'ambito dell'apprendimento delle lingue straniere poi nel tempo sono state trasferite anche proprio ai nostri ambiti e allora per esempio questo vuol dire che sono stati sviluppati dei dispositivi per aiutare per assistere l'interprete nella fase della preparazione in primo luogo questi che si chiamano CAI tool quindi Computer Assisted Interpreting Tools quindi dispositivi per assistere l'interpretazione basati sui computer e sono state appunto sviluppate soprattutto all'inizio per gestire non so indossare la preparazione eccetera ma questo poi è andato sviluppandosi vedremo anche applicazioni più recenti con l'intelligenza artificiale ma questo ha voluto dire avere a disposizione tante cose nuove tanti strumenti nuovi per esempio fonti di discorsi reali noi ricordo si cercavano i vital speeches se no vi ricordate anche avevamo tutte queste fonti molto ricordate assolutamente decontestualizzati noi prendevamo questi testi che cercavamo di spianellare e invece qui adesso abbiamo dei video reali ci rendiamo conto della situazione spesso ci sono le trascrizioni e quindi speech reposito naturalmente della commissione europea speech pool i TED talks molti editori ne fanno anche gli esami cos'altro arriva con la svolta digitale? l'uso di intelligenza artificiale per produrre discorsi non so se conoscete questo sito è incredibile basta appunto che non so voi inserite l'argomento il livello di difficoltà la consecutiva ed è in tantissime lingue e viene anche addirittura letto io ci sto provando tante volte stai a lezioni magari chiaramente stai facendo un argomento e trovi sempre discorsi adeguati e allora si prova anche così al momento ti estraggono la terminologia ti estraggono addirittura per cui cosa succede? io mi dicevo saranno discorsi molto poco informativi saranno discorsi molto neutri insomma con poco spessore non è vero sono anzi molto comunque molto attuali con tanti molto molto informativi e quindi sono utili magari anche gli studenti stessi siccome viene anche verbalizzato oralizzato possono fare assolutamente anche esercizio fonti di documentazione ovviamente con internet si è aperto un mondo noi si andava in biblioteca non vi ricordate e questo chiaramente è una cosa eccezionale o la creazione di corpora specialistici dal web anche questa è una cosa che gli si insegna nelle metodologie perché per la documentazione è ovviamente importante nuove formule pedagogiche anche molto stimolanti per esempio le virtual classes che si fanno con le varie istituzioni europee ma anche tra università diverse abbiamo fatto anche con marco una bilaterale insomma anche questo ai ragazzi si aprono un po' di orizzonti vediamo queste applicazioni in 3D per esempio questo questo progetto AIVI quindi l'interpretazione in virtual reality dove si creano proprio delle stanze generate dal computer che dove si creano degli avatar quindi si rappresenta con gli avatar mi dicevano appunto che vengono questo è stato sviluppato dal Sarri ma a Roma mi diceva il collega Giorgio Bortolotti il collega che loro lo stanno anche loro molto utilizzando e lì appunto l'idea qual è? quella di ricreare un ambiente di lavoro senza lo stress del lavoro quindi questo è anche qui un'altra come dire un'altra possibilità di sperimentarsi di lavorare in condizioni molto più stimolanti e qui sono progetti europei sia questo AIVI che Eviva e Eviva addirittura è un progetto che ha valutato il livello di apprendimento e di formazione con questi strumenti sia con piattaforme a distanza che appunto con invece queste del tipo appunto Second Life questo ambiente virtuale Dispositive per la consecutiva la smart pen che ricordo anche Jane Kellett utilizzò nei corsi quindi anche qui prima a parlarne fu Marco Orlando dall'Australia quindi l'utilizzo di queste penne che sono registrano al contempo anche la voce ci sono delle colleghe che mi dicevano che utilizzano questo strumento per esempio quando vanno a fare delle visite sul campo non so gli specialisti e allora poi diventa quasi una simcon cioè tu poi ti risenti l'audio e fai la simultanea dalla registrazione della penna oppure noi invece con gli studenti magari a loro serve per vedere magari di sentire quell'elemento che hanno perso quando hanno preso appunti oppure il tablet ci sono colleghi che fanno veri e propri corsi di formazione su come Drextel per esempio su come utilizzare il tablet per la consecutiva con tutte le sue mille potenzialità oppure il software per la creazione gestione di glossari le stazioni di termini dai documenti la memorizzazione dei termini se non vede proprio la stazione di lavoro queste vedete alcune che sono sul mercato Interplex Interplex Help Interplex Dank io adesso mi sono trovata per la vita a fare un piccolo cioè mi sto fatto un trasloco e quindi ho visto tutti i miei glossari cioè una marea un terminologo sarebbe felice perché l'ingegneria naturalistica cioè lo sappiamo gli argomenti sono infiniti cosa ho fatto? Prese e buttati via invece se avessi avuto la pratica o avessi conosciuto Interpret Bank quella volta avrei avuto questi glossari tutti in un unico posto fruibili scambiabili con altri è vero che erano scritti al computer ma con computer che nel tempo perdi insomma questa è una grande risorsa non sto facendo una pubblicità su rettizia non subliminare sto dicendo che sono degli strumenti che migliorano le condizioni di lavoro e non sprecano tante risorse veramente a me veniva da piangere guarda te e non possiamo più farcene niente oppure i corpore ecco accennava a Cindy appunto che abbiamo sviluppato questo primo corpus di interpretazione European Parliament Deputy Corpus che è un corpus consultabile online è aperto adesso lo stiamo espandendo siamo arrivati a 700.000 parole ed è spagnolo italiano inglese sono gli originali del Parlamento Europeo e le rispettive simultanee ebbene questi strumenti servono molto anche in un ambito didattico perché gli studenti sono esposti a tanti come dire prestazioni diverse di professionisti non è facile essere sempre in una cabina anzi uno studente non c'è mai in cabina con un altro professionista lì invece possono vedere tanti modi per risolvere tante cose che possono essere appunto la velocità di eloquia piuttosto che il discorso denso dal punto di vista informativo quindi vedere quali sono le strategie degli intepti vedere anche qui una cosa molto importante è anche i limiti cioè non è che tutti sono perfetti quindi ci sono degli errori magari è anche interessante far fare lo stesso audio dopo che il studente è stato preparato sull'argomento far fare lo studente lo stesso audio che ha fatto l'interprete e poi si confrontano io ho notato questo lo faccio alla fine del secondo anno è anche molto gratificante perché loro dicono mi è capitato alcune osservazioni questa l'ho fatta meglio dell'interprete c'è anche come un senso di dire beh in fondo posso farcela oppure viceversa dice ecco magari mi sono sentito a disagio in questo caso e non è facile far emergere le emozioni degli studenti e quindi sapete che noi apprendiamo per amore o per odio l'emozione è molto importante quindi ci vogliono anche delle circostanze proprio anche per farle emergere questo per me è uno strumento che io ho scritto anche in questo senso e ci sono anche il corpus invece di Gaiaston questo 2249 sempre dal Parlamento Europeo che è una grande fonte di corpo ormai ce ne sono tantissimi nati dal nostro Epico ormai c'è la famiglia di Epico c'è in polacco c'è in greco c'è in francese e in belga e poi nuovi corpora naturalmente e questo invece per esercitare gli studenti che traducono verso l'inglese ad acquisire quegli elementi che danno proprio la percezione dell'affluenza l'affluenza viene molto collegata alla qualità allora ci sono effettivamente degli elementi molto concreti le collocazioni certe frasi quindi è un modo anche per imparare tutto questo oppure naturalmente il corpus di Francesco sull'interpretazione televisiva che anche questo tante tesi devo dire che i corpora sono come si diceva che è diventato una disciplina universitaria i corpora sono anche un'occasione per riflettere sulla prassi e hanno fatto tesi almeno una trentina di tesi questo progetto è del 2004 dal 2004 al 2006 tantissime tesi su qualsiasi argomento e quello appunto per riflettere sulla prassi per esempio come sono stati gestiti i numeri piuttosto che i nomi propri cioè quello che uno studente nella pratica si rende conto che è un suo ostacolo lo va poi ad approfondire analizzando la prestazione di altri e i nuovi strumenti i kai tools come vi dicevo per esempio devo dire qui anche il ruolo dei tecnici il personale tecnico è fondamentale il nostro tecnico ha sviluppato Billo Cairoli assieme a Nicoletta Spinoli che è una collega interprete questo strumento interessante per esercitarsi tra pari allora c'è quindi il ruolo dell'interprete il valutatore e poi dove trovate lo speaker con questa faccia da cattivo ci può essere il video ci può essere uno che legge in tempo reale e questo cosa fa poi si registra puoi ascoltare l'audio originale quindi sono strumenti appunto per quando uno cercava le cabine non le trovava mai quindi da casa propria può esercitarsi in questo modo un altro un altro strumento che hanno sviluppato Rebooth classe virtuale lo stesso questo è proprio qui c'è una sola cabina ma si può arrivare a otto cabine quindi per esempio questo è fatto per gli esami quando abbiamo fatto gli esami di dimensione a distanza lo stesso si carica con i materiali si registra lo si risentono e noi abbiamo stiamo collaborando con il Stato di Kharkiv in Ucraina e loro stanno utilizzando questo perché purtroppo spesso gli studenti sono solo a distanza e quindi consente proprio di poter lavorare anche senza essere in presenza ora veniamo a questa parte del riconoscimento vocale della voce in automatica quindi dall'orale al testo per esempio per il rispicheraggio in tempo reale anche questo anche il rispicheraggio che vuol dire quindi spesso si produce un testo oralmente e il computer che riconosce la voce scrive un sottotitolo per esempio viene utilizzato per i non udenti le persone che non hanno però la lingua dei segni noi abbiamo stati contattati dalla FIAD per esempio con una associazione di genitori di bambini perché è un modo per poter fruire per esempio l'inizio universitario una conferenza è una cosa che il mercato chiede può chiedere quindi anche questo è bene che venga appreso e adesso vediamo quelle cose più nuove quindi il riconoscimento vocale più l'intelligenza artificiale esistono quindi già a mia conoscenza questi due strumenti un interpret bank quello che abbiamo visto prima nel modulo conferenza e smart app invece è una cosa che nasce da un paio di anni e che cosa sono sapete che in simultanea diciamo sempre sono sempre delle cose particolarmente insidiose che sono numeri nomi propri terminologia e sigle e questi in tempo reale questo è smart terp in tempo reale ti danno appunto vedete qui a sinistra named entities quindi i nomi propri che sono le istituzioni i numeri e la terza parte invece le terminologie addirittura con la traduzione perché attingono a banche dati infinite infinite no ma banche date e quindi danno anche la traduzione e la sigla allora mi ha fatto una sperimentazione a Forlì con 24 studenti abbiamo un progetto europeo abbiamo usato questo strumento allora questo vi dico brevemente allora a noi interessava vedere anzitutto se migliora la prestazione in secondo luogo se qual è la percezione degli studenti di questo strumento che troveranno che c'è già anche sul mercato e poi se questo aveva anche un effetto a livello di stress se generavano stress allora abbiamo fatto 24 studenti eccetera e cosa abbiamo visto abbiamo visto che senz'altro erano più corretti questo evidentemente più corretti quindi da un certo punto di vista insomma dal punto di vista della prestazione chiaramente meglio quello che diciamo più erano diciamo l'elemento più in cui aveva la quantità delle risposte era distribuita in maniera più ampia quindi non c'era particolare convergenza era sul fatto che per esempio potevano essere distratti da questo strumento perché naturalmente dovendo guardarlo mentre tu stai interpretando e poi magari arriva leggermente dopo l'input perché c'è un problema anche di questo che spesso devono essere sotto i due secondi per poter essere fruiti quindi se è un po' in ritardo questo era l'elemento che dava maggiore diffidenza erano meno soddisfatti cioè perché ripeto il fatto che c'era questo elemento di distrazione perché naturalmente sono più compiti cognitivi insieme e anche il fatto che appunto non era abbastanza puntuale lo strumento adesso abbiamo poi dato risultati a questo gruppo che lo sta sviluppando per esempio sul rendere più veloce l'input su questo dato che stanno lavorando e poi una cosa anche interessante se si fidano di questo strumento allora questo strumento adesso ha una percentuale di errore diciamo di non errore del 98% quindi è piuttosto affidabile e gli studenti si sentivano affidabili questo è quello che oggi si chiama digital boothmate il compagno di cabina digitale perché prima magari il compagno di cabina che riscriveva adesso c'è questo che è già tra noi allora un bilancio provvisorio cosa possiamo dire allora dal mio punto di vista quello che ho visto ho sperimentato abbiamo visto posso mi sento di dire questo è naturalmente aperto anche alle vostre osservazioni allora senz'altro i kite tool sono una ricchezza no? perché agevano la preparazione non solo la gestione dei glossari ma naturalmente in senso lato la preparazione è anche positivo avere degli strumenti come avete visto questo intro in Rebus tra l'altro questi due strumenti potete scaricarli anche voi perché sono gratuiti c'è anche questo che secondo me è molto bello che si stanno creando strumenti anche il nostro Epic sono aperti alla comunità chiunque può utilizzarli quindi magari se volete vi spiego bene anche come fare per scaricarli quindi sono dei software che consentono di esercitarsi in gruppi eccetera a distanza e questo secondo me è molto positivo i corpora anche secondo me è un pro cioè ci fanno appunto vi dico il fatto che si facciano delle tesi quindi una riflessione sulla prassi trovo che sia un'ottima opportunità insomma di imparare e migliorarsi quindi per esempio la curiosità di come si gestisce la metafora di come tante cose che sono state viste con questi con questi corpora essere esposti a professionisti secondo me è un plus che questi corpora offrono la ricchezza lessicale vi dicevo il fatto di apprendere delle collocazioni cioè noi quando sentiamo un'interpretazione diciamo uno degli elementi che ci colpiscono è l'uso della lingua proprio una lingua idiomatica una lingua di un certo e questo loro hanno modo di apprenderlo perché appunto hanno tantissime prestazioni tutta la lingua straniera ma anche la madrelingua e poi ovviamente anche l'ospicio repository avere questi magazzini digitali discorsi di ogni difficoltà diverse questo naturalmente è una grandissima ricchezza naturalmente anche prepararli a quello che c'è già sul mercato c'è il digital boothmate è già tra noi e quindi è bene che loro imparino a lavorarci quando si fa nella fase della formazione benissimo generalmente direi che gli studenti ovviamente sono meglio preparati perché hanno questi strumenti a loro disposizione almeno se li sanno utilizzare e devo dire che ci sono anche nuovi stimoli perché fare magari la virtual class anche loro che vengono magari valutati da professionisti delle istituzioni può essere anche oppure tra vedere anche di altre facoltà che però fanno interpretazione della stessa coppia di lingue sono cose sempre molto stimolanti i contro che io vedo in questo momento sono innanzitutto la necessità di apprendere strumenti complessi chiaro che è semplice arrivare in classe e avere una cosa da leggere invece di impararteli imparare a usarli imparare insomma e quindi da noi che abbiamo una certa età magari c'è una certa inerzia devo dire devi avere un po' uno sforzo in più per gli studenti invece è una questione proprio cognitiva cioè imparare a gestire effettivamente tanti più stimoli insieme infatti una cosa che hanno detto i nostri studenti è che è necessaria la formazione poi non vi ho detto anche sullo stress abbiamo visto che nella nostra ricerca appunto utilizziamo empatica che è un braccialetto che rieva la frequenza cardiaca media e altri parametri si vede che effettivamente provoca stress e questo perché senz'altro ci sono più compiti cognitivi complessi insieme quindi in questo senso un carico cognitivo che bisogna imparare a gestire e poi direi che c'è un rischio il rischio è quello che gli studenti si affidino più a questi strumenti che non alla propria capacità di comprendere elaborare memorizzare e produrre quindi in questo senso bisogna sempre in ogni caso un po' quello che diceva anche David diciamo se vuoi la traduzione corretta c'è il GPT può anche bene se vuoi la comunicazione giusta non è detto è qui lo stesso cioè l'interprete usa questi strumenti ma è chiaro che il cardine è sempre la propria intelligenza la propria preparazione la propria cultura e questo è e poi sempre Diego naturalmente che ha così colto questi momenti fondamentali dei nostri studenti del nostro ambiente della nostra limit in fondo gli studenti words don't come easy quindi il nostro compito alla fine è quello proprio di aiutarli con gli strumenti maggiori che migliori strumenti che abbiamo per poter aiutare a far sì che abbiano che le parole salgano escano molto facilmente questo è un omaggio a Diego che ci ha rallegrato e accompagnato bene io vi ringrazio per l'attenzione se ci sono domande anzi mettiamo Diego vai che ti mettiamo un attimo Diego se ci sono domande chi ha buongiorno sono Alessandra Giordani ma tanto per così presentarci perché se no molti non si conoscono qui intanto come sempre è un piacere ascoltare Chiara ed è uno stimolo continuo anche se ormai non insegno più però tante cose io le ho mutuate da voi leggendo le vostre pubblicazioni e sono molto diciamo sempre rimasta in qualche modo convinta sempre più convinta di quanto sia importante insegnare agli studenti proprio quello che tu chiamavi la conoscenza del processo cognitivo che sottostà all'interpretazione io parlo di interpretazione soltanto ovviamente perché li rendi più consapevoli e anche più come dire appunto oltre che a gratificarli ma anche più pronti a difendere il valore del loro lavoro una volta sul mercato mi sono resa conto che il fatto di saper spiegare anche a dei clienti cosa è il nostro lavoro come si struttura dentro dietro le quinte o nelle nostre cabine ti aiuta anche a valorizzare il tuo lavoro detto questo quindi ogni volta trago spunti anche se non mi serviranno quasi più e volevo chiederti se avete provato quello smart terp anche presso interpreti professionisti avviati e non studenti solo perché è interessante forse fare un confronto sulla capacità degli interpreti scafati maturi eccetera di gestire uno strumento del genere senza essere disturbati da questo altro elemento nuovo e poi complimenti per tutto il resto di tutti gli spunti e le cose che proponete perché davvero mi riscriverei da capo allora non noi ma Francesca Frittella ha fatto lo studio pilota sui professionisti sui professionisti effettivamente si è visto che ci vuole una curva di apprendimento e chiaramente la prestazione è agevolata ma è necessaria una curva di apprendimento perché uno possa sfruttarlo come si deve sì infatti ringrazio per la domanda effettivamente è una curiosità che si comprende bene cosa succede agli interpreti professionisti quindi eventualmente l'articolo della Frittella magari poi dopo se ti interessa ti darò riferimento e Chiara possiamo andare avanti forse sì scusa grazie 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 Chiara per questo intervento che è stato una panoramicissima su tutto quello avevamo pensato all'inizio di fare le domande tutte le fine questa era l'idea così per aggrupparle no no ma va bene insomma adesso ne abbiamo avuta una possiamo aspettare di sentire i tre interventi così dopo possiamo un attimo mettere tutto quanto assieme e quindi grazie per questa carrellata più che una carrellata decisamente una panoramica insomma grande penso che gli spunti siano tanti soprattutto in un'epoca che adesso ci mette a disposizione tanti strumenti e dove forse a certa volta la difficoltà è proprio capire come funzionano e quando funzionano e perché funzionano e se funzionano diciamo che sono tante cose da verificare la ricerca secondo me ha da fare molto insomma anche per dire il fatto di avere il riconoscimento vocale di numeri o di nomi hanno dimostrato che le percentuali sono più alte che non in una situazione normale però che dopo le frasi del contesto se si vanno a vedere sono invece sbagliate quindi diciamo ci sono tante cose da verificare ancora ma diciamo che sono cose con cui anche il professionista si confronta queste perché appunto servono o non servono quanto carico cognitivo in più ho per usare questi strumenti quanta fatica faccio in più se devo controllare anche quello che mi viene detto quello che viene fatto insomma sono tante domande che si pongono effettivamente allora per quanto mi riguarda volevo appunto parlare della professione lo farò abbastanza velocemente forse così a volo d'uccello questo punto o in maniera telegrafica e volevo iniziare dicendovi alcune cose personali io avevo fatto la scuola interpreti quando non era ancora facoltà quindi gli studi di interpretazione non esistevano più o meno diciamo perlomeno non nel panorama diciamo di lezioni che avevamo noi e quindi lo studio era particolarmente incentrato sulla pratica sull'esercizio su letture di giornali su cercare di capire cosa succedeva nel mondo e ci sembrava tantissime cose da fare insomma eravamo dalla mattina alla sera a fare esercizio soprattutto e diciamo che poi quando ho cominciato a lavorare come interprete sapevo fare sicuramente certe cose però avevo tanti punti interrogativi cioè mi veniva da chiedere ma va bene farlo così come si fa è giusto questo il relatore veloce posso tagliarlo un po' cosa faccio come mi preparo a un incarico e dove trovo il materiale io mi ricordo che si ascoltava di notte addirittura le radio a onda lunga per sentire per sentire gli oratori parlare appunto nelle varie lingue si andava avanti appunto lavorando e migliorando ascoltando i colleghi questo era una cosa veramente tanto importante discutendo con loro però diciamo c'erano a meno per quanto mi riguarda poche indicazioni chiare su cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare in certe occasioni quindi cercavo risposte e per questo forse ho cominciato a interessarmi agli studi di interpretazione traduzione e interpretazione gradualmente leggendo diciamo quello che altri avevano pensato e che ci dicevano cambiava anche il mio modo di interpretare diventavo più sicura sapevo che facevo delle cose perché si potevano fare perché andava bene farle in quel momento perché funzionava meglio quello che stavo facendo posso essere definita una practice searcher come definisce Gilles chi fa l'interprete e poi si dedica alla ricerca e all'epoca e ancora adesso veramente chi ha fatto i corsi con me lo sa bene mi hanno sicuramente affascinato sempre gli studi cognitivi la divisione dell'attenzione i tipi di memoria il fatto che ci fossero appunto già degli studiosi che riconoscevano delle strategie generali o per copio linguistica a me interessavano molto quelle per copio linguistica e che si potevano appunto fare determinate cose oppure che erano osservazioni di quello che stavano facendo gli interpreti e quindi se tutto un gruppo di interpreti fa in un certo modo dice beh andiamo su questa via quindi dava comunque delle risposte quindi il fatto che avessi delle risposte non so cosa faccio con le cifre perché me le dimentico me le dimentico solo io se le dimenticano anche gli altri no c'è tutta una serie di domande che pian pianino trovavano una risposta e questo per me è stato veramente una cosa molto molto importante proprio come mi sono sviluppata poi come interpreta e anche per dopo essere diventata docente gli anni 90 sono stati degli anni di grandi cambiamenti con internet con i cellulari con una svolta culturale anche è il momento in cui l'immigrazione si fa sentire anche in Italia pertanto c'è necessità di interpreti che non vengono chiamati ancora interpreti abbiamo i mediatori linguistici che si sformano in quel periodo comunque vengono alla ribalta in quel periodo e attraverso una serie di decreti ministeriali si inizia nel campo dell'educazione dove appunto c'erano bambini stranieri i genitori dovevano parlare con insegnanti e lì si fa sentire questo forte bisogno quindi abbiamo una situazione completamente diversa e la formazione poi la richiesta di mediatori culturali qualificati o mediatori interculturali contemporaneamente in questo periodo alla fine degli anni 90 vengono istituite anche le discipline della mediazione linguistica che fino a quel momento non esistevano quindi anche già il nome mediazione linguistica era qualcosa di nuovo in quel momento e a livello di ricerca si parla di interpretazione dialogica ecco fino a quel momento abbiamo parlato di trattativa in Italia dopo in altri paesi c'erano altri nomi quindi io avevo iniziato con simultanea consecutiva e semmai trattativa e dopo invece pian piano il ventaglio si è aperto moltissimo e quindi l'interpretazione dialogica che comprende tutte quelle cose che servono come forma di intermediazione interlinguistica nelle pubbliche amministrazioni negli ospedali nei tribunali quindi a livello giudiziario cioè si apre lì un ventaglio che era quasi sconosciuto fino a quella volta e si affrontano anche tematiche come la neutralità l'imparzialità che dal punto di vista degli interpreti di conferenza proprio avevano forse delle norme molto più vincolanti la persona che opera con due interlocutori con diverse forze di potere si trova in una situazione diversa quindi cambiano anche i modi di interpretare o di capire come si deve stare rispetto ai due interlocutori in questo periodo iniziano anche anzi già negli anni 90 iniziano i primi test anche sull'interpretazione distanza che poi appunto andranno avanti quindi abbiamo queste due parti l'interpretazione ideologica e l'interpretazione distanza sembrano quasi contrapposte eppure si sono sviluppate entrambe perché c'erano certi bisogni e quindi partendo dall'interpretazione in remoto via satellite all'inizio reti ISDN tutto uno sviluppo di tecnologie che sono arrivate poi al momento diciamo degli ultimi anni con la RSI quindi Remote Simultaneous Interpreting con le piattaforme per l'interpretazione simultanea e tutto quello che questo comporta e ha comportato da un lato riuscire a lavorare e interpretare anche durante il lockdown dall'altra parte invece difficoltà di vario genere quali sono le piattaforme che vanno bene due dispositivi da tenere sotto controllo di nuovo abbiamo situazioni che non sono proprio semplici da gestire senza una preparazione di un certo tipo e quindi il fatto di appunto anche sapere che è meglio lavorare in un hub con un tecnico che non lavorare da casa tutta una serie di situazioni che sono così scoppiate velocemente e per le quali diciamo c'era un po' di disordine quindi per concludere per lasciare spazio anche a Paola a questo punto possiamo dire che per quanto riguarda l'interpretazione siamo in una fase di assestamento secondo me si sta cercando di verificare sì sicuramente l'interpretazione in remoto resterà però ci saranno delle specifiche maggiori quando per quanto tempo per che tipo di clienti e quindi questo è sicuramente una parte importante da capire e da un po' regolamentare anche sicuramente e anche adesso il lavoro sta ritornando il lavoro in presenza sta ritornando su livelli anche pre-covid e quindi ci vuole un po' una catalogazione forse delle varie situazioni comunicative dove una cosa è preferibile a un'altra e sicuramente l'interprete deve appropriarsi di queste competenze linguistiche scusatemi le competenze linguistiche ce le ha un problema Freudiano questo di competenze informatiche scusate un po' il risciuto della parte informatica che crea sempre un po' così di tensione ma appunto perché vanno gestite queste cose e vanno conosciute quindi l'unico modo diciamo per farvi fronte e impossessarsi avere una certa padronanza anche di queste cose e saper dare delle risposte anche soprattutto ai clienti che magari dicono facciamolo così facciamolo colano ecco quindi questo penso che sia veramente molto importante ultima nota Chiara appunto ha parlato del re-speaking quello che in tedesco viene chiamato schriftdolmetschen che è lo speech to text e quindi le varie forme di sottotitolazione dal vivo o in reale che si sta sviluppando parecchio in Italia c'è poco non molto viene fatto ancora per chi ha problemi di udito viene utilizzato più nelle conferenze nei paesi tedeschi di lingua germanica al nord viene usato molto anche nel settore educativo proprio perché si vede una preferenza in certi casi a non usare la lingua dei segni ma piuttosto invece utilizzare anche per i ragazzi che studiano questa forma di sottotitolazione in tempo reale ecco quindi diciamo che quello che si può vedere complessivamente è una gamma molto più estesa di possibilità di mettere a frutto delle competenze interpretative a seconda di dove c'è bisogno a seconda di certi settori e a seconda delle necessità che con il tempo cambiano e si trasformano grazie allora la collega Paola Gentile puoi andare già là è giovane ma sta facendo un sacco di cose tantissime è coordinatrice della sezione di Nellandese questo è stato detto e ha veramente una marcia in più ha un'energia impareggiabile ed è bellissimo averla come giovane collega grazie mille grazie buongiorno a tutte e a tutti sarò molto breve anch'io negli ultimi cinque minuti di questa sessione e vi presenterò i risultati di un sondaggio che ho condotto qualche mese fa e così adesso anche per guardare la prospettiva degli studenti dei nostri laureati di varie generazioni è un appunto un sondaggio che è stato probabilmente compilato da alcuni di voi perché è stato distribuito su diversi canali social e appunto chi ha compilato probabilmente si riconoscerà in alcuni dei risultati che andrò a presentare questo progetto è nato come spin off di un progetto più piccolo che ho seguito con la sezione di inerlandese e tre domande mi sono subito venute in mente quello che volevo chiedere ai nostri laureati cosa pensano i nostri studenti del percorso fatto a scuola di interpreti quali carriere lavorative hanno intrapreso e quali sono le prospettive future di questa laurea o i possibili cambiamenti molto brevemente per chi si è laureato un po' di tempo fa abbiamo ancora il numero chiuso 180 studenti nella laurea triennale ogni anno test di ammissione si può fare adesso in quattro lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo alla magistrale c'è il test di donità la scuola di interpreti continua ad attirare studenti da tutte le regioni italiane e nella triennale si possono studiare tre lingue magistrale in traduzione due e nella magistrale interpretazione due o tre a seconda del curriculum partiamo con i risultati senza ulteriori indugi probabilmente non stupisce che l'ottanta per cento dei nostri laureati sia di sesso femminile la distribuzione dell'età dei rispondenti è abbastanza variegata vedo un certo interessamento degli under 30 è molto interessante per capire insomma quali sono le tendenze più recenti del mercato della traduzione e interpretazione 94 per cento di nostri laureati proviene dall'italia e molti dalle regioni del nord Italia non so se riuscite a leggere adesso ve li dico io perché è stato molto difficile mettere tutto in una slide la domanda la risposta alla domanda se lavora in ambito linguistico in che settore lavora attualmente il 32 per cento traduzione nel mercato privato 21 per cento interpretazione nel mercato privato 11 per cento comunicazione o marketing sempre 11 per cento la quarta colonna insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado 10 per cento insegnamento universitario 8 per cento traduzione presso un'organizzazione internazionale 6 per cento organizzazioni internazionali ma non come interprete traduttore 6 per cento turismo 5 per cento interpretazione presso un'organizzazione internazionale 4 per cento ministero traduttore 3 per cento giornalismo 2 per cento interpretazione interprete presso un ministero 1 per cento diplomazia e 1 per cento camere di commercio questi sono più o meno i profili più diffusi che ho cercato di mettere insieme tutti i dati ho ottenuto circa 522 risposte quindi in ogni caso un numero abbastanza buono dove lavorano i nostri allumni come vedete gli interpreti si distribuiscono un po' di più nel mondo non stupisce che il 26 per cento lavori in Belgio poi Belgio seguito da Germania Regno Unito Svizzera Lussemburgo Spagna Austria Francia Irlanda Paesi Bassi Portogallo Stati Uniti e i traduttori sempre il 20 per cento dei traduttori lavora in Germania seguito dal Regno Unito sempre Belgio Spagna Svizzera Austria Emirati Finlandia Grecia Irlanda Repubblica Ceca questo è un dato molto interessante a mio avviso perché io ho chiesto ai laureati quanto tempo è trascorso dalla conclusione degli studi al primo impiego come traduttore o come interprete e il 63 per cento dei traduttori cioè di chi è laureato in traduzione specialistica afferma che i primi incarichi sono arrivati da meno di sei mesi dalla laurea a differenza di un 51 per cento degli interpreti una delle possibili interpretazioni di questo dato considerate che ci sono stati molti commenti aperti e me ne ho filtrato qualcuno ma insomma è una risposta che sulla quale bisogna ragionare un po' dopo questo laureato in interpretazione afferma dopo la laurea ho iniziato ad inserirmi sul mercato con brevi incarichi principalmente mezzogiornate ma ci vuole molto tempo per acquisire un ventaglio di clienti alternare la traduzione con qualche incarico di interpretazione è fondamentale nei primi periodi quindi insomma molti interpreti vedono spesso la traduzione come un primo passo verso l'acquisizione di clienti anche questa è una domanda molto interessante ho cercato di mettere insieme sia le risposte alle domande qualitative che a quelle quantitative e come vedono i nostri laureati il futuro della professione 65% afferma che ci sarà più integrazione della professione di interprete traduttore con quella di altri profili professionali quindi si va dal marketing economia comunicazione giurista linguista giornalismo poi un 51% afferma che ci sarà sempre più post-editing nelle lingue più diffuse soprattutto l'inglese almeno questi sono i dati che adesso insomma per rispondere anche un po' a David Keaton sì ci sarà post-editing c'è già la realtà 47,95 quindi quasi un 48% più competenze specializzate settori come intelligenza artificiale quindi immagino anche esigenze per i traduttori e interpreti di sapere programmare software e cose di questo tipo 38% più interpretazione da remoto specialmente per incarichi brevi e poi abbiamo un 26% più localizzazione adattamento culturale per i mercati globali 20% più traduzione e interpretazione per lingue rare o non europee e poi un quasi 6% una separazione del mercato degli incarichi in remoto in presenza cioè chi fa l'interprete da remoto non fa l'interprete in presenza o viceversa però queste sono le tendenze generali adesso parlando di formazione l'ultima domanda quali dei seguenti cambiamenti dell'offerta formativa scuola interpreti potrebbero rispondere meglio alle esigenze del mercato e queste sono alcune delle risposte 62% maggiore integrazione con materia di altri corsi di laurea e abbiamo anche noi abbiamo una laurea per giuristi linguisti una triennale quindi un passo in questa direzione già c'è un 60% maggiore attenzione alle nuove tecnologie e sviluppo di intelligenza artificiale un 52% interessante maggiore attenzione ad altre professioni in cui vengono richieste competenze linguistiche quindi non solo traduzione e interpretazione ma anche un altro tipo di figura professionale che usa le lingue ma non necessariamente interprete e traduttore poi abbiamo anche lì interpretazione per i servizi pubblici più contatti con le istituzioni per seminare e tirocini e altre caratteristiche studiare lingue native in passiva più collaborazioni internazionalizzazione maggiore mobilità internazionale quindi più erasmus più opportunità di studio all'estero doppi diplomi eccetera e l'aggiunta di altre lingue di studio come ultima opzione alcune delle risposte ve le ho messe qua se volete ho promesso al professor palumbo di tenere questo powerpoint che potrebbe fungere da spunto anche per i panel del pomeriggio e queste sono alcune delle risposte ce ne sono state più di duecento quindi è un po' difficile fare una una selezione e sì comunque insomma si evince che la scuola interpreti fornisca un'ottima base per per chi lavora in diversi ambiti e che il ventaglio di opzioni possibili lavorative possibili per i nostri laureati si sta ampliando sempre di più e per chi non ha ancora fatto il sondaggio e ho messo il codice QR qui nel caso in cui siate interessati è ancora aperto potete potete farlo grazie 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 Paola penso che questo abbia dato risposte ma sollevi anche delle domande quindi può essere adesso non lo so perché come i tempi mi sembra che siamo arrivati al limite no? Marella sì io pensavo magari due tre domande e se no dopo chi ha delle domande specifiche verso non so per Chiara o per Paola può contattarle anche direttamente dopo ecco quindi va bene quindi appunto che domande ci sono? Prego si si può portare il microfono forse no? Si sente? Sì scusate mi riallaccio quindi al primo intervento della dottoressa Russo che ringrazio io sono una traduttrice e lavoro in ambito giuridico mi chiedevo se degli strumenti che ci ha illustrato che se ho ben capito sono tutti disponibili open source se pongono come nel caso di Google Translate di Pell versione open source problemi di protezione dei dati immessi in questi strumenti grazie ecco scusate da buon interprete non ho acceso il microfono grazie della domanda in realtà forse non mi sono spiegata bene in realtà quelli open source sono quelli di interpretazione quindi in train e rebus e il nostro corpus gli altri sono commerciali quindi gli altri sono commerciali c'è Interpret Bank la Interpreter's Help sono prodotti commerciali buongiorno sono Giuseppe Ruocco ho studiato a Trieste mi occupo di gestione dei servizi di traduzione e interpretazione al Copaco Geica a Bruxelles noi lavoriamo purtroppo ormai quasi sempre dico purtroppo perché non è la mia modalità preferita con l'interpretazione a distanza in riunioni ibride quindi abbiamo sia riunioni con gli interpreti in loco che riunioni a volte con gli interpreti dislocati perché ormai il mercato si sta globalizzando sempre di più e a volte dobbiamo poter sostituire un collega o una collega che purtroppo si trova da un'altra parte per cui visto che sia la professoressa Russo che la professoressa Riccardi hanno menzionato l'approccio che si sta avendo sull'RSI a livello di preparazione io mi chiedevo se poteste dirci qualcosa di più e se magari non lo so si sta già lavorando ad una nuova modellizzazione teorica su un modello de for a 4 o a 5 tempi non lo so grazie se si sta lavorando alla fine vorrevo sapere innanzitutto se potete dirci qualcosa in più tempi permettendo su come approcciate la preparazione degli studenti oggi all'utilizzo delle piattaforme per la RSI e seconda parte della domanda se si sta pensando ad un lavoro di modellizzazione teorica rispetto a quello che diceva anche la professoressa Riccardi sugli aspetti cognitivi la gestione di tutta questa parte che c'è in più adesso per l'interprete da gestire il secondo device le chat che bisogna per forza utilizzare soprattutto quando non si è con il compagno o la compagna di cabina in loco come gestire tutto questo come lo insegnate gli studenti e se c'è un lavoro di modellizzazione teorica che magari prevede un quarto o quinto tempo nel modello de for grazie allora per quanto riguarda la preparazione e l'interpretazione a distanza di due tipi abbiamo l'interpretazione dialogica dove abbiamo appunto sviluppato dei materiali con un progetto europeo Shifting Orality appunto per poter abbiamo prodotto tanti tanti role play specifici anche che affrontano anche dilemmi etici con script preparati o meno insomma e lì abbiamo davvero affrontati tantissimi ambiti dei servizi pubblici quindi noi abbiamo dei moduli specifici proprio per esercitarsi su questo soprattutto per quanto riguarda la dialogica c'è anche un manuale gratuito che abbiamo prodotto da questo progetto proprio la gestione dei turni le aperture il passaggio della perché parli l'altro l'interlocutore insomma come si gestiscono gli aspetti più complessi della comunicazione insomma sulla dialogica una modellizzazione potrei dire che è già abbastanza avanzata non solo da parte nostra ma ormai è una cosa molto più molto diffusa per quanto riguarda invece l'interprezione a distanza devo dire onestamente che come modellizzazione ancora secondo me non ci siamo nel senso che c'è molta pratica quindi come dicevo adesso qui c'è molta prassi la parte della teorizzazione sulla prassi secondo me avverrà ci sta lavorando ci ha scritto e si fanno delle ricerche noi anche in questo caso abbiamo dei moduli l'interpretazione a distanza avanzata dove facciamo sperimentare appunto le piattaforme quindi facciamo conoscere il più possibile attraverso anche l'MCI noi siamo così come Trieste membri dell'MCI quindi con degli European Masters in Conference Interpreting che hanno fatto delle convenzioni anche con dei produttori quindi a turno gratuitamente le nostre scuole possono esercitarsi con queste piattaforme sì insomma li facciamo lavorare sperimentare quello che c'è che c'è disponibile o è stato creato ad hoc dicevo anche questo è un fondamentale lavoro anche degli informatici nostri insomma che hanno sviluppato dei sistemi per poter lavorare da noi facciamo dei seminari che sono un po' mirati e che sicuramente non danno le competenze ancora danno però diciamo un'indicazione di come funziona e delle difficoltà che questo comporta ecco c'è da dire che ci sono in corso tutta una serie di ricerche ancora che affrontano la problematica proprio del professionista che lavora quindi l'aumento della fatica per esempio e quindi da lì ci sono indicazioni per fare dei turni più brevi quello che si sta affermando dicevo prima anche tante volte è proprio c'è una nicchia di lavoro in più sicuramente da parte di aziende che probabilmente in passato non avrebbero usato l'interpretazione simultanea e lo fanno invece per delle cose appunto di breve durata e quindi lì c'è qualcosa sicuramente in più quello che si vede anche è che c'è l'ibrido c'è e rimarrà sicuramente e con questo bisogna un po' fare i conti secondo me è un momento di evoluzione proprio anche da parte delle istituzioni proprio per educare di più gli oratori anche a parlare e con che strumenti farlo di cosa c'è bisogno e dove viene detto che se certe cose non sono rispettate può essere che non venga interpretato per esempio anche quindi ci sono vari movimenti un altro un altro diciamo un seminario che si era fatto anche per capire in che misura anche l'interpretazione l'insegnamento a distanza vada bene ecco lì quello che era venuto fuori era che le competenze per l'interpretazione consecutiva e soprattutto simultanea sono di un certo tipo per cui meglio vanno consolidate assolutamente in presenza e dopo semmai appunto aggiunte insomma diciamo che la parte di remoto la parte di cose extra difficilmente si può apprendere proprio già nel corso di studi ci vogliono troppe ore insomma diciamo rispetto alle ore che abbiamo già fare quello che arrivare alla fine degli studi con una buona competenza non è sempre facile e quindi quello è qualcosa che dopo se viene indicato un metodo dopo la persona può farlo per conto proprio almeno questo è il momento certo che il desiderio il desiderato sarebbe appunto di poter far di più questo sicuramente possiamo sì penso che abbiamo raggiunto un sì prima di chiudere devo dire però solo una cosa che io dovevo porgere i saluti dovevo farlo all'inizio invece arrivo alla fine porgere i saluti da parte di due colleghi che non hanno potuto essere qui presenti che ne erano naturalmente anche molto dispiaciuti la professoressa Caterina Falbo e il professor Maurizio Vietzi che avevano degli impegni di varia natura che non hanno potuto in qualche maniera spostare e quindi essere qui presenti però desideravano appunto che vi facessi sapere che vi salutavano tanto che erano contenti insomma di questa occasione grazie l'idea di queste due tavole rotonde era di riunire un gruppo di laureati di persone che si sono laureate come molti di noi quasi tutti di noi penso negli anni alla SSLMIT e di farci raccontare un po' le loro esperienze professionali se volete questa può costituire una ideale prosecuzione del discorso che aveva iniziato stamattina Paola Gentile facendo un po' il punto sui suoi risultati derivanti dal sondaggio che ha eseguito con domande fatte a chi si è laureato alla SSLMIT io non voglio parlare più di tanto voglio veramente soltanto limitarmi a moderare eventualmente la discussione troveremo il modo anche di lasciare spazio a voi per commenti osservazioni e domande abbiamo deciso di seguire un democratico ordine alfabetico per i brevi interventi Alessandro vuoi cominciare tu puoi andare se ti serve il computer puoi andare al si ok il microfono lo devi accendere ok Nicola Valde mi ricordava di ricordarvi di non allontanarvi troppo dal microfono Alessandro il loro breve profilo bio è disponibile online nella versione online del programma non lo ripeto magari lascio loro dire due parole di presentazione l'idea è che ciascuno di loro parli per una decina di minuti e che questo poi ci consenta di fare una discussione con il pubblico Alessandro la parola a te grazie di essere venuto grazie a voi per l'invito è particolare essere qui a parlare con questo pubblico conferenze ne faccio tante presentazioni tante ora ok dicevo è particolare essere qui con questo pubblico perché pur facendo un sacco di conferenze interventi presentazioni clienti avere di fronte ex colleghi e soprattutto ex professori lascia un po' lascia un po' di emozione parlerò un po' a braccio e ho un grosso problema quindi Giuseppe su questo devi fare attenzione tu parlo troppo a un certo punto sparami spagni il microfono fai tu esatto allora io sono classe 97 come iscrizione alla scuola per interpreti e traduttori con il mio gruppo laggiù e anche di là ho fatto traduzione sono arrivato alla scuola per interpreti e traduttori un po' in ritardo e anche un po' per caso devo dire la verità nel senso che in ritardo perché ci avevo provato e non mi hanno voluto al primo esame da missione al secondo invece ce l'ho fatta e sono quindi finalmente riuscito a entrare alla scuola un po' per caso perché forse non ho mai sentito particolarmente la vocazione del traduttore o del linguista però era una cosa che mi veniva relativamente naturale e quindi ho detto proviamo e vediamo e la relazione con la la scuola è stata abbastanza turbolenta devo dire la verità soprattutto all'inizio e in una certa fase però anche molto molto bella ricordo il primo anno traduzione dall'inglese all'italiano professoressa Argenton traduzione di Agatha Christie era divertentissimo quindi lì ho cominciato ad appassionarmi a dire però questa cosa della traduzione tutto sommato scrivere poter riprodurre contenuti concetti in una lingua diversa è affascinante i primi due anni sono andati abbastanza bene anche con la professoressa Montero di cui abbiamo parlato questa mattina uno dei grandi dei grandi esempi anche bei momenti conoscere professori di un certo tipo conoscere Sara Mago che non so se ve lo ricordate che la professoressa Montero aveva portato sono stati molto dei bei momenti però a un certo punto mi sono un po' perso perché ho detto ma veramente devo fare traduzione ho fatto un Erasmus in Spagna e al ritorno ho detto ma anche no facciamo altro e mi sono staccato dalla scuola quindi dopo il secondo anno di fatto io ho un po' interrotto gli studi e ho cominciato a cercare varie opportunità varie nel senso più un lato che possiate immaginarvi da potenziale cuoco in un ristorante a Barcellona a scrivere un libro di cucina vegan il primo in Italia a fare traduzioni fare corsi d'inglese fare un po' di tutto e la traduzione però è tornata è tornata in che modo che mi sono impegnato nella localizzazione in italiano di Omega T e di Open Office Omega T è un cat tool open source e Open Office è una suite di prodotti d'ufficio tipo Microsoft Office open source anche quella e ho iniziato così a fare le prime traduzioni dei manuali poi ho cominciato a coordinare le persone e in breve tempo avevo un team di oltre 100 persone sparse in Italia che collaboravano volontariamente alla traduzione di Open Office e mi sono detto beh tutto sommato di nuovo questa cosa della gestione della creazione di contenuto in italiano mi piace e l'ha notato anche Sun Microsystems Sun Microsystems era una multinazionale che sviluppava Open Office e che mi ha assunto come language lead prima ancora che io avessi fatto metà del percorso di studi qui quindi è tornata in un certo senso l'idea di lavorare in quest'ambito e quindi ho ripreso gli studi sono riuscito a terminarli ho completato con una tesi proprio nella localizzazione del software open source nel crowdsourcing con la professoressa Scarpa e la correlatrice Musacchio e da lì poi è iniziata l'avventura però appunto io l'ho sempre vissuto in un modo un po' particolare non ero il linguista appassionato di comunicazione di lingue di letteratura guardavo più l'aspetto tecnico e soprattutto mi chiedevo ma che problema sto cercando di risolvere qui cioè perché devo dedicare la mia vita alla traduzione alle lingue e negli anni ci ho ragionato parecchio ma la definizione chiara è arrivata relativamente di recente ed è il concetto di poter capire ed essere capiti nella propria lingua quindi non il dover parlare una lingua altrui ma avere gli strumenti e il supporto per poter parlare e capire sempre nella propria lingua che è un grande vantaggio competitivo quando si opera in mercati internazionali e si lavora con persone soprattutto anglofone e loro hanno un vantaggio competitivo e come lo recuperiamo dobbiamo faticare per parlare una seconda lingua che è un effort cognitivo poi dobbiamo metterci sopra tutta la competenza tecnica la voglia di ottenere dei risultati eccetera ma ci manca il pezzo iniziale invece se noi risolvessimo il punto del capire ed essere capiti nella nostra lingua a livello globale la società in sé migliorerebbe molto e quindi questo elemento qui è quello che mi ha un po' guidato in questi anni ora lavoro a Translated Translated è una società di traduzione facciamo servizi e tecnologia di traduzione abbiamo sede a Roma siamo la principale in Italia bla 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 vi dovrò parlare un po' di Translated ma solo perché quando io sono arrivato eravamo 12 persone oggi siamo 200 e in questi 16 anni l'ho fatta molto mia quindi la sento mia per quello ne parlo scusate non vuole essere un pitch pubblicitario però questa idea del capire ed essere capiti in che modo si converte nella realtà si converte che ovviamente traduciamo forniamo servizi di traduzione ma sviluppiamo anche tecnologia e io come linguista in che modo posso contribuire che cosa ho imparato nella mia carriera per poter dare una mano in qualche modo al raggiungimento di questo obiettivo anche con la tecnologia sviluppiamo molta tecnologia facciamo un cat tool quindi nel 2011 dopo aver contribuito alla diffusione di Omega T nel 2011 ho creato MateCat che è il primo cat tool online non so forse qualcuno di voi lo userà ed è stato interessante perché da linguista sono passato a fare prodotto e che c'ha zecco non so quasi nulla di tecnologia vabbè sono un po' di programmazione ma non sono ingegnere non ho mai sviluppato un prodotto come faccio a sviluppare un cat tool beh perché avevo dieci anni di esperienza a quel punto di traduzione anche in vari ambiti anche per il Parlamento europeo piccola nota ero l'esperto mondiale di pesca nel bar baltico per il Parlamento europeo una noia terrificante però era quello che dovevo fare quelle competenze linguistiche cioè di capire in che modo il traduttore professionista debba interagire con una macchina è stato il mio vantaggio competitivo questo termine ritorna nel lavorare allo sviluppo di quel cat tool quindi quel tool all'epoca stiamo parlando del 2011 ora è vecchiotto ma all'epoca aveva tutta una serie di elementi che erano basati su come noi traduttori professionisti lavoravamo su una certa tipologia testuale poi dopo quello ho continuato anche il mio lavoro di management quindi le mie competenze linguistiche e culturali sono state molto utili anche nello sviluppare il mio team di lavoro a Translated e poi nel 2014 ci siamo detti io e il fondatore abbiamo fatto il cat tool che ci manca la traduzione automatica capite bene che cat e cat la traduzione automatica machine translation è di Marco Trombetti MT quindi ci mancava quel pezzo che è il fondatore dell'azienda e la traduzione automatica anche lì come linguista è una minaccia oppure è una grande opportunità che cosa posso fare io come linguista per far sì che la traduzione automatica sia utile sia migliore di certi esempi che conosciamo tutti beh aggiungo alla tecnologia standard che usano Google Facebook o altri che hanno un certo obiettivo cioè di un prodotto generalista aggiungo le competenze di un professionista del settore un traduttore che cosa fa quando si trova davanti a un testo da tradurre non traduce frase per frase ha bisogno del contesto ha bisogno della terminologia ha bisogno di esempi precedenti ha bisogno delle guide di stile e piano piano noi nel nostro sistema di traduzione automatica abbiamo aggiunto questi pezzi quindi abbiamo cercato di convertire una tecnologia in modo che potesse passatemi il termine per quanto impreciso ragionare come un traduttore e poi siamo arrivati al 2016 e quei cattivoni di Google si sono inventati i transformer e le reti neurali e io non sapevo più che fare perché come linguista non valevo nulla e mi sono ritirato nel mio angolino a fare operations quindi a gestire la produzione finché non è arrivato Ciao GPT Ciao GPT che abbiamo visto questa mattina ne stavo parlando anche a pranzo con David Catan col professor Catan che è uno strumento estremamente interessante ma è interessante perché riapre un mondo di opportunità per chi come noi capisce bene le lingue capisce bene le culture capisce bene la comunicazione sottolino il bene perché purtroppo molti dei candidati che mi arrivano quando devo assumerli il bene se lo sono scordati nel senso che lo capiscono così così ma chi capisce profondamente che cos'è la traduzione la linguistica la comunicazione vera con uno strumento come Ciao GPT fa la differenza e la cosa più interessante che ho scoperto è che battiamo di gran lunga gli ingegneri gli ingegneri hanno sempre avuto il potere sviluppavano il Cattu sviluppavano l'MT con Ciao GPT quando è uscito i nostri ingegneri si volevano licenziare tutti hanno visto vabbè adesso arriva OpenAI poi Google ne farà un altro Facebook ne ha rilasciato recentemente un modello fantastico quindi saluti andiamo a lavorare a vendere birra a fare altre cose ma la verità è che quelli sono strumenti che ci aiutano a risolvere un problema ma se non capiamo veramente il problema di quegli strumenti ce ne facciamo poco e allora noi linguisti capiamo bene il problema della comunicazione capiamo bene che cosa significa capire ad essere capiti nella propria lingua ed è lì dove io e altri linguisti abbiamo ripreso il controllo l'esempio che ha fatto questa mattina il professor Catan della traduzione parziale ed errata è perché mi perdoni se lo dico così ma ha usato male lo strumento il Large Language Model non è un sostituto della traduzione automatica è un'entità diciamo così che ha una parvenza di intelligenza io non credo nell'intelligenza artificiale però vi uso questi termini per spiegarvi il concetto quando lavoriamo con CHGPT l'importante è capire che stiamo parlando con una persona con potenziale uno stagista a cui dobbiamo spiegare come fare il lavoro allora l'esempio del professor Catan come l'avrei risolto io con il prompt avrei detto sei un traduttore professionista specializzato in ambito legale in passato hai tradotto questi esempi vi faccio gli esempi hai usato queste guide di stile questa terminologia e ora traduci questo gli ingegneri non sanno nulla di tutto questo che io ho detto finora quindi i nostri ingegneri sono totalmente incapaci di guidare un Large Language Model per la traduzione perché non hanno quello che noi abbiamo imparato qui e questo elemento è quello che io cerco di comunicare quando dico non abbiate paura della tecnologia perché che vi rubi o meno il lavoro come traduttori è possibile come non è possibile possono avere varie teorie dipende dal contesto eccetera ma l'elemento fondamentale della comunicazione di che cos'è veramente scusate qui mi alzo non per una questione di effetti mi devo soltare un attimo che cos'è veramente essere umani che cos'è veramente comunicare è una cosa che probabilmente noi come linguisti come umanisti siamo in una posizione molto migliore rispetto agli ingegneri rispetto agli uomini di processo quelli freddi come me che la mia collega Giorgia ogni tanto mi critica che ottimizzo solo i processi per estrarre valore dai traduttori ok in realtà dietro c'è un motivo ed è quello del capire come si comunica ora mi alzo appunto non per effetto chiedo a Nicola Valdevit che forse è nascosto se puoi attivare lo schermo e l'audio anche se possibile quindi qui concludo due minuti di video e non di più però questo video noi abbiamo fatto tre anni fa due anni fa un video che si chiamava Lara la ragazza che parla tutte le lingue del mondo io l'ho usata con mia figlia quattro anni in una scuola trilingue parla come italiano con la madre francese la scuola studia anche l'inglese però non voleva parlare francese le ho fatto vedere Lara questa bambina che parla qualunque lingua del mondo e ha detto questo qui è il mio superpotere e ha iniziato sapete i bambini hanno solo bisogno dell'A e questo è il nostro sforzo successivo abbiamo detto ok parliamo tutte le lingue ma la verità è che che cos'è che ci distingue veramente dalla macchina che cos'è che fa sì che la comunicazione sia un qualcosa di profondamente umano e ve lo lascio con queste immagini spero che funzioni tutto intanto e poi poi magari ne parliamo dopo che cos'è che cos'è che cos'è And then you just know, face to face, when feeling's just right, needs no explaining, I know you can see, oh, how to ride. And then you grow, you see me, you heal me, and it makes me glow, I go by the look in your eyes, home by the river, Hold me, be my mirror, love, can you feel me? This is a human touch. And then you just know, face to face, when feeling's just right, it makes me feel me. And then you just know, face to face, when feeling's just right, it makes me feel me. prima della machine translation poi, adesso dice a GPT, però la verità è che siamo sempre noi che dobbiamo capire che cos'è la comunicazione vera e in questo gruppo di persone, questo tipo di studi è dove effettivamente capiamo che cosa fa l'essere umano e come quindi possiamo aiutare la società ad andare avanti. E questo era il PC. Grazie Alessandro. Passo velocemente a Stefano perché non vorrei rubare la parola. Stefano, tra loro quattro tu sei l'unico che non lavora in un ambiente ad alto tasso di tecnologia, si può dire così? Si può dire che non è un ambiente ad alto tasso di tecnologia. Sì, parlerò anch'io, abbraccio qui nella stessa preghiera di Alessandro di interrompermi dopo dieci minuti. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sono Stefano Musilli, sono un laureato di scuola interpreti, mi sono immatricolato nell'anno accademico 2006-2007. Dopo scuola interpreti ho lavorato per circa dieci anni in ambito editoriale come traduttore, ho avuto anche una breve parentesi come docente a contatto scuola interpreti e da circa due anni e mezzo lavoro al Consolato Generale dei Paesi Bassi e più precisamente nell'Ufficio Cultura del Consolato Generale dei Paesi Bassi. Io ho una storia un po' diversa da quella di Alessandro, nel senso che la mia è stata una storia molto lineare. Io avevo effettivamente una vocazione che avevo avvertito fin da giovanissimo per la traduzione, era un avidissimo lettore, mi piaceva molto scrivere, mi piacciono le lingue. Come tutti gli avidi lettori avevo un libro che mi ha trasformato in un lettore, secondo me. E questo libro, peraltro, è lo stesso libro che mi ha trasformato in un traduttore editoriale in divenire. Questo libro era Le Correzioni di Jonathan Franzen, tradotto in italiano da Silvia Pareschi, una traduzione meravigliosa. Mi ricordo i brividi che avevo le leggere le primissime pagine all'incipit di questo libro, pensando a 14 anni, anche io voglio fare questa cosa, questa cosa mi piace tantissimo. Non immaginando, insomma, mai che, pure amando la scrittura, che avrei mai scritto qualcosa di mio pugno, mi piacera proprio l'idea di essere a servizio della creatività di qualcun altro, che poi in realtà è un filo rosso che mi ha accompagnato fino ad oggi, in tutta la mia carriera. Quindi sì, sono arrivato a Trieste avendo in mente che volevo diventare un traduttore letterario, ho studiato, mi sono iscritto, sono entrato con inglese, ho scelto un irlandese come seconda lingua. In realtà gli anni in cui poi ho messo da parte un po' questo sogno di traduzione letteraria sono stati proprio quelli dell'università, diciamo, in cui ho cominciato invece a appassionarmi di interpretariato e di tante altre cose, di traduzione specialistica, e questi cinque anni di università li ho vissuti appunto mettendo un po' da parte questo desiderio che avevo in adolescenza. Finché poi non sono uscito dall'università e come tanti di noi quando escono dall'università mi sono ovviamente trovato di fronte a, insomma, un, diciamo, un foglio bianco che dovevo vedere come riempire, e a quel punto è tornato in mente il sogno della traduzione letteraria. Mi sono iscritto successivamente anche a un master di traduzioni di testi postcoloniali, perché, insomma, immaginavo di voler aggiungere anche l'Africanza, la mia combinazione linguistica, insomma, tutta una serie di fantasie che poi non tutte si sono realizzate, diciamo, però effettivamente poi col tempo, piano piano lavorando, perché non è proprio un mercato dei più permeabili, pur essendo un lavoro ingrato sotto molti punti di vista, è poco desiderabile da molti punti di vista, è un mercato molto poco permeabile, ma forse anche grazie al fatto che ero in irlandese nella mia combinazione linguistica, che non è proprio una lingua frequentatissima nel mercato editoriale, ho fatto le prime proposte, letto dei romanzi che mi sarebbe piaciuto tradurre, trovato l'editore adatto al quale proporli, e piano piano sono uscito dalla mia prima traduzione, finché, insomma, nel corso degli anni non ho tradotto circa una trentina di libri, soprattutto romanzi, soprattutto dall'erlandese, ultimamente continuo a tradurre perché comunque dalle passioni non ci si dimette, diciamo, e quindi un libro all'anno, come me lo concedo, ma più saggistica che altro, perché altrimenti diventa veramente troppo complesso affiancare due lavori, diciamo. Poi, ecco, ho avuto questa breve parentesi di docenza a scuola interpreti, durante la quale mi sono divertito tantissimo, mi divertivo come un matto, sono stati due anni molto belli, purtroppo sono stati anche, in realtà il mio primo anno da docente è stato il 2019, quindi poco dopo è arrivato il Covid, è arrivata la didattica a distanza, ha tolto oggettivamente un po' di piacere anche a questa attività, e cominciamo un po' a patire in realtà la solitudine, perché la traduzione letteraria è un lavoro molto molto solitario, nel quale si lavora un singolo progetto per mesi, e si lavora generalmente nel chiuso della propria stanza, si continua a lavorare sotto la doccia, si continua a lavorare quando si fa fare la spesa, perché si ragiona sempre su traduco così o traduco cosà, eccetera. E proprio in quel momento il caso ha voluto che si aprisse una posizione al Consulato Generale dei Paesi Bassi, perché la mia predecessora, dopo 28 anni di servizio, è andata in pensione, e quindi mi sono imbattuto in questo annuncio in cui si cercava appunto una persona che parlasse inglese, italiano e olandese, e che avesse preferibilmente tra i 30 e i 40 anni, che avesse almeno 4 anni di esperienza in ambito culturale. Ecco, e nonostante sembrasse effettivamente proprio il mio profilo, mi ponevo molti dubbi, perché prima di tutto io non avevo mai lavorato in una squadra, era una cosa per me completamente nuova, che mi faceva molta paura, e durante i colloqui dicevo anche, ma sicuri che sia la persona adatta a questo mestiere? Ed era un ambito completamente nuovo per me, quello diplomatico. Anche se una declinazione particolare della diplomazia, perché la diplomazia oltre ad essere quella fra istituzioni, fra organi politici, organi istituzionali, quindi la diplomazia in senso più stretto, oppure quella che chiamiamo diplomazia pubblica, cioè quella dagli organi istituzionali verso il pubblico, si tratta di diplomazia culturale. La diplomazia culturale è un contesto nel quale noi come istituzione ci rendiamo intermediari, in realtà, fra organizzazioni italiane e organizzazioni olandesi, in questo caso, artisti olandesi, organizzazioni italiane e via dicendo. I Paesi Bassi hanno una politica culturale internazionale molto ricca, molto attiva, molto convinta anche nei principi dai quali prende le mosse, diciamo. C'è un'infrastruttura a sostegno della cultura nei Paesi Bassi che è molto solida, molto composita. Adesso forse avrete visto come sono andate le elezioni, quindi è un momento di incertezza, perché il primo partito olandese nel programma, la voce cultura, ha scritto semplicemente aboliamo ogni forma di sostegno pubblico alla cultura, quindi vediamo cosa succederà quando i negoziati per la formazione del nuovo governo porteranno anche a un accordo programmatico e quindi alla definizione di una nuova politica culturale internazionale. Ma per adesso, in realtà, noi ci divertiamo molto, ci divertiamo molto perché abbiamo moltissimi mezzi, perché abbiamo, in realtà, da una parte una produzione molto vivace, che è quella, la produzione culturale olandese, molto vivace, anche in ragione del fatto dell'infrastruttura a sostegno della cultura di cui vi dicevo. Produce buona cultura questa infrastruttura, perché nel momento in cui gli artisti creativi hanno una rete di sicurezza così solida, possono anche, secondo me, permettersi di fallire. Possono quindi anche correre rischi maggiori, possono essere audaci, non hanno il problema di stare sempre con l'acqua alla gola e quindi possono dare effettivamente sfogo alla propria creatività. Dall'altro, l'Italia, forse, sempre in ragione del fatto, invece, questa volta, che il sostegno, l'infrastruttura, il sostegno della cultura è un po' più debole, per usare un eufemismo, c'è un tessuto culturale di persone che si occupano di questo tema che è vivacissimo. Ci sono tantissimi festival, ci sono tantissime organizzazioni, tantissime iniziative che partono dal basso e che sono molto ricettive, molto aperte verso l'esterno. Quindi noi accompagniamo il dialogo, sostanzialmente, fra organizzazioni italiane e artisti, in primo luogo olandesi, che vogliono operare in Italia. Lo facciamo in una maniera, diciamo, abbiamo tre punti, tre obiettivi, perché ovviamente siamo una rappresentanza diplomatica e quindi non siamo una fondazione, non siamo un fondo in senso più stretto. Abbiamo tre obiettivi che sono, oltre ovviamente, quello di incrementare la visibilità del comparto creativo olandese in Italia, quello di favorire le relazioni bilaterali attraverso la cultura e terzo obiettivo, quello di promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la cultura. Come dice sempre il mio amatissimo collega Rova, e dal quale ho imparato tutto quello che sta sul mio lavoro, noi non siamo la Corea del Nord, quindi le nostre forme di sostegno alla cultura non sono ovviamente veicolate, non hanno l'obiettivo di sostenere qualcuno piuttosto che qualcun altro, oppure favorire le posizioni del governo olandese. Tante volte abbiamo sostenuto, anzi, autori, artisti molto critici nei confronti dei Paesi Bassi. Forse qualcuno di voi che è appassionato di atti visivi conosce Jonas Stau, io recentemente sono stato un suo progetto che ha avuto il nostro sostegno, nel quale Jonas Stau ha immaginato questa corte penale dei crimini climatici intergenerazionali, una vera e propria corte, una messa in scena di una corte, ma effettivamente con testimoni, con prove e via dicendo, in cui il primo, al banco degli imputati, c'era lo Stato olandese, partiva dallo Stato olandese, poi Schell, poi Heineken, insomma, usiamo, attraverso la cultura ovviamente non vogliamo migliorare la nostra immagine, ma vogliamo invece favorire il dialogo. E devo dire che è una forma di diplomazia che è estremamente appassionante, in cui c'è anche spazio per la creatività, noi ovviamente ci mettiamo sempre cose nuove per rendere più, anche per noi, anche più piacevole il nostro lavoro, diciamo. Questo anno si sta chiudendo, per esempio, un programma molto ampio sulla cultura per le nuove generazioni. È un programma multidisciplinare, letteratura, cinema, arti performative, soprattutto arti performative, ma anche partecipazione culturale. E questo programma si chiama Futuro Presente, cominciato a marzo di quest'anno, si chiuderà l'ultimo evento, credo che sia il 28 dicembre, se non sbaglio. Ci sono state 90 attività nel corso di tutto il 2023, l'abbiamo chiamato Futuro Presente, proprio perché per scardinare un po' il luogo comune per cui le nuove generazioni sono il futuro. Ok, sono il futuro, ma sono anche il presente, hanno la cittadinanza del presente, non diciamo che sono il futuro per escluderle dal discorso pubblico attuale. E devo dire che in tutto questo abbiamo anche forse per certi versi gioco facile in quello che facciamo, perché come dicevo c'è una curiosità reciproca fra Italia ai Paesi Bassi e una prova di questo è che due settimane fa è stato presentato il rapporto sulla politica culturale internazionale alla seconda, alla Camera Bassa dei Paesi Bassi, da cui è emerso che l'Italia è il paese con più progetti di cooperazione culturale sostenuti da istanze pubbliche. Quindi da noi, dalle fondazioni culturali olandesi e dal New Way Institute, un museo di architettura di Rotterdam, se ci capitate, è uno dei miei posti preferiti al mondo, visitatelo. Insomma, quindi, non ci annoiamo, diciamo, non ci annoiamo e abbiamo modo di, oltre a sostenere cose intrinsecamente belle, perché ovviamente la cultura ha un valore intrinseco, e l'arte ha un valore intrinseco che non dimentichiamo mai, abbiamo modo anche di promuovere dibattiti su temi importanti attraverso strumenti che non sono forse quelli della diplomazia classica. E riusciamo in questo modo anche a mettere in agenda cose che altrimenti sarebbe più difficile, messaggi che altrimenti sarebbe più difficile di far passare. Adesso c'è, per esempio, una transizione molto faticosa in atto, ma che confido che avrà luogo in maniera definitiva entro qualche anno, dal concetto di sostenibilità a quello di rigenerazione. Cioè, noi siamo adesso, è chiaro, a chiunque si occupi di questi temi, che la sostenibilità è un concetto ormai insufficiente. Se noi semplicemente ci limitassimo a contenere il danno, a contenere la nostra impronta ecologica, comunque, le prospettive non sarebbero rose. Dobbiamo compensare. Quindi non si parla più di sostenibilità, ma di rigenerazione. E il discorso sulla rigenerazione, per esempio, è un discorso che è partito dal comparto creativo. Le idee all'avanguardia, diciamo, spesso hanno origine in nicchie come quelle dell'arte, della cultura, per poi passare alla cultura nel senso più ampio, passare attraverso il diritto all'opinione pubblica, al dibattito pubblico e infine, infine, questo è quasi sempre l'ultimo passaggio, è quello politico. Grazie. Stefano, grazie. io e te non ci conoscevamo tanto, mi piace perché ci hai dato uno spaccato di politica culturale che è un tema al quale sono personalmente recentemente molto interessato, anche perché spesso si appoggia alla politica culturale, alla traduzione, all'attività dei traduttori. Grazie, grazie ancora. Avete visto che, forse, qualcuno ha notato che quando Alessandro Catteran parlava, ogni tanto faceva segno verso questa parte del tavolo quando si riferiva ai colossi dell'informatica. e le prossime due relatrici sono rappresentanti di se stesse innanzitutto, ovviamente, ma anche di due colossi dell'informatica, Chiara Pacella di Meta e Chiara Vanone di Google. Chiara, lascio a te la parola. Grazie. Salve a tutti. Chiara, anno 2001, un anno che all'Aslimit è iniziato con il botto nel vero senso della parola, perché il nostro esame di emissione fu l'11 settembre 2001. Abbiamo alcuni rappresentanti qui. E io volevo fare un inizio un po' teatrale. È proprio in quest'aula che esattamente 20 anni fa ho scoperto la mia passione per la localizzazione. Ma in realtà non era proprio quest'aula, l'aula magna di Via Filzi, perché non ricordo esattamente quale professore del nostro corso aveva organizzato un incontro con un'azienda emergente del momento chiamata SDL che produceva uno dei primi cut tool sul mercato in espansione e rimasi affascinata da questo incontro dall'idea di intersezione tra le lingue e tecnologia. E, ironia della sorte, il ragazzo che venne a fare questa presentazione in Aula Magna diventò poi qualche anno dopo mio collega presso SDL perché appunto a partire da quell'esperienza capì di voler seguire questa strada che in Italia era ancora abbastanza chiusa infatti in seguito alla laurea triennale presso la scuola decisi di andare all'estero per fare uno dei primi master in traduzione assistita anche se non era brandizzato come tale e fu un'esperienza presso l'università di Leeds nel Regno Unito e fu un'esperienza che appunto mi aiutò a capire aspetti che andavano al di là della traduzione e che ancora non avevano un nome in molti casi che volevo conoscere meglio e quindi da lì ho iniziato a cercare di capire come introdurmi in questo settore ancora un po' scuro in fase di sviluppo e appunto finì per trovare modo di iniziare a lavorare per questa azienda che ormai è stata acquisita in un gruppo molto più grande prima da adesso fa parte del gruppo RWS che è un grande multilingual vendor che è un fornitore probabilmente anche di Google di tanti insomma giganti della tecnologia iniziò a lavorare nel settore dei videogiochi e tanti traduttori probabilmente tanti qui ci saranno passati anche quindi traduzione di in-game di videogiochi passando poi per la parte marketing e mi ritrovai casualmente ad essere una delle poche persone in sede SDL che era abbastanza piccola ad avere un account per questo sito nuovo chiamato Facebook che mi era capitato di aprire quando ero ancora all'università e ci venne presentato da una delle project manager che gestivano i progetti che eravano in SDL come un approccio innovativo alla localizzazione perché Facebook chiedeva ai propri utenti di tradurre le stringhe della propria interfaccia quindi persone assolutamente non integrate nell'ambito della traduzione e poi chiedeva a noi professionisti di rivedere queste traduzioni e di mandarle poi live sul sito essendo io l'unica praticamente che aveva un account Facebook al momento mi venne dato questo progetto un paio d'ore a settimana che poi diventarono quattro otto e niente a un certo punto arrivamo un momento in cui i contenuti cominciavano a crescere arrivano sempre più progetti e questo mi portò a anzi questo mi porta a fare un'altra affermazione che troverete un po' scioccante tra il 2010 e il 2017 penso di essere stata la scrittrice italiana più letta al mondo quanti di voi usano Facebook Instagram o Whatsapp quanti di voi li usano in italiano capite perché ho fatto questa affermazione certo in alcuni casi si tratta di pura traduzione in altri casi l'approccio che dobbiamo prendere per l'adattamento culturale di prodotti che vengono sviluppati principalmente da creatori di contenuti americani con una mentalità che veramente ha difficoltà a pensare al di là dei propri confini è abbastanza complesso avrei delle slide posso Nicola pronti il computer per favore per la proiezione di slide ma però qui siamo sul video dovrebbe essere nel drive ah perfetto allora un piccolo quiz faccio interattiva quanti di voi saprebbero sciogliere questo acronimo non vi dice niente globalizzazione internazionalizzazione localizzazione traduzione come una matrioska con globalizzazione ci riferiamo a praticamente il concetto delle aziende multinazionali è una strategia di espansione in mercati globali l'internazionalizzazione è una pratica di sviluppare prodotti che possano essere facilmente adattati a questa strategia di globalizzazione mentre gli ultimi due localizzazione e traduzione sono processi di appunto adattamento di tali prodotti questi sono alcuni esempi di quello che ho menzionato poco fa ovvero di situazioni in cui un approccio di trasferimento di un messaggio da una lingua all'altra richiede più della traduzione richiede veramente riflettere su come far funzionare il messaggio in una cultura diversa questa ad esempio è una campagna di marketing che abbiamo fatto qualche anno fa per spingere le aziende del fashion retailer a fare pubblicità su Instagram e come vedete questo è l'approccio creativo che abbiamo preso bisogna considerare anche che ci sono spesso limitazioni di spazio grafiche altri esempi sono funzioni che lanciamo questo ad esempio su Instagram è una funzione che permette di quando si vede la storia di qualcuno rispondere a quella storia con una storia simile non so pubblichi la storia di un cielo e inviti gli utenti i tuoi amici i follower che vedono la tua storia a pubblicarne uno inizialmente quando mi è stata presentata questa stringa aggiungi il tuo abbiamo sempre il problema del maschile e femminile nelle lingue che fanno questa differenziazione e alla fine in italiano sono arrivata a fare una richiesta di tocca a te falla tu adesso una storia come questa e questo è l'ultimo esempio che ho di appunto localizzazione in cui durante la pandemia avevamo lanciato degli sticker per ringraziare gli eroi che negli ospedali facevano turni senza fine per per far fronte alle esigenze della pandemia e abbiamo provato con grazie grazie eroi insomma proprio non funzionava in italiano e alla fine siamo arrivati ero in corsia niente quindi l'internazionalizzazione e poi le pratiche della localizzazione della traduzione sono per me un mondo molto affascinante mi ha affascinato così tanto che ho deciso di fare dei figli col pulsante localizzazione on questi sono i miei bambini nati all'estero nati e cresciuti in Irlanda che come vedete si mimetizzano benissimo tra i tifosi di calcio irlandesi anzi se lo chiedete si definiranno irlandesi ma non dicono mai no a un bel gioco di petanque dato che il loro papà è francese e quando vengono a Roma hanno un accento peggio del mio e riescono anche a mimetizzarsi in culture che non sono le loro come in Giappone grazie Chiara grazie un minuto un minuto allora in realtà un altro aspetto che voglio toccare molto velocemente è quello del riprendendo qualcosa detto precedentemente dal professor Catan è quello dell'uscire dalla propria comfort zone si è parlato già abbastanza di intelligenza artificiale generativa machine translation e un mio invito questo soprattutto per gli studenti di oggi per le facce giovani che vediamo in questa in quest'aula a prendere queste come sfide come sfide positive perché continuere ad vedere acronimi come quelli e molto più complessi che continueranno ad uscire adesso in azienda e in meta è quasi ridicolo il modo in cui parliamo sono tutti acronimi MTP tipi ma sono tutte pratiche a cui è inutile rinunciare cioè è inutile cercare di opporsi perché è così che sta volvendo il paesaggio e è giusto che ci si adatti un mio invito è consideratevi linguisti è vero che state facendo una formazione da traduttori e interpreti ma quello di cui l'industria aveva sempre più bisogno sono profili molto più ampi e adesso dei progetti ad esempio che stiamo facendo in meta è l'adattazione di asset terminologici o guide di stile affinché possano essere utilizzati dai comandi che vengono forniti alla macchina per generare le prime traduzioni che poi vengono passano per post editing e per fare questo c'è bisogno di umani come voi che abbiano le conoscenze linguistiche che state acquisendo e che però le sappiano le sappiano utilizzare in modo creativo quindi abbracciate questo è un bel calco queste nuove opportunità non abbiate paura ti ringrazio e mi dispiace averti dovuto interrompere proprio quando stavi cominciando a dare dei consigli molto concreti e utili agli studenti spero che poi abbia l'opportunità di parlarne anche con loro nella pausa caffè o insomma in uno dei momenti della giornata che sarà ancora lunga allora ogni tanto da docente ti trovi di fronte a studenti dei quali hai soggezione con i quali fai una tesi e ti accorgi che quando fai la tesi sei tu che impari da loro e non che loro che imparano da te e questa è una cosa che a me è successa con Chiara Vanone che io ho conosciuto da correlatore della sua tesi di laurea e di cui Marella era la relatrice Chiara ti lascio la parola sì mi sentite portai chiaro non sentiamo adesso meglio e adesso un po' meglio beh anzitutto grazie per avermi invitata oggi ho pensato di utilizzare questi dieci minuti a disposizione per raccontarvi un po' il mio percorso è un percorso che mi piace definire un po' anomalo nel senso che io in questo momento non lavoro nel settore della traduzione mi sono un attimino distanziata da anche quello che è l'ambito della localizzazione tre anni fa però credo che il ruolo che ho oggi in un'azienda grande come Google sia un po' un risultato naturale di un percorso che ho effettuato proprio nel settore della localizzazione è un percorso che è iniziato proprio grazie all'aiuto del professor Giuseppe e della professoressa Marella perché nel 2013 mi sono laureata in traduzione specialistica con una tesi di laurea in localizzazione e la cosa che mi incuriosiva di più era capire come le strategie di localizzazione possano cambiare in funzione di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per fornire visibilità organica a pagamento a contenuti localizzati in altre parole se io traduttore mi trovo a dover localizzare un sito internet cosa devo però tenere a mente affinché quel sito sia perfettamente visibile per il mio mercato target per il mio utente target in una nuova lingua di riferimento ed era un argomento che mi ha sempre incuriosito perché ero reduce da sei mesi di tirocinio per un'azienda tedesca della Baviera dove il primo giorno in cui ero arrivata in azienda mi era stato detto questo è il nostro sito di commerce in tedesco noi adesso vogliamo vendere i nostri prodotti nel Maghreb in Francia in Italia vai dopodiché dopo la laurea in traduzione specialistica ho continuato a seguire questa azienda in realtà e tutto quello che era il lavoro di localizzazione continua del loro contenuto online in francese e in italiano per circa sette mesi mi avevano introdotta anche le loro aziende partner che avevano questi siti di commerce molto simili prodotti altamente tecnici che distribuivano su alcuni mercati europei e poi sui mercati francofoni e a mano a mano che lavoravo con queste aziende mi rendevo conto sempre di più del fatto che questi clienti venivano da me non unicamente con l'esigenza di un aiuto nella traduzione dei loro contenuti ma con la richiesta di aiutarli a capire dove andare ovvero fermo restando che per esempio il loro bisogno era quello di aprire il mercato francofono non sapevano a chi rivolgersi a quali utenti ci stiamo rivolgendo a chi stiamo fornendo questi contenuti che tipo di abitudini di navigazione di consumo di interazione con i contenuti digitali hanno e queste sono tutte nozioni estremamente importanti perché alla fin fine vanno anche a darci informazioni su come dobbiamo pensare i contenuti in partenza quindi il sito internet che io sviluppo per fare un esempio è effettivamente funzionale al processo della traduzione della localizzazione è consul alineato con le best practice dell'internationalization e soprattutto che tipo di attività devo andare a pensare al di là del processo di trascrizione linguistica nel momento in cui magari mi trovo a dover ricostruire da capo intere user journeys che magari hanno perfettamente senso per un cliente tedesco ma non riflettono in alcun modo l'abitudine di navigare online o mettere un prodotto a carrello o effettuare un ordine online in un mercato per esempio della regione del Maghreb perché i dispositivi utilizzati sono diversi perché c'è un internet penetration differente perché c'è un carico informativo del contenuto testuale diverso e quindi mi sono ritrovata in quei sette mesi successivi alla laurea a creare una sorta di framework per aiutare in realtà quasi in un ruolo un po' più consulenziale che traduttivo ad aiutare questa azienda ad andare poi su mercati internazionali e paradossalmente è successo che lavorando per una di queste aziende sono in realtà entrata in contatto con un team all'interno di Google nel 2014 che stava costruendo un programma volto a supportare i loro inserzionisti interessati ad espandersi al di fuori del mercato italiano un team che all'epoca si chiamava International Growth Consulting quindi veramente erano consulenti non toccavano i testi per tradurli però dovevano spiegare era un compito difficilissimo ai loro clienti che volevano andare all'estero con i loro contenuti come creare una strategia di localizzazione quindi come pensare a una strategia per la gestione del contenuto source come pensare a comprendere su quali mercati andare che tipi di metriche andare ad osservare e poi rispetto a ciascun singolo mercato target che tipo di persona su vero profili utenti andare a considerare perché magari il modo che ha Chiara di cercare un prodotto a Dublino rispetto a Stefano in Olanda rispetto ad Alessandro a Roma in Italia è estremamente diverso dal modo che per esempio avevo io di utilizzare contenuti digitali in California e quindi c'è bisogno di tutta una strategia in preparazione al lato traduttivo e questo team aveva proprio il compito di aiutare i clienti esterni a capire come elaborare questa strategia e poi una volta chiarita la strategia su che tipo di contenuti andare a intervenire parliamo di siti internet possiamo anche parlare di applicazioni prodotti software sono prodotti estremamente complessi perché anche se guardiamo il contenuto tessuale quel contenuto è presente a livello di UI quindi sono string ma potrebbero essere anche contenuti multimediali potrebbero essere contenuti di help center marketing contenuti legali ed ogni contenuto poi questa era anche la fase successiva di questo programma di cui facevamo parte aveva come elemento chiave educare i nostri stakeholder a capire che tipo di attività traduttiva andare a svolgere già all'epoca parlo del 2014 2015 molte conversazioni erano incentrate attorno all'utilizzo della traduzione automatica grezza molte conversazioni erano anche legate a capire come utilizzare MT unitamente ad un processo che noi chiamavamo human in the loop quindi essere sicuri che in realtà a fonte di un testo output tradotto in modo automatico e a fronte poi di diversi livelli di sensibilità dei contenuti che andavamo a trattare di tolleranza rispetto agli errori che una traduzione automatica può fornire fosse comunque sempre importante l'elemento umano per riflettere le abitudini appunto di navigazione e consumo di un utente finale ho fatto questo lavoro con i clienti esterni dal 2014 al 2015 e poi nel 2016 mi hanno spedito in California dove ho lavorato all'interno del team di localizzazione fino al 2020 quindi il tipo di conversazioni che avevo con i clienti esterni mi sono ritrovata ad averli con clienti interni quindi se voi pensate ai manager di prodotto di vediamo io seguivo Google Search Google Chrome e le mappe di Google Google Maps questi team di prodotto arrivavano da me con le stesse identiche domande che vi potreste aspettare da una piccola media impresa o da un'azienda esterna che aveva bisogno di supporto nel definire la propria strategia di espansione per cui ci si trovava di nuovo a parlare di definizione di mercati target profilazione utenti capire come fare analisi di mercato volte proprio a determinare profili in base non solo al locale alla lingua parlata ma anche alle abitudini di comunicazione locali e poi tutta l'attività appunto di analisi di contenuto UI e di nuovo help center marketing e legal e capire a fronte di ciascun tipo di contenuto che attività traduttiva svolgere forse l'elemento in più su cui ho iniziato a lavorare all'interno del dipartimento di localizzazione e di cui non avevo come dire molta visibilità con i clienti esterni erano anche l'attività post lancio del prodotto sul nuovo mercato il concetto di continuous localization cioè l'idea che una volta che un prodotto è localizzato e reso disponibile su un mercato arriverà inevitabilmente del feedback da parte degli utenti locali delle richieste di migliorare il prodotto delle note a fronte del fatto che magari il modo in cui degli ingegneri che siedono nella Silicon Valley per il modo che hanno di pensare un prodotto fortemente americacentrico le note le voci degli utenti sono importanti perché ci partono a ripensare quel prodotto e a ridefinirlo in un certo senso a migliorarlo proprio in funzione del mercato target e quindi ho fatto questo lavoro per appunto post localizzazione quindi tutta l'attività di linguistic product testing di marketing sites user feedback studies fino appunto al 2020 dopodiché è successa una cosa abbastanza particolare che raccontavo prima a Giuseppe cioè che fra i prodotti che supportavo c'erano appunto i team di Google Maps ed era capitata una problematica se vogliamo che era stata sollevata da una comunità di linguisti nel modo in cui alcune informative legali delle mappe di Google erano state tradotte in lingua italiana in modo estremamente incorretto e mi sono quindi trovata negli ultimi sei mesi nel dipartimento di localizzazione ad analizzare veramente passare ore ed ore su questi testi legali cercando di capire come mai la valutazione qualitativa della traduzione in italiano dei testi legali fosse così bassa rispetto ad altre lingue verso le quali traducevamo correntemente questo tipo di contenuti e ci siamo resi conto che c'erano tutta una serie di problematicità nel modo in cui il testo veniva in realtà scritto ed elaborato a monte quindi in lingua inglese ma non vi accenno a questo per parlare di questo tipo di problema più che altro è interessante perché ho avuto modo lavorando su questo tipo di contenuti di diciamo avere un po' le porte aperte ad un settore completamente nuovo che è quello di tutta la parte quadro normativo operativo in cui i prodotti Google vengono introdotti su nuovi mercati quindi tutte quelle che sono le regolamentazioni le obbligazioni legali considerazioni a livello di protezione dati che variano fortemente da mercato in mercato e che diventano in realtà un elemento informativo molto importante quando con i team di prodotto si decide che tipo di strategia di internazionalizzazione svolgere e quindi da lì la decisione è stata quella proprio di spostarmi fisicamente in Francia non perché abbiamo un team in Francia ma perché avevo deciso io di andare in Francia ma anche per avvicinarmi al team di Google Maps che è a sede a Zurigo e per aiutarli nella gestione dei loro programmi di espansione delle mappe di Google su mercati europei dove ovviamente c'è un quadro normativo e operativo estremamente complesso e quindi è lì che mi trovo in questo momento localizzazione fa parte di questo discorso perché ovviamente una volta che capiamo dove andare ad operare e quali mercati aprire l'elemento testuale l'elemento contenutistico e la sua localizzazione diventano la parte finale del processo che ci porta ad aprire Strieview in un nuovo mercato però appunto diciamo che in questo momento non ho e mi dispiace onestamente la fortuna di continuare a lavorare sulla parte traduttiva mi sono spostata un attimino su quella che è la ricerca e l'analisi delle strategie e delle regolamentazioni che la precede dico questo perché secondo me è importante anche e forse è la cosa che mi ha colpito di più del mio percorso negli ultimi dieci anni e lo riscontro con molti miei colleghi nel settore è importante tenere a mente come il profilo dei professionisti del settore della localizzazione si è cambiato enormemente in questi dieci anni quando ho iniziato la localizzazione nel 2013 venivo vista come la traduttrice per quanto incorretto questa cosa possa essere perché sappiamo tutti cosa voglio dire localizzare questo era però il modo in cui venivo percepita dai miei datori di lavoro in Germania a distanza di dieci anni mi sono resa conto che in realtà c'è molto altro che entra in gioco nel momento in cui si parla di strategie di localizzazione ci sono strategie di lingua strategie di mercato e il ruolo che voi avete in un settore come quello della localizzazione che sarà sempre presente sempre in continua espansione è fondamentale perché voi lavorando con le lingue ma lavorando anche con le persone che usano queste lingue siete in una posizione di vantaggio perché siete market experts non siete solo language experts o translation experts e questo veramente nelle vostre interazioni con i clienti è qualcosa che mi invito sempre a tenere in considerazione e a continuare a coltivare nel tempo e a far valere in tutti i progetti di localizzazione che svolgete grazie grazie Chiara se e solo se Cindy Riccardi ci consente di usare cinque minuti per una breve interazione con il pubblico la facciamo però io non voglio assolutamente invadere lo spazio della successiva tavola rotonda ok facciamo ok bene allora vorrei lasciare la parola al pubblico adesso per qualche commento osservazione domanda a chi ha intervenuto in questa tavola rotonda magari sarebbe anche bello sentire la parola degli studenti che oggi che vedo essersi uniti a noi in gruppo più numeroso di stamattina palesatevi pure se qualcuno vuole intervenire ok se no ok va bene allora lasciamo un'interazione a un momento successivo dai torno a ringraziare i partecipanti a questa tavola rotonda e lascio lo spazio alla successiva siamo alla seconda tavola rotonda e volevo dirvi volevo dirvi qualcosa volevo dirvi un po' di cosa avevamo parlato precedentemente a organizzare l'etapa di rotonda cioè io avevo chiesto alle colleghe che vedete qui sedute accanto a me che dopo presenterò di dire qualcosa relativamente a quello che hanno ricevuto dal loro tipo di studi per la vita che dopo hanno fatto lavorativa soprattutto ma se anche di altro genere potrebbe venire fuori anche quello comunque e quindi sarà un po' questo l'orientamento diciamo degli diversi interventi che sentirete e la prima a intervenire sarà la dottoressa Rosanna Bolognini non dottoressa Rosanna Bolognini va benissimo grazie che ha avuto una vita da interprete una vita da interprete perché l'ha fatto in svariate situazioni cominciando come interprete anzi quasi subito dopo essersi aver terminato gli studi è entrata subito come freelance all'Unione Europea ha lavorato quindi sul mercato istituzionale europeo e sul mercato privato italiano soprattutto e dopo da un certo punto in poi invece è entrata come funzionaria alla commissione all'Unione Europea questo diciamo il percorso come dati adesso sentiremo invece il percorso come contenuti grazie Cindy mi hai spoilerato la sorpresa perché effettivamente io mi sento un po' una pecora nera qui o una musca bianca perché testimonio che si possono fare studi di interpretazione e poi si può fare qualsiasi tipo di carriera perché abbiamo sentito brillantissimi esempi di carriere disparate si può addirittura fare l'interprete che è quello che ho fatto io per è quello che ho fatto io per 41 anni e 9 mesi quindi praticamente siate consapevoli che io vi parlo del medioevo d'accordo in realtà è vero ho superato subito quasi il test di accreditamento come freelance a Bruxelles ho lavorato un po' sul mercato privato però mi sono resa conto prestissimo primo che non avevo nessuno spirito imprenditoriale e secondo che non ero assolutamente per carattere in grado di sgomitare di crearmi il mio spazio sul mercato privato e quindi ho detto Rosanna se vuoi sopravvivere tu devi puntare a Bruxelles ed è quello che ho fatto l'ho fatto aggiungendo lingue facendo tutta una serie di test di accreditamento e quando è arrivata la possibilità di cogliere l'ultimo vagone del treno ho accettato un contratto di Tom Porer e poi ho superato un concorso e come dico io ho preso l'argastolo e quindi ho lavorato per la Commissione per il Consiglio dei Ministri per il Consiglio Europeo e in dosi omeopatiche grazie a degli scambi per il Parlamento Europeo e per la Corte di Giustizia la stessa professione ma in queste istituzioni in realtà la professione è molto diversa cito solo la Corte di Giustizia che per un breve periodo mi è piaciuta immensamente lì tu non vai in cabina tutti i giorni vai in cabina due massimo tre giorni alla settimana e il resto del tempo lo passi a studiare i fascicoli di causa a capire la posizione delle due parti ed è un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo forse perché in realtà io ho sempre voluto fare il magistrato Cindy mi ha chiesto giustamente che cosa mi ha dato per la mia vita la formazione di interprete beh la risposta banale sarebbe mi ha insegnato a interpretare no ho imparato a interpretare successivamente lavorando con l'esperienza come in qualsiasi professione credo e assolutamente a scapito e a spese dei primi clienti che ho avuto ve lo garantisco però la mia formazione penso mi abbia dato innanzitutto mi ha spinta a viaggiare perché non dimentichiamo che io ho iniziato nell'anno accademico 76-77 a quei tempi si volava poco perché non c'erano le low cost non si navigava per nulla perché non c'era internet ragazzi per cui mi ha costretta a andare fuori dalla mia comfort zone a viaggiare ad andare a scoprire e a capire che esistevano altre culture altri contesti mi ha costretta a avere un'apertura mentale e ad avere nella mia mente il fatto che si può anche andare via per lavorare che poi mi è servito nella vita perché quando ho dovuto decidere di emigrare secondo me l'ho fatto anche per questo perché ero preparata a farlo e poi ovviamente la pratica l'esercizio interminabile di simultanea che tutti gli studenti fanno sono sicura ancora oggi mi ha insegnato il multitasking perché ho imparato allora e me lo ha confermato la vita professionale se uno vuole essere un bravo interprete deve capire deve rielaborare deve contestualizzare adesso si dice localizzare ho scoperto e si deve poi soltanto alla fine esprimere il concetto quindi è veramente un multitasking ogni volta che nella mia breve carriera di insegnante o in assistenza pedagogica ho avuto a che fare con degli studenti ho sempre detto mi raccomando è importantissimo accendere il microfono ma più importante è non spegnere il cervello quando iniziate a lavorare e lo confermo ancora oggi a contestualizzare devo dire contestualizzare ci ho impiegato un po' di più a metabolizzarlo perché per esempio mentre ero ancora freelance mi è capitata una giornata al festival del cinema mutuo di Pordenone probabilmente conoscete tutti come funzionano le cose passano con l'accompagnamento di un panoforte queste schermate con le immagini dell'azione poi ogni tanto l'interprete viene svegliato dal torpore perché deve fare traduzione a vista della schermata di testo che è comparsa ebbene io dovevo tradurre le schermate di Cyrano de Bergerac 1600 più o meno vediamo il contesto la localizzazione di Cyrano de Bergerac a un certo punto dopo una scena che mostra un duello mi compare una schermata comincio a tradurla a vista e arrivo alla fatidica frase I'll make a view minced meat e lì comincio con l'enfasi della principiante farò di te mi fossi ricoperta di polpette in questo istante se mi è venuta la parola polpette è seguito un silenzio terrificante che è durato e dopo a un certo punto mi si è accesa la lampadina e con la stessa enfasi della principiante ho praticamente gridato trionfante farò di te un hamburger vi giuro vi giuro che io la contestualizzazione non l'ho mai più dimenticata e poi mi ha insegnato senz'altro quella formazione a gestire lo stress lo sappiamo tutti perfettamente perché la simultanea è l'imprevisto per antonomasia devi trovare una soluzione istantaneamente devi essere versatile devi essere reattivo e quando hai fatto tutti gli esercizi che abbiamo fatto e hai lavorato poi questo atteggiamento ce l'hai H24 e lo applichi secondo me in tutti i comparti della vita e devo dire che io lo vedo questa reattività in praticamente tutti i miei colleghi interpreti poi ci sono le malelingue che dicono che gli interpreti sono tutti nevrastenici io non mi pronuncio ammetto che un interprete zen a parte Marco Rucci non l'ho mai conosciuto ho ascoltato gli interventi brillantissimi complimenti di tutti coloro che mi hanno preceduto e credo per tagliare tantissimi di questi fogli che ci sia una cosa che ci accomuna che accomuna tutti noi che siamo usciti da questa scuola e che sia la parola comunicazione ciascuno di noi ha imparato a comunicare nel senso più profondo della parola di cui parlava benissimo Alessandro Cattelan e ad esprimere non le parole ma a esprimere una cosa che renda comprensibili quelle parole di origine alle altre persone e quindi direi veramente leitmotiv e a termine che ci accomuna tutti la comunicazione poi Cindy che mi aveva illuso e attirato in questo consesto dicendo ma sì vieni a parlare della tua esperienza a trannello a trabocchetto mi ha infilato sì e poi parlaci delle prospettive della professione ecco l'ho odiata per un attimo e poi ho riflettuto un po' e io ho lavorato quasi esclusivamente nel contesto istituzionale le istituzioni sono state il mio pane e il mio quotidiano e non mi sono stancata devo dire di questa professione che per molti può essere noiosa perché è una professione che non ho dovuto cambiare io non ho voluto cambiare io perché è cambiata lei ogni giorno ogni giorno mi ha posto di fonte argomenti diversi a persone diverse a ritmi diversi ho dovuto anche sviluppare capacità diverse perché se fai una carriera in amministrazione devi imparare anche a gestire devi imparare a fare formazione devi imparare a giudicare gli altri se hai membro di giurie quindi io non l'ho trovata monotono ho avuto la fortuna di amare fino a quando mi ha retto il cervello questa professione che ho fatto potrà andare avanti beh parlo solo del contesto istituzionale che conosco le istituzioni hanno e avranno per il prevedibile futuro ovviamente bisogno di interpreti perché per il consiglio l'interpretazione è imposta dai trattati per il Parlamento è imposta dalla democrazia parlamentare per la Corte di Giustizia l'interpretazione fa parte dei diritti procedurali e quindi fino a quando non saranno riformati i trattati che vanno riformati all'unanimità e ve la vedete la Francia rinunciare al francese la Spagna allo spagnolo io credo che uno spazio ci sarà certo la professione è cambiata durante la mia epoca perché siamo partiti essendo dei totali analfabeti tecnologici anche perché le tecnologie non c'erano e un po' alla volta anche noi abbiamo dovuto passare a sviluppare le banche dati online a usare le piattaforme con il covid abbiamo dovuto formarci senza aver avuto queste formazioni ci siamo formati sul campo quindi ancora di più una generazione come quella degli studenti di oggi che è nata respirando tecnologia e che ha avuto in mano il telefono prima del biberon probabilmente può come abbiamo sentito e come vediamo adottare queste tecnologie per aiutarsi anche nella professione perché ad esempio negli ultimi tempi dopo che sono arrivati i traduttori automatici io ho visto vari colleghi soprattutto prima della presidenza tedesca ammetto usare Deeple per tradurre istantaneamente le speaking notes quando arrivavano in modo che dopo quando erano lette alla velocità della luce potevano metterci l'elemento umano correggere check against delivery correggere la lingua eccetera e anzi mi sono morsa le dita perché a me davanti alla presidenza greca quando dovevo dare il re agli altri non mi era venuto in mente vabbè che gran parte dei testi erano manoscritti in greco quindi non lo so quindi una io non vedo l'interpretazione né sparire né tantomeno essere sostituita completamente dall'intelligenza artificiale in ambito istituzionale perché c'è anche un fattore di riservatezza la nostra professione è soggetta al segreto professionale in tante riunioni ci costringevano a spegnere e lasciare fuori dalla sala di riunione computer e telefonini non in tutte ma in molte sì c'è un elemento di riservatezza che è molto importante io sinceramente non vedo i committenti istituzionali pronti a mettere le cuffie in testa a un algoritmo e ad aprire una breccia di sicurezza come può essere quella di affidarsi totalmente all'intelligenza artificiale abbiamo visto tutti i fake video che circolano che sono plausibilissimi quanto assolutamente falsi ecco immaginatevi il discorso in conferenza stampa alla fine di un vertice tradotto da qualcuno in questo modo con una una delivere una resa che può essere manipolabilissima io personalmente non la vedo la tecnologia è entrata e resterà ovviamente perché è più economica perché è più rapida perché è più verde in tanti casi però l'elemento umano è sempre rientrato anche con il covid siamo passati alle piattaforme anche noi perché c'era l'isolamento siamo sopravvissuti alle piattaforme all'inizio con un audio veramente allucinante perché avevamo fatto il callo a interpretare audi allucinanti e english soprattutto allucinante quando c'è stato il grande allargamento che ha portato il bad english quindi eravamo diventati bravini già nella divinazione oltre che nell'interpretazione e quindi abbiamo saputo indovinare anche che cosa diceva questo suono ovattato e lontano però appena e anche sempre durante il covid perché le piattaforme erano limitate molte riunioni si sono tenute soltanto in inglese però quando è finito il periodo diciamo di allerta massima gradualmente e Laura mi corregga perché lei è ancora dentro ma penso che sia così gradualmente quasi tutte le riunioni sono tornate ad avere l'interpretazione e è rimasta una piccola percentuale di riunioni su piattaforme o ibride penso però si è tornati abbastanza ad una situazione di status quoante diciamo che non resterà fissa chiaramente si svilupperà ma abbiamo sentito quali capacità ci sono oggi e come secondo me studenti che escono da questa scuola che sono a prova di stress che sono multitasking che hanno un'agilità mentale particolare perché passare in continuazione da una lingua all'altra da una struttura all'altra coprire più lingue da un oratore all'altro secondo me ti forma anche all'agilità mentale io confido che sapranno fare i passi successivi per stare proprio al passo con gli sviluppi così come abbiamo dovuto fare noi d'altronde agli studenti in particolare che sono qua posso dire che quando io balbettavo le mie prime simultanee all'inizio degli anni 80 ho avuto occasione di conoscere una interprete triestina che era già una funzionaria un'altra funzionaria allo Schick dove poi io ho lavorato era venuta in visita i suoi genitori mi hanno invitato per un tè e quindi davanti a questo tè e a questi biscottini io sapete ammirazione reverenziale la grande interprete ecco lei sì abbiamo scambiato qualche chiacchiere le ho fatto qualche domanda e così e mi ha risposto amabilmente poi a un certo punto mi ha freddata perché mi ha detto vi parlo dell'81 eh ragazzi mi ha detto sì però sai ci sono grandi cambiamenti in corso ci sono dei tagli io non so sinceramente quanto potrà resistere ancora la cabina italiana ebbene io in quella cabina in via di estinzione ho lavorato 41 anni e 9 mesi non mi sento di fare la Cassandra sinceramente grazie 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 Rosanna sei stata all'eltezza delle aspettative è stato un bellissimo discorso grazie prego mi confesso che mi mancava la cabina quando mi sono seduta qua perché io ho un microfono acceso senza la cabina le cuffie potrei dirvelo scusa procuravamo ecco no grazie Rosanna veramente sia per gli aneddoti sia invece per tutta la parte diciamo di vita e di lavorativa vissuta penso che avrei dato diversi input che resteranno passiamo adesso a Giulia Scaglioni la dottoressa Scaglioni è più giovane ha esperienza sia di traduttrice che di interprete più di interprete forse che di traduttrice però è anche project manager all'interno resto quasi non mi muovo più dello studio tre società benefit che si occupa in particolare di settori come automotive meccanica e moda e a lei appunto ho fatto la stessa domanda quindi chiedendo cosa le ha dato questo studio e cosa ne è il risultato sì innanzitutto grazie per avermi dato l'opportunità di parlare oggi e per partecipare a questa bellissima celebrazione manifestazione io volevo citare alcune competenze trasversali che mi sembra di avere acquisito grazie proprio alla Slimit oltre a tutta la parte tecnica e di competenza ovviamente che l'università dà e che poi durante la professione ovviamente vanno incrementate devono diventare devono diventare davvero il pacchetto quotidiano che si utilizza per lavorare a me piace moltissimo una citazione che recita più o meno così se l'unica cosa che possiedi è un martello intorno a te riconoscerai solo dei chiodi ecco io credo che ancora oggi anzi soprattutto la Slimit sia in grado di fornire una cassetta degli attrezzi proprio perché mi occupo moltissimo di questo ambito meccaniche eccetera una cassetta degli attrezzi veramente ricca ben nutrita e sono appunto tre le competenze che secondo me a oggi gli interpreti acquisiscono ma penso anche i traduttori la prima è la capacità di ascoltare per converso anche di leggere di ascoltare perché l'interprete prima di parlare ascolta e ascolta come secondo me riconoscendo anche grazie al non verbale tutto un sottotesto che rappresenta un po' l'intenzione di chi sta parlando quindi c'è veramente la capacità secondo me che l'università dà di riconoscere qual è l'intenzione di chi sta parlando andare un po' al di là solamente delle parole ma di avere un ascolto attivo e credo che questo sia a oggi molto utile utile in qualsiasi contesto lavorativo e non riuscire a capire qual è l'intenzione della persona con la quale stiamo comunicando la seconda competenza credo sia la curiosità ed è una curiosità genuina che vedo anche tutti i colleghi interpreti hanno è chiaro che ci sono ambiti in cui un interprete si specializza e anche in base al proprio interesse personale a volte però quello che io riconosco e riconoscevo anche quando studiavo la Slimit era sempre questa curiosità questo interesse è di andare un po' oltre alle due tre informazioni di base e la curiosità secondo me dà anche una chiave in più di lettura del mondo aiuta ad orientarsi acquisisco sempre maggiori competenze mi so orientare nello spazio mi so orientare nel tempo aiuta anche secondo me moltissimo in chiave relazionale avere un interesse genuino nei confronti di quello che gli altri fanno e ci vogliono dire la terza competenza secondo me e invece è una seppur a livello embrionale però una capacità di riconoscere un po' l'andamento del linguaggio io vedo molto il linguaggio come la lingua come lo specchio della nostra società e viceversa e vedo anche che gli interpreti hanno proprio la capacità di riconoscere di osservare e di reagire a un andamento a un cambiamento a volte un'evoluzione a volte no della lingua faccio un esempio io con il covid dove ci siamo trovati a parlare non più davanti alle persone sempre fisiche ma con in mezzo uno schermo abbiamo appreso una nuova modalità perlomeno abbiamo dovuto adattarci a una modalità che ci consentiva di lavorare diversa da quella a cui eravamo abituati non avevamo più l'oratore in fronte a noi quindi non potevamo leggere tutto quello che è appunto il linguaggio del corpo eccetera post covid quello che ho notato a parte forse in generale un po' un appiattimento del linguaggio è che le pause quelle naturali tipiche della prosodia normale delle persone sono un po' venute a mancare c'è un po' un horror vacui è un flusso a volte di coscienza che credo derivi dal fatto di parlare con davanti uno schermo e non avere come oratori il riscontro del pubblico per cui tutte quelle che erano strategie acquisite io faccio l'esempio con la lingua tedesca di sfruttamento delle pause io non le avevo più cioè non le avevo più perché mi era completamente cambiato il modo di parlare completamente no perché è ovvio che già da prima altre persone parlavano tipo flusso di coscienza però è diventato veramente quasi non dico lo standard ma per molti di queste persone che erano e non vale ovviamente per tutti i contesti tutti gli ambiti ma per molte di queste persone che si sono abituate a parlare con davanti uno schermo questa è diventata un po' la prassi il nuovo modo di comunicare soprattutto per chi fa formazione mi viene da pensare e quindi qui ancora una volta come mi è venuta in aiuto la formazione universitaria grazie sempre a questo pacchetto di abilità di adattarmi al contesto e adattare le strategie sviluppandone di nuove cercandone di nuove in modo da ovviamente rispondere a quello che è l'esigenza cioè tradurre quello che una persona sta dicendo interpretare ciò che una persona sta dicendo in un'altra lingua quindi queste sono sono un po' le competenze che credo che in non tantissimi anni siano molto ricche e l'università sia riuscita a trasmettere come avrete capito ho una qualche relazione con le persone che sono qui al tavolo ecco con Rossella abbiamo studiato insieme Rossella è stata anche lei interprete per le istituzioni però contemporaneamente o quasi subito dopo assieme a un'altra collega sempre anche nostra compagna di studi ha aperto un ufficio un'agenzia per la realizzazione di congressi e per le traduzioni all'epoca bisogna dire che c'era uno forse a Trieste e questo quindi era il secondo quindi eravamo in un campo decisamente nuovo per la città diciamo perlomeno ecco allora desidero chiedere alla dottoressa Spangro di raccontarci quindi la sua esperienza e il suo percorso benissimo allora grazie devo dire che sembra un po' strano essere qui oggi da questa parte del tavolo in questa sala in cui tante volte ho interpretato in cui abbiamo organizzato tanti congressi ma in cui venivo qui soprattutto per mettere questi cartellini non per parlare sicuramente è un'emozione ritrovarmi in questo nostro mondo in questa famiglia di interpreti che quando si incontrano chiacchiere hanno fitto fitto fra loro e tutti gli altri rimangono esclusi mariti fidanzati amici improvvisamente scompaiono questa nostra scuola io continuo a chiamarla scuola ho saputo che si chiama sezione di studi mi pare veramente un po' bruttino scusatemi per me rimane la scuola una scuola che è stata una scuola di lingue per noi una scuola di parole però una scuola di parole sostanziate e supportate dai fatti una scuola di vita sicuramente è una scuola che ha lasciato tracce tracce che riscontro tante volte nella vita di lavoro quotidiana la mia socia cristiana che qui in sala tante volte quando parliamo con un cliente gli dice guardi mi ricordo lei ha detto così 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 io ho fatto la scuola interpreti mi ricordo noi la memoria la alleniamo bene e altre tracce le trovo anche in colleghi più giovani di recente abbiamo assunto una giovane che ha fatto la laurea magistrale alla scuola interpreti e quando siamo in riunione deve prendere degli appunti li prende in consecutiva praticamente per cui sono tutti questi piccoli queste tracce come quelle di pollicino che ritroviamo per venire un po' a quello di cui vogliamo parlare oggi Cindy vi ha raccontato brevemente il mio profilo l'avrete letto sul sul programma ci conosciamo veramente tanto comunque per riassumo brevemente un po' questo percorso ho partito con il diploma del vecchio statuto il diploma dei dinosauri quando c'era ancora il diploma grande il diploma piccolo i test a Lussemburgo ricordo con le amiche qui davanti che facevamo i test e se qualcosa non andava bene un'amica diceva non vi preoccupate quando saremo nonne faremo ancora test da Bruxello a Lussemburgo quindi ho fatto un percorso da interprete alla commissione e poi la decisione di diventare freelance decisione un po' diciamo non accettata forse facilmente anche in famiglia perché perché sono tornata perché assieme ad altre tre compagne di studi c'eravamo lanciate un po' questo progetto di non allora si dipendeva un po' dalle colleghe più più esperte più anziane che ti passavano il lavoro noi avevamo un po' questo sogno di autonomia di indipendenza per cui abbiamo deciso di fondare questa società adesso diremmo una start up quella volta andavamo a informarci nessuno neanche ci guardavano donne ci prendevano ragazze ci prendevano poco sul serio poi abbiamo iniziato a tradurre abbiamo tradotto in prima persona quintali e quintuali di manuali con la macchina da scrivere abbiamo fatto le interpreti così sicure in queste nostre prime esperienze come diceva anche Rosanna e ricordo con piacere devo dire i clienti che ci hanno dato tanta fiducia e me lo ricordo anche oggi quando per comodità mi verrebbe magari sempre da chiamare la collega più esperta più che ha tanti tanti anni di esperienza però non voglio dimenticare mai chi a noi a 25 anni ha dato tanta fiducia poi la nostra società ha proseguito nel frattempo facevo l'interprete a Bruxelles anche per finanziare le nostre prime attività questa esperienza aziendale e nell'ambito della traduzione abbiamo continuato abbiamo vinto anche un bando del Parlamento europeo e per tanti anni abbiamo tradotto i verbali delle riunioni del Parlamento europeo a Bruxelles e a Lussemburgo da tutte le lingue allora dell'Unione europea e lì è subentrata l'esperienza della revisione che era tutto un altro mondo un'esperienza veramente interessante perché anche lì è come essere da una parte e dall'altra del tavolo chi traduce e chi dall'altra parte deve cercare di confezionare un prodotto un po' più omologato comunque un'esperienza interessantissima e poi naturalmente man mano conoscendo il mondo dei congressi veniva spontaneo ai nostri clienti chiederci sempre qualcosa in più interpreti ma ci serve anche la cabina oltre alla cabina dovremmo anche mandare gli inviti siamo cresciute in pratica insieme ai nostri clienti insieme ai nostri clienti abbiamo organizzato e stiamo organizzando congressi grandi internazionali da migliaia di persone in Italia e non solo in Italia per cui credo che se abbiamo fatto abbiamo avuto questo percorso anche di cambiamenti abbiamo potuto farlo perché sapevamo le lingue in primis ma non solo per quello perché non basta sapere l'inglese perché conoscevamo modi diversi di ragionare sistemi valoriali diversi ci sapevamo rapportare in situazioni diverse e ecco questo direi per il passato per la storia per un po' di amarcord in cui oggi ci possiamo permettere di indulgere quando poi Cindy mi ha invitata a questa e la ringrazio ancora a parlare qui oggi mi sono messa anche un po' a ragionare su tutti questi anni di lunga storia della scuola per me è stata un'esperienza molto bella credo che lo sentite dalla mia voce mi ha dato molto come penso abbia dato a molti molto a molti di voi anche ai ragazzi e alle ragazze più giovani che ho sentito poco fa mi sono comunque chiesta un po' anch'io come Rosanna forse ma che cos'è la scuola interpreti oggi cosa insegna in questo mondo che cambia così velocemente serve ancora servono le lingue servono gli interpreti servono tutte queste nostre competenze che acquisiamo con tanta fatica una bella domanda qui su cui ho riflettuto attentamente come avete sentito dalle colleghe che mi hanno preceduta i traduttori e gli interpreti continuano e continueranno ad esistere però c'è anche un importante senso di cambiamento che dobbiamo dare credo a queste nostre professioni l'abbiamo sentito dalle dalle colleghe che ci hanno parlato poco fa veramente un po' l'invidio perché state facendo delle cose bellissime che trovo molto interessanti e comunque bisogna un po' uscire anche come dicevamo da queste nostre nicchie di comfort in cui magari con tanta fatica che ci siamo ritagliate con tanta fatica però uscire fa molto bene l'altro giorno proprio per l'università abbiamo collaborato alla realizzazione di homecoming un evento che vede riuniti alcuni alumni dell'università di trieste che portano la loro esperienza professionale ai giovani laureati e laureandi dell'università e ho incontrato una studentessa ex studentessa della scuola interpreti che mi ha detto lei adesso lavora al comitato delle regioni nel settore della comunicazione e mi ha detto sai io ho studiato tantissimo volevo fare la traduttrice l'ho voluto con tutte le mie forze l'ho fatto dopo un po' e come diceva anche uno dei ragazzi che ci ha preceduto mi sono sentita un po' sola e complice poi un po' la spinta della crisi economica del 2008 2009 ho deciso di emigrare ha detto però se sono potuta arrivare al comitato delle regioni a Bruxelles a fare un lavoro nella comunicazione perché il mio francese era impeccabile altrimenti non l'avrei potuto fare ci sono mestieri in cui prevale un aspetto tecnico scientifico in cui anche un inglese un po' raffazzonato o rudimentale può andare bene però ci sono altri settori in cui le nostre competenze pesano e continuano a pesare secondo me in passato siamo diventati traduttori interpreti translation manager localizzatori social media social media manager sottotitolatori mediatori culturali ma anche giornalisti professionisti della comunicazione conosco addirittura c'è una ragazza che grazie alle sue competenze linguistiche sta facendo la personal trainer negli Stati Uniti per cui il mondo è estremamente vario e se abbiamo fatto e avete fatto tutto questo sono certa che la scuola ci ha dato tutti gli strumenti tutta questa cassetta degli attrezzi per affrontare anche un mondo nuovo un mondo di cui probabilmente noi voi insegnanti voi studenti forse non sappiamo neanche noi quali saranno le professioni del futuro sappiamo che si stanno creando nuove professioni a ritmi molto veloci come testimoniato anche poco fa mi piace pensare che tanti di voi diventeranno dei domatori di intelligenza artificiale la parola che più si avvicina a quello che immagino essere questo futuro e così ritorno un po' a quella che era la mia domanda iniziale su questa cassetta degli attrezzi su quello che ci ha dato la scuola interpreti per affrontare il futuro le lingue sicuramente sì servono ed è grande la competenza linguistica che questa scuola ci ha dato e continua a darci perché la differenza fra una conoscenza passabile e una conoscenza ottima si sente e si sentirà si sente in un interprete ma si sente in una relazione scritta si sente in un documento si sente nel modo di comunicare delle persone in questo in questo mondo sempre più multitasking devo dire che negli anni abbiamo visto anche lavorando come organizzatrici di congressi e di eventi tante tante giovani studentesse che si sono avvicinate al nostro mondo e devo dire che le ragazze della scuola interpreti avevano sempre una marcia in più erano più più dinamiche più sveglie più intraprendenti in questo mondo appunto in cambiamento in questo mondo dominato dall'intelligenza artificiale e da altri fenomeni di questo tipo serve sicuramente chiarezza di pensiero e penso che noi siamo abituati a capire prima di interpretare e questo penso che sia molto importante in un mondo di fake news serve uno spirito critico serve uno spirito critico che possa essere bilingue trilingue quadrilingue che ti faccia vedere in tante direzioni e il traduttore l'interprete il traduttore soprattutto è il miglior lettore quello che ricerca le fonti quello che è la curiosità di scavare nelle parole in un mondo purtroppo caratterizzato da guerre conflitti migrazioni come il nostro serve sapersi mettere nei panni dell'altro serve intuire il suo pensiero serve anticiparlo e chi meglio di un interprete che è abituato ad anticipare il pensiero ma anche a saper aspettare a saper creare un po' una strategia pensiamo solo a chi interpreta dal tedesco che deve aspettare una preposizione che arriva lì giù alla fine e ti cambia il senso di tutto serve una resistenza fisica e morale e credo che questa l'abbiamo imparata tutti sulla nostra pelle sia da studenti che da insegnanti perché sappiamo che in questo nostro mestiere non si può bleffare cioè non puoi far scena muta devi andare avanti certo devi avere quel pizzico di creatività come diceva anche Lidia Meag stamattina perché devi anche imparare a rimediare devi imparare a metterci una pezza ogni tanto lo potrai fare bene male meglio peggio ma devi andare avanti perché devi andare a un risultato e penso che questo e voglio sperare che questo possa aiutare anche chi andrà a lavorare nella pubblica amministrazione per far sì che non ci si continui a nascondere dietro alle parole con la scusa di non poter fare ma che le parole invece si riescano a dominare per riuscire a risolvere le cose ad andare avanti io penso che la scuola ci abbia dato tutti questi strumenti di cui parlavo per affrontare le sfide future per prepararci a questo cambiamento sicuramente questo ci è stato dato ma il resto tocca naturalmente a voi e parlo a voi che state per uscire dalla scuola interpreti a facciarvi al mondo del lavoro una volta bastavano due lingue poi ne servivano tre poi i software le specializzazioni io penso che oggi ogni esperienza possa essere utile direi proprio contaminatevi lasciatevi contaminare è molto importante poter avere esperienze diverse concludo perché il tempo passa molto velocemente concludo con un augurio vi auguro di fare appunto le esperienze più varie vi auguro di seguire questo famoso sogno ma dico anche che a chi il sogno non ce l'ha non si deve preoccupare non è detto che bisogna avere un sogno nella vita la vita la vita poi si crea la vita si cambia l'importante è provare varie vie varie esperienze perché la vita è fatta poi sì di impegno e di studio però è fatta anche poi di alla fine di curiosità di casualità di destino di relazioni e anche di amori l'augurio dunque è quello di intraprendere ogni esperienza con impegno con consapevolezza di ciò che siamo siete e sapete ma anche con quel pizzico di umiltà di quello che non si sa con la curiosità anche laddove certi mestieri certi lavori a prima vista non possano essere forse troppo stimolanti ma cercando di avere sempre quella vista d'insieme che ti fa cogliere quanto anche il tuo piccolo lavoro di quel momento possa essere interessante e soprattutto con l'augurio di svolgere ogni lavoro con l'orgoglio e la dignità necessari ma con l'augurio di divertirvi tanto perché penso che tutti noi ci siamo divertiti e infine un ultimo pensiero grato a tutti gli insegnanti che ci hanno accompagnato in questo percorso penso a Clyde Snelling che ha saputo trasformare noi italioti impassabili anglofoni a Laura Gran che ha ascoltato impassibile che ascoltava impassibile e sorridente le peggiori nefandezze delle nostre consecutive a Giuliana Lipitzer che a noi di The Office ha affidato il primo lavoro della nostra società e adesso Sindy consentimi un'ultima piccola cosa che mi vede un'ultima piccola un'ultima piccola e un'ultima piccola è Un pensiero per Cindy e a lei per tutti voi che avete tanto lavorato all'organizzazione di questo evento. Siete stati molto bravi. Grazie Rossella per tutto per i fiori, per questo intervento così variegato, così che ha toccato tanti punti. Penso che anche qui ci sono tanti spunti e tante cose da tenere a mente e su cui riflettere. Quindi grazie a tutte e tre. Adesso vi chiedo se ci sono delle domande, se ci sono anche dei commenti o qualcuno che vuole dire qualcosa di una sua esperienza diversa o aggiungere ancora qualcosa. No. Siamo in un momento di pausa. Abbiamo la pausa a caffè che ci attende. Benissimo. E siamo anche in tempo. Quindi grazie ancora per questo intervento. Grazie. 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 Tante persone insieme. Tante belle facce? Non tante, tutte, tutte belle facce, tutte belle persone. Mamma. Calma. Allora iniziamo quest'ultima sessione. Cerchiamo di rispettare gli orari. e iniziamo con un collegamento come i veri, un collegamento con l'Etere. Ci aspetta da qualche minuto in collegamento da Ginevra l'amica cara, eccola, Paola Catapano. Avrebbe voluto stupirci come di solito lei è abituata a fare mostrandosi e presentandosi dal collider, dal sincrotrone 100 metri sottoterra a Ginevra e invece punita dal Covid o da qualche forma influenzale. Ciao a tutti. Comunque Paola grazie per essere qui con noi, per aver accettato l'invito anche a distanza. Brevemente ricordo Paola si è laureata in interpretazione nel 1987, ha lavorato per tanti anni anche come interprete. Ricordiamo anche che abbiamo fatto qualche lavoro insieme, Paola non so se ti ricordi. E quello che è Tremino Bella a Sanremo. Uno dei più bei lavori che abbiamo mai fatto e c'è abbiamo tradotto la serata dei Nobel insieme a Sanremo. Vero? Ti ricordi, no? Sì, c'era la Montalcini, c'era Dupesto. E poi soprattutto con Paola abbiamo condiviso la creazione di una bella impresa che è quella di Atena Traduzioni Congressi, una cooperativa nata a Pescara, formata per lo più da traduttori e interpreti abruzzesi, creata nel 1986. Qui c'è qualche esponente. Ti saluto Alessandra, Ottavio e Benni, se c'è anche Benni. E anche Benni, esatto. Comunque, in realtà poi dall'Abruzzo, in realtà Paola ha spiccato il volo a Ginevra, prima come assistente del premio Nobel Rubbia, ma soprattutto oramai responsabile della comunicazione del CERN di Ginevra, no? Sì, infatti sì. Paola, vai. A te. Io ho preparato qualche slide, ormai sono nel mondo dei fisici e non riusciamo a fare a meno delle slide per parlare di noi. Poi volevo illustrarvi questo viaggio che mi ha portato da Trieste all'Argiano Collider, ma anche al Polo Nord e al Polo Sud, perché in tutto quello che faccio oggi c'è tanto di quello che ho imparato a Trieste. Trieste è stata per me, è la mia città di adozione, io ho origini miste fra pugliesi, napoletane, abruzzesi, in tutta Italia, insomma. Però se io penso a una città mia, per me è Trieste, la città dove veramente ho realizzato tutte le mie potenzialità, ho realizzato nel senso di capirle, capire quello che sapevo, volevo e riuscivo a fare, che sono tantissime cose. Mi è sempre piaciuta la scienza, mi è sempre piaciuta la vela, a Trieste ne ho fatta tanta, giravo con lui in surf, me lo portavo in treno dalla Puglia o da Pescara fino a Trieste su e giù, andavo a sciare con amici triestini nelle Dolomiti, e quindi tutto quello che faccio oggi è veramente, i semi sono stati piantati lì. In questa foto c'è un po' la sintesi delle attività che sto facendo adesso contemporaneamente, Marco ha giustamente ricordato, il mio lavoro principale è quello di fare comunicazione al CERN, sono responsabile della produzione di contenuti editoriali, mi vedete all'interno dell'Arge Aron Collider, vi invito tutti a venirmi a trovare, vi porterò 100 metri sottoterra nel momento in cui siamo fermi con le collisioni di particelle, ma io dedico anche una grossa parte della mia vita dal 2005 alla comunicazione ambientale, in particolare sono stata giornalista ospite, perché ho fatto nel frattempo anche un master in giornalismo scientifico, sempre a Trieste, alla Sissa, mentre lavoravo al CERN, sono stata come giornalista ospite in Antartide per due mesi, nella foto sotto mi vedete assieme a dei pinguini di Adelì, e poi da lì il mal polare mi ha colto, e organizzo io stessa spedizioni polari, nella foto sopra mi vedete in barca a vela, sono arrivata all'82esimo parallelo al nord delle Svalbard. Come diceva Marco, dopo Trieste, dopo un po' di attività come interprete con Atena, e anche con altre società in giro un po' per l'Italia e per il mondo, alla fine mi ero stancata, un po' dell'Italia, un po' della burocrazia italiana, e così quasi per gioco ho risposto a un annuncio sul Corriere della Sera, il direttore generale del CERN cercava un assistente personale, e sapevo che era Carlo Rubbia, la mia passione per la scienza esiste da quando avevo 15 anni, anzi, fino a quando avevo 6 anni, che volevo fare l'astronoma, e per cui sapevo benissimo chi era il capo, ma rispetto a quella descrizione su Corriere della Sera, io avevo soltanto le lingue in comune, le sapevo anche troppo per quel lavoro. Lui cercava un assistente di alta direzione con inglese, francese e italiano, però che avesse 35 anni, io ne avevo 26, che avesse esperienza di alta direzione, io non ne avevo assolutamente, ma quando la cacciatrice di testa mi ha intervistata a Milano, mi ha detto, guardi Rubbia ha già mandato via in 9 mesi 16 persone, tu sei quella che fa per lui, perché hai la velocità di pensiero che a lui serve, uno impaziente, uno che ha bisogno di persone rapide e veloci, e anche di persone con una cultura universitaria, che non sempre le segretarie di alta direzione hanno, e quindi secondo noi tu fai per lui. E sono capitata al CERN con lui, sono stati 4 anni e mezzo più belli della mia vita, la formazione di Trieste mi ha aiutata, perché comunque abbiamo una formazione accademica, e comunque siamo pronti a lavorare in un ambito internazionale. Questa è una immagine recente del CERN, il CERN è l'ONU della scienza, è un posto dove ci sono nazionalità di tutto il mondo, ci sono 110 nazionalità, 16.000 persone che ci lavorano, è un continuo ricambio di persone. Dopo aver finito con Rubbia, ho fatto questo master alla Sissa da lavoratrice, nel senso che venivo una settimana al mese a Trieste in treno da Ginevra, treno di notte, il treno Ginevra-Lubiana, arrivava a Ginevra giusto in tempo per le lezioni lì all'Adriaco, all'hotel Adriatico, dove c'era all'epoca la Sissa, e ho fatto questo master, sono stata ammessa all'ultimo anno, e poi nel 98, durante il congedo maternità, ho fatto la tesi. E mi ha aiutato moltissimo poi a cambiare lavoro, perché quando Rubbia ha finito di fare direttore generale, i direttori successivi erano un po' noiosi, non erano challenging come lui, e quindi sono entrata in comunicazione. E oggi mi trovo a comunicare cose che la formazione di interprete aiuta moltissimo, perché si tratta di comunicare linguaggi alla fine. Io lavoro con fisici delle particelle elementari e astrofisici per comunicare quello che è lo strumento scientifico più grande al mondo, qui vedete una vista da satellite della zona di Ginevra con la rada del lago Lemano, la linea in basso dell'aeroporto, il cerchio sta a indicare lo strumento scientifico più grande al mondo, il Large Hadron Collider. 27 chilometri di circonferenza, 100 metri sottoterra, tecnologia di frontiera per scienza di frontiera. Siamo ai limiti della conoscenza, oltre agli acceleratori di particelle, di cui il Large Hadron Collider è l'ultimo di una catena di anelli interconnessi, abbiamo bisogno di strumenti di altissima tecnologia sviluppata dagli stessi fisici, che non esiste, che non si compra da nessuna parte, che la fanno in consorzio tanti laboratori e tante università del mondo intero, come i detectors che servono a leggere le collisioni fra particelle, è un computing super avanzato. Questo consente al CERN di essere all'avanguardia anche appunto di tecnologia, tant'è vero che il World Wide Web, che oggi ci consente di navigare su internet e di fare comunicazione a distanza globale, è nato proprio al CERN, per esigenze dei fisici. Queste sono alcune immagini dei nostri detector, sono macchine gigantesche, sepolte sottoterra, super tecnologiche, e come vi dicevo ci sono 17 mila persone in giro al CERN, da 110 paesi, di cui 15 mila sono gli user, di età media 26 anni e mezzo, vengono da paesi di tutto il mondo, da paesi che addirittura non riconoscono l'un l'altro il diritto di esistere, noi abbiamo in questo momento 1200 russi e 150 ucraini, abbiamo pakistani indiani, abbiamo israeliani palestinesi, e sono persone che lavorano pacificamente in questo mondo, che è un mondo utopico, un mondo che mi ha dato tantissimo, e che vorrei diventasse davvero il modello della società umana, perché uniti dalla passione per la scienza, questi non pensano minimamente alla guerra, ai confini, alla politica, e lavorano veramente come una nazione unica, la nazione degli scienziati. Quello che comunichiamo sono cose molto difficili, molto estreme, lo standard model è la sintesi di tutto quello che si sa del mondo fatto di particelle atomiche, cioè tutto quello che conosciamo, che però poi è solo il 5% di quello che sappiamo, utilizzo tantissimo la mia formazione in terminologia, perché le cose che dobbiamo comunicare hanno terminologie anche a volte inventate, quello che vedono i fisici sono fenomeni nuovi, e spesso danno loro dei nomi a questi fenomeni, per cui lo sforzo di traduzione è quotidiano, non tra lingue, ma di linguaggi, di gergo. E quindi la formazione di interprete mi ha aiutato tantissimo in questo lavoro, e fra l'altro anche una marcia in più, rispetto a comunicatori che lavorano con me, che hanno già una laurea, un dottorato in fisica, e poi hanno fatto comunicazione, in realtà le soluzioni giuste per comunicare al pubblico quello che facciamo, le troviamo sempre noi che non siamo fisici di formazione, ma persone come me che hanno una formazione in linguistica e in interpretazione. Oltre a questo, appunto come vi dicevo, grazie al Master in giornalismo scientifico, durante le mie vacanze, tra virgolette, mi sfizio ad andare in zone estreme del pianeta. Questa è una foto appunto durante la spedizione polare, dove ho accompagnato i ricercatori italiani a fare una spedizione di due mesi in Antartide, da cui ho tratto, grazie appunto alla formazione di giornalista scientifico, quattro documentari per la Educational, tutta una serie di articoli per riviste italiane e anche quotidiane, come Tutto Scienze della Stampa o Newton. Queste sono varie foto di altre spedizioni al Polo Nord, invece. Ho documentato per il CERN lanci sulla Stazione Spaziale Internazionale di strumenti scientifici fatti al CERN, con questo è lo Shuttle Endeavour, sono stata un paio di mesi alla NASA per seguire questa comunicazione, sempre per conto del CERN. Questo è un altro documentario che ho fatto a 5.000 metri nel deserto di Atacama in Cile, l'Osservatorio Astronomico ALMA dell'ESO, European Southern Observatory, che è praticamente l'Organizzazione Europea per l'Astronomia. E questa invece è la mia ultima grande impresa, una spedizione di Citizen Science che ho organizzato io direttamente, con una barca a vela, siamo riusciti ad arrivare all'ottantaduesimo parallelo, e con una barca a vela, fra l'altro, completamente ecologica, passiva, dove abbiamo consumato 30 volte meno di quanto si consuma a casa, sia in termini di energia che in termini di elettricità, acqua, riscaldamento, eccetera, non di cibo, anzi in cibo 30 volte di più, e abbiamo visto cose straordinarie, come questa mamma orsa che si rotola sul ghiaccio, i due cuccioli calmi e tranquilli che non attaccano, ma abbiamo dovuto fare una preparazione anche di autodifesa dagli orsi, quindi utilizzare dei fucili della Prima Guerra Mondiale, molto pesanti, di 5 kg, e tutta una serie di preparazione a questi ambienti estremi. Andare in barca a vela in quelle zone è una vera sfida, quella zona blu che vedete sul plotter è praticamente una zona non cartografata, non ci sono carte nautiche oltre l'ottantesimo parallelo, è la zona al nord delle Svalbard, è molto poco cartografata, anche le carte di carta hanno dei valori sbagliati, dei valori che risalgono a 1600, degli antichi balenieri, zone molto bianche dove non c'è niente, e quindi è stata una vera e propria avventura, molto bella, in cui ci siamo trovati anche situazioni così. Quello che abbiamo fatto è comunicare scienza, ancora una volta avevo un rivelatore di raggi cosmici costruito dai ragazzi delle scuole superiori che ho fatto venire al CERN a costruire questo oggetto per rivelare radiazione cosmica che ai polli è particolarmente intensa perché il polo magnetico terrestre funge da calamita e attira queste particelle cariche che ci arrivano dal cosmo, ma di cui non si sa molto, e con questi ragazzi abbiamo fatto addirittura pubblicazioni, abbiamo fatto anche prelievi di microplastica in Artico, per la prima volta all'82esimo parallelo, abbiamo ancora il record di questi prelievi e siamo andati anche alla ricerca del dirigibile Italia. Abbiamo visto anche molta plastica sulle spiagge e ci siamo trovati in situazioni come questa, a navigare tra i ghiacci lungo il fronte glaciale più lungo dell'emisfero nord, del nostro emisfero, 200 chilometri di ghiacci continuamente in calving, si dice in inglese, cioè ghiacci che cadono continuamente con delle grosse esplosioni, sembra quasi sentire dinamite che esplode, questo mare coperto di ghiacci non è mare ghiacciato, ma sono pezzi di ghiacciaio che cadono in mare, a documentare e testimoniare il riscaldamento globale, l'inquinamento da plastica. Quindi questa è la causa che mi vede impegnata, adesso io ho ancora un po' di anni al CERN da fare, potrei andare in pensione anche fra due anni, lavorerò sempre meno al CERN e intendo lavorare sempre di più per cercare di comunicare l'importanza di salvaguardare l'ambiente e di ridurre le nostre emissioni, la nostra impronta sul pianeta. Da questa spedizione è nato un documentario, di cui vi farò vedere poi due realtà, uno per la televisione francese, per Ushuaia TV, un altro per Mediaset, lo potete trovare, si chiama Nanook, che è il nome della barca. È nato un libro, Ottantesimo Parallelo, che è uscito quest'anno, nell'aprile di quest'anno, con Salani, che racconta questa avventura tra scienze e ghiacci. Quindi adesso io, se la regia vuole, possiamo far vedere il trailer del documentario di Ushuaia TV. Tutto questo lo devo a Trieste, che mi ha dato, soprattutto come ragazza che veniva dal sud, la possibilità di sentirmi libera, libera di seguire i miei sogni, di seguire i miei desideri. E la scuola interna mi ha dato una formazione così polivalente che mi ha dato la possibilità di riuscire a realizzare tutto questo. E oggi, diciamo, prossima, per ricordate, la petizione d'Alcerno, io mi ha presto a fare queste, a più c'è le limite, ma è anche un equipaggio che fa della scienza a bord. L'Expedizione di Nobile è un'aspirazione per noi, soprattutto dal punto di vista scientifico, perché questo fu il primo laboratorio scientifico volante al pò. L'Expedizione di Nobile è un po' e quindi, vediamo, quindi, lo conosce, lo sa che c'è un viraggio a prendere, e lo voglio prendere. Ecco, questa è la mia testimonianza. Mi sarebbe piaciuta essere lì, però vi invito tutti a venermi a trovare a Ginevra. Vi vedo, ma non vi sento. Grazie dell'applauso, anche se non lo sento. Braula, grazie a te. Ecco, mi sento, Marco. Grazie a te. Senti, solo un'osservazione di passaggio. C'è un posto per i nostri studenti, i nostri traduttori, interpreti, e soprattutto comunicatori al CERN. Assolutamente sì, noi campiamo di internship, e quindi non abbiamo tante posizioni aperte, ma tante internship sono possibili. Finché sono iscritti a un qualsiasi corso, di qualsiasi tipo, io li posso far venire da me, da uno a sei mesi, senza problemi. Ok, ti prendiamo in parola. Grazie. Assolutamente sì. Ciao, Paola. Ciao, ciao, buona continuazione. Ciao a tutti. Bene, passiamo al secondo relatore di questa sessione, Luca Dini, laureato in interpretazione, classe la mia. 1983. Quindi diciamo, festeggiamo i 40 anni dalla mia immatricolazione. Ha fatto una carriera abbastanza atipica, perché direi poco dopo la laurea ha sentito il richiamo del giornalismo, che l'ha portato per alcuni anni anche negli Stati Uniti, poi è rientrato in Italia, è stato per parecchi anni direttore editoriale di Vanity Fair, da tre anni al gruppo Cairo, dove dirige due riviste, F e Natural Style. L'abbiamo voluto qui, anche perché ci siamo ricordati in diversi di un suo editoriale molto divertente dal titolo come non sono diventato interprete. E quindi grazie di aver accettato. Vorrei aggiungere solo ancora una nota, che non è un aneddoto degli anni dell'università, ma una cosa che così ho visto quest'estate, diciamo in questo anno, direi, orribile per la violenza contro le donne, nelle sue varie forme, Luca è stato l'iniziatore di una campagna Io non sono carne. Grazie, grazie. Grazie a te. A te la parola. Allora, prima si parlava di sogni, si devono avere i sogni o no. Io penso che i sogni vadano educati, nel senso che bisogna capire quando un sogno è realizzabile nell'immediato, o rimandarlo se non è praticabile adesso, e soprattutto invece riconoscere i sogni che non ci aspettiamo, che ci passano davanti e prenderli un po' al volo. La cosa più difficile è riconoscerli. Io sono un figlio dell'Appennino, sono nato con un sogno che era il giornalismo e che però ho rimandato perché non sapevo realmente neanche a quale bossa porto andare a bussare, non vedevo una possibilità e oltre a quel sogno avevo una passione sfrenata per le lingue e ho seguito quella. Quando hai proprio il piacere, qui dentro mi capiscono tutti, cioè la prima volta che sei in un paese straniero e riesci a comunicare bene e gli altri apprezzano la tua capacità di inserirti in un'altra cultura, in un'altra mente, è un piacere gigantesco per chi ha questa passione. E io mi sentivo un po' a marziano, la cosa più bella dell'arrivo a Trieste è stata vedere che c'era una tribù di marziani come me. È stata forse la scoperta, questa città è molto dura, 40 anni fa era un po' il capolinea del mondo, non era come adesso, però splendida, è la seconda città, è la città che ho amato di più insieme a un'altra che non è Milano, anche se amo Milano. E soprattutto questo, devo dire, come dicevo prima Marella, che ringrazio per avermi invitato, la forza vera di questa scuola è l'autoselezione, cioè qui arriva già un gruppo di pazzi, fondamentalmente perché questo siamo tutti, che si ritrovano, e non è scontato, perché soprattutto per chi viene dalla provincia come me, a volte il pazzo più vicino è a 50 km di distanza. Ritrovarsi tutti qui ti fa sentire parte di un gruppo, peraltro ti apre la mente in modo spaventoso, quando non si parlava di inclusione e di diversità qui c'era, io ho vissuto insieme a chiunque, ho superato tutti i pregiudizi, è stata una scuola di vita prima di tutto. La città è una città dura che ti dà tanto e ti richiede tanto, però ti lascia dentro tantissimo. La scuola in Via d'Alviano succedevano cose da codice penale, a pensarci oggi, però in cambio abbiamo avuto tanto e io ho capito dopo poi realmente quello che mi è servito nella mia vita, nel mio lavoro. Se penso per esempio alle traduzioni a vista di Clyde Snelling, quella cura della parola ossessiva, cioè meglio una parola di meno che è una parola di più, scegliere con accuratezza le parole. Io ancora oggi mi arrabbio quando un collega scrive problematica invece che problema, perché quelle quattro lettere in più non aggiungono niente. E quella scelta ossessiva delle parole e la cura proprio del linguaggio è una cosa che mi sono trovato tantissimo. Anche io sono uno che nelle mie interviste continuo a usare i simboli della consecutiva, che è fantastico perché quando tu intervisti uno straniero non devi fare la traduzione, cioè leggi gli appunti e ce l'hai già in italiano. Registro sempre, ma la registrazione la uso per sciogliere i dubbi. Quel codice è fantastico, è un'invenzione spettacolare. E altra cosa che all'epoca consideravo, cioè io ho avuto spesso il complesso di aver studiato una cosa che non era una competenza tecnica specifica, cioè quello che ha fatto fisica. Come giustamente diceva Paola, è meglio avvicinarsi ai vari mondi sempre con un approccio dell'outsider, di quello che un po' dice io che cavolo ci faccio qui, perché non c'entro niente, non so quello di cui, non so veramente quello di cui stai parlando. Però è un approccio che va abbracciato e tutelato, perché è quello che ci permette di comunicare con quelli che come noi non sono tecnici della materia. E noi serviamo, mi è piaciuto molto quello che diceva prima Alessandro Cattelan sul fatto che arrivati a un certo punto gli ingegneri non servono a niente. Perché gli ingegneri sanno parlare tra di loro. La possibilità di sapere che cos'è la comunicazione, che è una cosa che noi diamo per scontata, perché ce l'abbiamo, è in realtà una dote preziosa che non appartiene a tutti. Io ai ragazzi e agli studenti vorrei dire soprattutto questo. Sappiate che sapete parlare e ascoltare gli altri in un modo che gli altri, molti altri, non hanno. Non lo dimenticate mai, perché è una cosa che serve dappertutto. Cioè nel mio lavoro a me è servito tantissimo, appunto, anche per approcciarmi in modo superficiale, e uso superficiale nel senso più nobile del termine, a discipline che non erano tecnicamente mie. Cioè lo studiare, riuscire, anche a volte con tre, quattro giorni di preparazione, a inserirsi in un contesto dove non fai brutta figura. E soprattutto sai raccontare quello, sai raccontare una nuova frontiera della medicina, sai parlare di cose che non sono scontate. E viene solo questo, soltanto da questa attitudine a mettersi nei panni dell'altro, ad ascoltare l'altro, a mettersi anche nelle scarpe un po' dell'altro. E questo per me è stato fondamentale. Però dicevo, appunto, i sogni quelli che passano avanti e che non sai di avere. Io mi sono laureato molto felicemente e posso dire che di tante sliding doors, io credo molto a questa cosa delle sliding doors, Trieste è stata sicuramente la prima e più gigantesca di tutte. Non voglio dire che se non avessi preso quella, cioè, a me piace pensare, come dice Michela Murgia, che potevo essere felice anche in un altro modo. Però questa è stata la mia sliding door e non lo sapevo ancora. Sono uscito da qui, ho provato a fare l'interprete, mi piaceva, amavo di più la consecutiva perché sono un po' perfezionista, per me la simultanea mi metteva ansia, anche se avevo una dote che, cioè, la gran mi aveva detto che io avevo la capacità di implodere dentro senza farlo vedere. Un pochino è vero. Anche la gran, chi ha detto prima che non esistono altri interpreti zen, no, Laura Gran era super zen, è super zen. Vi dicevo, sono uscito da qui, ho cominciato, ho fatto un po' di traduzione, ho fatto un po' di interpretazione e poi anche io, come Paolo, ho visto un annuncio sul Clare della Sera, ero nella mensa, nel bar della mensa della caserma dove stavo facendo il servizio militare, vedo questo bando nella scuola di giornalismo del Corriere della Sera e un po' con quella incoscienza e in quei momenti quando non sai bene che cosa farai e dici, vabbè, inganno ancora il tempo per qualche mese, provo questa, vediamo. E quindi arrivo a Milano, anche lì, selezione, tutto complicato, slide in dosa anche lì perché? Perché per esempio, a Milano prendono soltanto quelli che semplicemente ammettono all'ammissione solo quelli che hanno 60 e 110. Per dire, sarebbe bastato, scusate, uno stronzo che mi toglieva un punto e non l'avrei potuto fare. Quindi, io sono molto consapevole della fortuna perché ci vuole tantissima fortuna. Sono entrato a questa scuola di giornalismo, io chiaramente venivo da Trieste, ero convinto che avrei voluto scrivere tutti i giorni di Nagorno-Karabakh per il Corriere della Sera e invece mi arriva un'offerta da settimanale oggi che non era un giornale che mi apparteneva realmente ma ho detto vabbè, proviamo e sono arrivato lì di nuovo ho capito che non avevo capito niente che in realtà raccontare le storie delle persone vere mi piaceva molto di più e lì ho capito che a Trieste avevo il mio interesse per gli strani, i matti, eccetera, era nato qui che mi piaceva questa cosa e ho recuperato il gusto della parola quella cosa che mi aveva veramente inculcato non dico a schiaffi perché a quello non arrivava ma Snelling e poi ho capito un'altra cosa ancora che mi veniva proprio da quella cura della parola che scrivere mi piaceva ma mi piaceva ancora di più riscrivere cioè aiutare a migliorare i testi di chi scriveva meglio di me e sentirsi ringraziare da uno da un Alessandro Baricco perché gli corregge una cosa è una soddisfazione gigantesca cioè capire che non hai bisogno di essere il più bravo però l'editing è un altro lavoro ancora e anche quello l'ho imparato qui e niente dopo sono se non avessi avuto la porta scorda di Trieste non sarebbe mai successo che dopo solo tre anni di gaveta il direttore ha andato via il corrispondente da New York pensasse che io io mi sono mi sono proposto sfacciatamente dicendo che conoscevo benissimo gli Stati Uniti dove non avevo mai messo piede il mio inglese era totalmente britannico nasceva da la sete dell'inglese io quando avevo tipo 14 anni ho fermato una una famiglia di turisti gli ho detto voglio parlare inglese sono diventati la mia seconda famiglia ancora oggi però ecco il mio inglese era quello lì quindi il primo mese a New York è stato uno shock culturale attaccato alla tv a cercare di capire e poi ci ho passato sette anni forse fra i più belli della mia vita e non sarebbe mai successo se non fosse stato per Trieste se non fosse stato per Trieste non sarei andato in New York non avrei oggi un figlio che si è laureato là e vive là si è sposato là un altro che ha il passaporto americano ma non perché insomma mi ha cambiato la vita anche grazie alla lungimiranza di una moglie che non a caso viene dalla scuola di Trieste laureata anche lei qui che ha capito che valeva la pena tentare di cambiare vita con un bambino che aveva un anno quindi siamo andati e siamo stati benissimo e senza quell'esperienza nuova porta scorrevole non mi sarebbe arrivata l'offerta di Vanity Fair non sarei diventato direttore di Vanity Fair e oggi non sarei qui credo quindi che cosa vi devo dire semplicemente quello che cioè vorrei dire a questi ragazzi la capacità di mettersi nei panni degli altri di ascoltare e capire veramente chi è davanti cosa che io avrei voluto molte volte vedere nei colloqui di lavoro ho visto delle risorse umane disastrose gente che non capiva quale gigantesca sola stavano per prendere perché non avevano questa capacità di leggere gli altri che invece voi avete che tutti abbiamo credo e questa cosa fatene tesoro perché e non pensate oggi vi è stato detto che ci sono possibilità a Bruxelles ci sono possibilità ovunque ma io credo che andiamo verso un mondo dove il cosiddetto soft factor cioè il fattore umano la capacità di capire di comunicare diventano sempre più importanti dell'aspetto tecnologico quindi credeteci grazie applausi applausi grazie grazie allora allora lasceremo in loop questi bozzetti a cui poi straordinariamente ha fatto riferimento stamattina Lidia Meak, delle vignette che hanno accompagnato i nostri anni, la nostra permanenza a scuola interpreti, fini anni 70, primi anni 80, era una specie di commento giorno dopo giorno della attualità. Ve li lascio in sottofondo e lascio la parola soprattutto a Diego Marani che non ha bisogno di presentazione. Per una volta che volevo essere serio mi avete già guastato tutto, siccome però sono molto timido, io oggi mi sono preparato qualcosa di scritto, una riflessione che vorrei sottoporvi. È difficile raccontare in poche battute quello che ha significato per me studiare in questa scuola e dove questi studi mi hanno portato nella vita. Troverete più esaurienti spiegazioni nei miei libri, ma qui voglio dirvi qualcosa che non ho mai detto né scritto. Una rivelazione che ho ricevuto da un vecchio professore e caro amico prima che ci lasciasse. Juan Octavio Prentz io lo incontravo qualche volta quando venivo a Trieste per un caffè o per una chiacchierata. C'era fra noi la stima e la riservatezza complice che si instaura fra due persone affini e da parte mia la riconoscenza nei confronti di un professore che aveva visto e saputo stimolare le mie doti di scrittore fin dall'inizio, fin da quando scrivevo poesie nella sede della scuola interpreti di Via Caprin alla sera alle otto, per intenderci. L'ultima volta che lo incontrai, Octavio Prentz volle farmi una confidenza sul mio tempo qui alla scuola. Non annunciata, quasi brutale, più o meno suonò così. Perché vedi Diego, io e qualche altro professore, ci eravamo accorti che tu con questi studi non c'entravi niente, che la scuola interpreti non era la facoltà per te, che tu eri altro, chissà cosa altro, non sapevamo. Però ci siamo poi chiesti, ma qual è la facoltà giusta per Diego Marani? Quali sono gli studi adatti a lui? Nessuno, Diego Marani non è adatto a niente. Quindi, tanto vale che resti qui con noi, che gli vogliamo bene. La sua strada la troverà. Ecco, questa battuta, profondamente nello spirito di Octavio Prentz, dice anche tutto quel che c'è da dire su questa scuola. Io qui ho certo imparato un paio di lingue, o forse mi sono rassegnato l'idea che non le avrei mai sapute. Ho imparato la tecnica di una professione difficile e affascinante, che ho amato, ma che ho praticato solo brevemente. Ma la cosa più importante che ho imparato qui, senza accorgermene, è la capacità di adattarmi, di improvvisare, di cercare soluzioni, di inventare nuove vie. Ho imparato il rigore dell'esercizio, l'importanza del parlare chiaro, l'arricchimento del lavoro di gruppo, la relazione con gli altri. Ho assaggiato la varietà di pensiero che si sprigionava dalle diverse lingue che studiavo. Ho assorbito l'entusiasmo per l'Europa che scaturiva dalle consecutive fatte sui discorsi degli europarlamentari. Ho imparato qualcosa anche con le mie distrazioni di studente, perché quando disegnavo le caricature che affiggevo in bacheca, imparavo a comunicare, a mediare, a criticare senza ferire, a usare l'ironia che poi tanta parte ha avuto nella mia scrittura e nella mia vita. Ci sono, è vero, anche cose che qui non ho imparato, ma che proprio perché non le ho imparate fanno ancora più pienamente parte di me. Sono quei monumenti di ignoranza che mi proteggono e mi fanno essere più pienamente quel che sono. Per esempio, malgrado la dedizione e gli eroici sforzi del professor Snelling non ho mai imparato l'inglese e neppure ho imparato lo Svaili, malgrado il professor Crevatin avesse riempito la biblioteca di dizionari e manuali di lingue africane. Sono riuscito a dirlo finalmente dopo 40 anni. Ma da tutto questo disordinato miscuglio di cose imparate e mancate ho poi con ugual disordine distillato quello che sono diventato, dando piena ragione alla premonizione del professor Prentz che uno studio adatto a me non esisteva e che quindi uno valeva l'altro. Ma questo, in fondo, è vero per ciascuno di noi. Non c'è studio o carriera azzeccata. Quel che fa la differenza è l'entusiasmo, la voglia di crescere e di migliorare il mondo in cui si vive, il rispetto, la stima, l'impegno e soprattutto la fiducia. La fiducia sconfinata che si deve sempre dare ai giovani. La fiducia. Questo è il più grande dono che io ho ricevuto qui e di cui sarò sempre grato a questa facoltà e ai professori che vi ho incontrato. Grazie. Chiudiamo questa bellissima sessione con Laila. Vi confesserò, ti confesserò Laila che dopo circa quei 35 anni che ci conosciamo ma non ci siamo mai chiamate per cognome mi sono chiesta la chiamo Laila Vadia o la chiamo Laila Guodia. Avevo in mente di chiedertelo ma non l'ho fatto. Vanno bene entrambi? Vanno bene entrambi? Va bene entrambi. Anzi qualche volta in ristorante e non trovo mai il mio tavolo perché dicono che c'è una festa per Adia e c'è scritto Viva Adia! Perfetto. Beh insomma Laila appunto è un'amica è stata per tanti anni nostra collega e poi ha deciso anche lei di dedicarsi ad Altro che Altro che già insomma curava in precedenza ma diciamo ha deciso di ricavare più tempo per le sue passioni quindi ha portato avanti la scrittura ricordo solo un paio di titoli Amiche per la pelle come diventare italiano in 24 ore l'attività anche di curatela è uscito da poco un volume di racconti di scrittura su Trieste Trieste è uno sguardo in team verso credo porti avanti la passione per l'insegnamento della lingua inglese in altre forme l'attività di editor eccetera 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 è sempre attenta a tematiche inter multi cross culturali e siamo felici di averla qui anche oggi grazie e devo dire grazie alla scuola interpreti per tante cose e devo dire grazie a Trieste per tantissime cose infatti quest'ultimo libro si chiama Trieste in team verso ci sono due figlie di Prince dentro e che sono diventate scrittrici in team verso perché ognuno deve trovare come diceva Saba il suo cantuccio in questa città e quando trovi il tuo cantuccio e te lo fai tuo forse lo capisci questa città controversa con le mani troppo grandi per regalare un fiore e quindi io sono arrivata e mi darai il tempo perché sono logoroica io ecco io volevo se il tempo ci permette usare tre parole perché appunto anche questo abbiamo imparato a prendere gli appunti i keywords le parole chiavi e vorrei parlare mi sembra un po' una coppia a carbone del tuo discorso quindi non lo so cioè comunque veggenza resilienza e responsabilità barra fiducia e veggenza e in uno dei libri suoi Diego Marani esordisce dicendo che la scuola interpreti non è una scuola ma è un lager vero? ecco e per me è stato quando ho letto questo libro mi sono innamorato della sua scrittura ovviamente per me anche è stato una scuola è stato come fare il bootcamp il militare con il maresciallo Marinucci e tanti altri professori il maresciallo Marinucci che adesso io vi farò anche un quiz e questo equivale o un arrivederci ci vediamo al prossimo appello o un 30 qual è la differenza tra pesca e pesca dopo vi interrogerà lui comunque io sono arrivata in questo paese per sbaglio e sliding doors ovviamente e non sapevo una parola d'italiano anzi ne sapevo tre perché c'era una signora italiana nel nostro compound che portava in giro un cane e a questo cane gli diceva sempre ma scalzone farà butto buona nulla e io sono arrivata in italia con queste tre parole in tasca non so come c'è stata una storia molto lunga incluso le suore che hanno pregato per me in un treno da venezia a trieste e sono arrivata alla scuola interpreti non so come è successo e mi hanno detto che parlavo come un cane e io ero felicissima e li guardavo e gli dicevo ma come lo sapete e questi ovviamente si arrabbiavano e dicevano ma fai l'indiana e io di nuovo meravigliata ma gli italiani sono tutti veggenti però veramente io trovo questa parola di veggenza e lungimiranza molto importante e fa la differenza tra un maestro e una maestra e una persona che insegna io ho avuto la fortuna di incontrare tante persone che hanno avuto che hanno voluto come diceva Diego no e vedere al di là cioè di cosa uno studente quali erano le sue possibilità dove lo vedevano tra vent'anni che c'era qualcosa in questa persona che ti permetteva di accedere o non accedere allo scuolo interpreti e io penso che questo sia estremamente importante io ho avuto la fortuna allo scuolo interpreti di avere avuto maestri e maestre persone veramente che hanno questa capacità di guardare e questa lungimiranza e tanti di questi pilastri sono qua non li voglio nominare perché fare torto a qualcun altro ho incontrato anche delle pessime persone diciamolo insomma è giusto che sia anche così io mi ricordo una persona che insomma insegnava e l'esame suo consisteva solamente in nozioni perché non sapeva insegnare e ci ha fatto imparare l'esame consisteva in imparare tutti i ministri di tutti i governi italiani dalla repubblica con i vari incarichi questo era l'esame io sono stata bocciata tante volte in questo esame perché ho una memoria pessima alla fine mi sono appellato a un maestro della scuola e ho detto questa questa cosa sta succedendo e lui mi ha detto ma sei scema ma non hai capito niente e fa devi essere resiliente ecco e non capivo cosa voleva dire questa resilienza fa tu devi andare lì con una faccia da bronzo e rispondergli e infatti fa e io vero con te questo è un maestro è venuto con me abbiamo risposto a questa persona e questa persona a un certo punto ho cominciato a sparare stupidaggini mai viste a un certo punto mi ha chiesto un ministro non mi ricordo io ho detto Anna Magnani non mi stava ascoltando voleva solo mettermi alla prova per vedere sotto stress come reagisci e io a questa persona come ai maestri sono molto grata sono molto grata perché pensava che una della mia razza che poi mi è stato detto non avrebbe mai imparato la sua lingua io appartengo a una razza e sono molto fiera di appartenere a questa razza ed è la razza dei testardi e quindi alla fine abbiamo capito che questo voleva solo metterci alla prova per vedere la resilienza ma sono grata perché la vita ti mette davanti ai problemi e devi saperli affrontare la scuola alla fine cioè a 50 anni ho imparato che l'università non ti insegna dati ti insegna un metodo e qui questo metodo che mi è stato insegnato lo puoi usare lo puoi spendere in qualsiasi professione questo rigore pesca pesca e il rigore io mi ricordo sempre queste parole di queste persone che hanno detto non ci voglia non possiamo avere la sciatteria infatti penso che il plus valore della nostra scuola e di tutti gli studenti che sono usciti è proprio questo rigore nel scientifico in quello che fa l'ultima parola che volevo di cui volevo parlare è la parola fiducia e responsabilità io sono venuta qua studentessa mediocre insomma mi interessava non mi interessava mi interessava tante altre cose un giorno vengo chiamata dalla commissione del riesame per le pratiche di rifugiati incontro questo giovane afgano disperato e non capisco perché e fa la sua domanda di status di rifugiato è stato respinto e lui in lacrime fa ma in che paese sono capitato ma che gente siete e io che è successo mi è stato respinto è stato respinto perché non trovavano una persona che parlasse la sua lingua hanno chiamato il primo disponibile da un ristorante indiano a tradurre in italiano questa cosa e praticamente la traduzione è stata che la moglie di questo signore andava a letto con i talebani questo signore la moglie di questo signore è stata violentata da un gruppo di talebani davanti ai suoi occhi vi potete immaginare la disperazione di quel uomo e quel giorno ho capito l'importanza del nostro lavoro cioè veramente la fiducia e la responsabilità che abbiamo verso la società verso il mondo io voglio solo concludere con le parole di una scrittrice che ammiro molto che è Margaret Atwood e lei dice le guerre succedono perché le parole falliscono e io penso che noi non siamo interpreti non siamo traduttori noi siamo veramente portatori di pace abbiamo qualche minuto per un dibattito se c'è qualcuno che vuole intervenire domanda commento facciamo circolare qualche radio microfono proporrei un applauso ai nostri studenti che si sono presentati volontariamente e sottolineo volontariamente a questa a questa corvè c'è qualcuno che vuole fare una domanda un commento a proposito di questa ultima sessione ma anche a proposito di quelle di stamattina o a proposito di quelle che avete vissuto 40 anni fa o 30 anni fa ecco nessuno vuole dire nulla nessuna domanda ecco sono Elisabetta e anno 81 volevo ringraziarvi e volevo dire ai giovani io mi occupo di risorse umane quindi ho fatto un percorso completamente diverso che queste competenze che sono state citate in questi giorni soprattutto la disciplina e il rigore che abbiamo imparato in questa scuola sono fondamentali e come ha detto anche Dini o Mariani la scuola è stato anche un lager per me io ho fatto tedesco e una volta tedesco e da lì con certe scene veramente da film però quelle le ho dimenticate mi sono rimasti i momenti di grandissima intelligenza delle persone che sono state citate anche adesso dei professori prens che ricordiamo tutti e imparate che veramente la disciplina è stato un insegnamento vissuto col sangue ma utilissimo tutto il resto le lingue sappiamo a cosa servono quindi vivere fuori anche se uno non fa il mestiere del traduttore o dell'interprete grazie per tutti voi buonasera intanto vi dico subito che credo che sono la più vecchia qua dentro dal momento che l'idea mea che non c'è più nel senso che è andata via stamattina io questa mattina non c'ero quindi diciamo ho preso il testimone e intanto complimenti a tutti è stato bellissimo rivedere tanti visi tante persone che di il tuo nome Ada Ada Scrignari Prelazzi forse conosciuta più come Prelazzi ok e quindi complimenti tantissimi a tutti mi sono veramente ritrovata in molte considerazioni come quelle della Rosanna Bolognin della Spangaro insomma veramente tutti e credo che tutti hanno sottolineato una cosa anche che io ho sempre sentito cioè il tipo di formazione che questa scuola da quando l'ho fatta io però è rimasto questo spirito anche nel tempo e soprattutto perché dà tutti i vari contributi insomma anche di persone che dopo aver fatto la scuola si sono anche incamminati in strade diverse non necessariamente quella dell'interpretazione come ho fatto invece io perché è un messaggio di speranza tante volte purtroppo trovandosi così tra colleghi si tende con le nuove tecnologie col fatto che le lingue sono sempre più conosciute ci sono convegni che ormai vengono fatti solamente in inglese anni fa era impensabile e allora si ha un senso di scoraggiamento nei confronti soprattutto dei giovani si dice ma insomma la nostra è una professione destinata a scomparire invece da tutti i contributi che ho sentito qui ho sentito fiducia ecco proprio fiducia nel futuro fiducia in quello che la scuola riesce ancora a dare e al fatto che i giovani che la frequentano avranno comunque davanti a sé molte possibilità ecco grazie a tutti salve ho pochissimo da aggiungere perché tante cose sono già state dette però ascoltando anche molti delle osservazioni fatte oggi nome e cognome scusi sono Fabio Morassutti Fabio Morassutti una cosa che veramente mi ha fatto pensare un po' è questa che un grande beneficio di questo tipo di studio di quello che abbiamo fatto qui è la forma è una se vogliamo una costruzione di una forma di intelligenza e dico intelligenza volutamente che molto spesso in altri campi manca io credo che ognuno di noi che lavora che ha fatto l'interprete eccetera si sia trovato mille volte a lavorare in situazioni in convegni dove ci sono magari persone che nel loro campo sono tra i migliori al mondo ma ti rendi conto che non riescono a capire per esempio quello che tu gli dici non riescono assolutamente a metterti nei tuoi panni quando tu fai a loro una richiesta questa secondo me è forse la cosa che noi chi ha studiato qui e quindi chi ha imparato a pensare a come far capire a un'altra persona in modo diverso il concetto che uno ha espresso in un modo che non sarebbe comprensibile con una traduzione letterale questo significa imparare a mettersi nella testa degli altri e quindi capire tante cose capire che cosa ti dicono gli altri e alla fine l'intelligenza è quello in primo luogo no? no? applausi ancora? questo giovane qui in prima fila allora buongiorno buonasera a tutti io sono michelangelo andolfo e ho studiato qui nell'anno 76 quindi l'anno in cui sono entrato era il 1976 e voglio innanzitutto complimentarmi per l'organizzazione e per la giornata che ho vissuto finora e questa sera andremo a festeggiare ancora ma voglio esprimere commozione perché io ho avuto più volte le lacrime oggi e complimentarmi per i magnifici discorsi che ho ascoltato eccetera eccetera senza fare i nomi perché sono uno più belli degli altri in tutte le sessioni volevo semplicemente intervenire per fare una sintesi io sono andato a vivere a Milano nell'81 quando ho finito questa scuola e ho avuto la fortuna di essere stato cooptato da un signore che si chiamava Brian Fleming che era il direttore didattico della nascente scuola civica per traduttori e interpreti di Milano sono stato come dire assunto in quella istituzione che è nata con un piccolo nucleo di docenti la maggioranza veniva dalla scuola privata che era collocata in via Silvio Pellico si chiamava la scuola Silvio Pellico una scuola nata negli anni 50 fondata da Maria Grazia Riondino che poi è diventata la titolare dell'MGR la più grande agenzia di Milano per traduttori e interpreti allora c'è un appiscio cosa volevo dire volevo dire che quando sono arrivato a Milano ho dovuto lottare per far passare una cosa la sintesi che volevo fare è questo è stato detto da tutti chi l'ha chiamato intelligenza chi l'ha chiamato qualcos'altro io lo voglio chiamare formamentis e individuo un fattore e per questo cito l'esempio personale di quando sono arrivato a Milano io ho insegnato lì per 38 anni fino al 18 io quando sono arrivato in quella scuola ho cercato di portare alcuni che erano quelli che ritenevo i fattori che avevo acquisito qui come formamentis e ne cito uno per tutti noi abbiamo fatto gli esami di ammissione e tutti gli esami di traduzione senza l'uso del dizionario questa è una cosa che io una cosa in cui credevo fermamente perché faceva parte della formamentis che abbiamo acquisito ed era una specificità di questa istituzione ho perso la battaglia non è passata questa cosa infatti in quella scuola si usa il dizionario come oggi usano l'intelligenza artificiale usano di pelle per fare le traduzioni e le versioni allora tutto è stato detto e io volevo solo aggiungere questo è un piccolo fattore che è sempre piccolo e banale ma che banale non era potrei citare Clyde Snelling che ci ha dato quell'impronta che tutti conosciamo ed è stato più volte citato potrei citare altri fattori volevo citare questo che finora non avevo sentito l'uso no? cioè la traduzione senza il dizionario bilingue imposta la mente ad andare in una certa direzione e questa è una cosa unica di questa istituzione a me non è la mia esperienza non credo che ce ne siano altre esperienze analoghe ancora qualche qualcun altro che vuole intervenire direi che possiamo forse chiudere qua chiudere in bellezza ma direi che la bellezza ha caratterizzato tutta la giornata appunto tante belle facce ma soprattutto delle belle persone spero che questo sia il messaggio che abbiamo trasmesso ai ragazzi e ai giovani che ci hanno seguito un messaggio quindi improntato al rigore e alla disciplina prima di tutto non posso fare a meno di guardare a Marcello Marinucci che per decenni ci ha insegnato il rigore e alla disciplina però il rigore e alla disciplina sì ma c'è bisogno di qualche cosa c'è bisogno di una scintilla aiutati che Dio ti aiuta cioè c'è bisogno di qualche cosa di più di personale che ci dobbiamo mettere ci dobbiamo mettere noi e si è parlato qua giustamente di comunicazione non è un caso che non si chiami più scuola interpreti ma il triennio si chiama comunicazione interlinguistica applicata comunicazione è la parola chiave prima comunicatori esperti della comunicazione poi diventiamo anche traduttori e interpreti quindi questa la scintilla è questa il nostro che ci dobbiamo mettere secondo me evidentemente è la curiosità una caratteristica che ci ha accompagnato e che immagino accompagnerà le nuove generazioni sempre la curiosità di saperne di più perché quando abbiamo a che fare con le lingue è un compito infinito non si smette mai sia che uno decide di impararne una nuova sia che uno decide di fermarsi con le due che conosce quindi grazie ancora a tutti della vostra partecipazione è stato bello e speriamo di rivederci presto non dico fra quanto tempo buon proseguimento a voi posso dire scusate ancora ancora una cosa perché in questa parte si è insistito molto sul rigore sulla disciplina sul senso di responsabilità sul senso di dovere però io voglio ricordare anche che noi ci siamo divertiti moltissimo posso ricordare così a titolo di esempio una caccia al tesoro c'era anche tu in cui veramente ci siamo giocati qualsiasi reputazione e questo era solo insomma un episodio e quindi io spero è difficile avere il polso della vita extra via filzi delle generazioni attuali ma io spero che ci sia tuttora anche questa grandissima voglia di divertirsi buona serata a tutti a proposito prima che andiate via prima che andiate via beh l'augurio è che ci possiamo rivedere tra 70 mesi magari non 70 anni allora voglio che vi chiedo di fare un applauso per i studenti che ci hanno aiutato che sono stati fondamentali poi mi ero ripromesso scusate oggi vengo fuori come quello delle note emotive mi ero ripromesso di ricordare un'altra persona che abbiamo ricordato e che alcuni di voi conoscevano Salvatore Pippa Salvatore Pippa che molti di noi hanno conosciuto e che ci ha accompagnato da studente e da collega da collega professionista e anche da docente ultima nota anzi ultime due note vi ricordo che l'appuntamento è al teatro Miela se non sapete dov'è cercatelo su Google Maps a partire dalle 20 saremo intransigenti nel regolare il flusso d'entrata tra le 20 e le 21 e 30 nel senso che c'è un buffet e facciamo privilegiamo le persone che si sono iscritte alla giornata per questo buffet per l'inizio del concerto nella seconda parte della serata porte aperte per tutti e consentiamo a tutti di venire a unirsi a noi alle danze ultimissima cosa poi vi lascio per favore tenete d'occhio il sito web che abbiamo allestito sui 70 anni qualcuno di voi durante la giornata ci ha chiesto se quelle bellissime felpe vistosissime potrebbero essere in vendita e contiamo di metterle in vendita o in qualche modo di mettervele a disposizione lo faremo attraverso il sito che abbiamo già allestito e attraverso quel sito cosa importantissima cosa che stupidamente io non ho pensato di far sì dall'inizio vogliamo anche raccogliere i vostri contatti per avere un elenco delle persone che sono venute qua oggi e delle persone che si vogliono unire agli alumni della scuola interpreti e per potervi comunicare in maniera più adeguata iniziative future del genere di quella messa in piedi oggi grazie a tutti arrivederci stasera arrivai a trieste la prima volta una luminosa mattina d'ottobre dopo un lungo viaggio nel grigiore della pianura il treno era sbucato di colpo fuori dalla nebbia e sotto di noi era comparso il mare lucicava immobile traversato nella lontananza dalla sagoma fumosa di qualche nave trieste trieste è sempre stata luogo di incontro di lingue e culture diverse la città di Joyce Svevo Saba con i suoi caffè letterari oggi trieste è una città che ospita studenti e ricercatori da tutto il mondo ed eventi internazionali questa è la prima scuola per interpreti e traduttori in Italia aperta nel 1953 qui potrò studiare tre lingue con professori di madrelingua straniera buon giorno buon giorno buon giorno buon giorno buon giorno ebbene buon giorno mi chiamo Pascal Janot e benvenuti benvenuti a questo cours di traduzione dell'italiano verso il francese l'80% degli studenti e delle studentesse della scuola proviene da fuori regione e crea un ambiente ricco e stimolante come tu sai dentro di nostra vocazione internazionali abbiamo diverse possibilità di intercambio la prima sono le due titolazioni due titolazioni con paesi come Alemania come Slovenia come Bélicia e anche di questo i programi di intercambio Erasmus scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste il mio punto di partenza